Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Tamerlano, di Franco Cardini. Regia, di Vittorio Attamante. Il tempo e l'uomo di cui vogliamo occuparci sono un tempo e un uomo ormai quasi leggendari nella tradizione storica e culturale dell'Europa, solo che sono tempi e uomini, non solo il grande protagonista ma anche altri, bisognosi di molte precisazioni, perché la conoscenza che noi ne abbiamo è ormai quasi leggendaria, si può dire. Avvolta in una spessa coltre di nubi dalle quali emergono miti, false storie, dicerie, spezzoni di memorie, anche di vecchie, chissà, magari di vecchi libri o di vecchi film. Se qualcuno di voi si ricorderà la Giovanna d'Arco di Fleming, per esempio, splendidamente interpretata da Ygil Bergman, che poi ripete l'esperienza di Giovanna d'Arco appunto con Rossellini, con il suo leggendario compagno. Quando io parlo e quando noi parliamo di guerra dei cento anni, forse a molti di noi, almeno a quelli non più giovanissimi, verranno appunto in mente i fotogrammi di quel film che ai suoi tempi ci incantò appunto a noi non più giovanissimi, non solo per l'immagine di Ygil Bergman, ma anche per i colori. Era uno dei primi colossal che arrivavano nella nostra disastrata Italia postbellica. Parliamo dunque di quel tempo che è la fine del Medioevo. Medioevo è un'età convenzionale, la usiamo tanto così per mettersi d'accordo su un certo periodo storico. In realtà il termine Medioevo è un termine che ci siamo inventati alla fine del Trecento e che ci continuiamo a portare dietro. Autunno del Medioevo Uno dei più grandi scrittori, una grande anima si può dire, del ventesimo secolo, l'olandese Johan Oitzinga, storico, sociologo, autore di una splendida biografia del suo conterraneo Erasmo del Rotterdam, ha scritto un libro che nella prima metà del secolo scorso, che è rimasto famoso, che è uno dei classici, non solo della storia, che si rileggono di continuo. Io credo che insieme con, che so, col Maestro in Margherita di Bulgakov o col Signore degli Anelli di Tolkien resterà uno dei libri che veramente saranno ricordati, anche quando del nostro disperato e disgraziato novecento magari i nostri posteri si ricorderanno pochissimo. Questo libro è intitolato appunto L'autunno del Medioevo. Inutile dire che ci sono in questo libro suggestioni di ogni genere. Il titolo stesso rimanda a un altro capolavoro a suo modo del novecento, un capolavoro molto compromesso e molto chiacchierato, Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler. E ci si respira quell'atmosfera che è molto tipica di questo tipo di scritture, l'atmosfera appunto della fine, della decadenza. Parliamo dunque dell'autunno del Medioevo, parliamo della guerra dei cento anni, parliamo di un periodo particolare della guerra dei cento anni, che è quello snodo, il crepuscolo fra i due secoli, fra il trecento e il quattrocento. Quindi l'Europa del tempo, la paura. La peste nera aveva infierito sul continente, distruggendone gran parte della popolazione. La peste nera era arrivata fra 1347 e 1350, ma i postumi si sentivano ancora. Parliamo di quel tempo, dei suoi problemi e delle ombre che si allungavano sul nostro occidente. Come oggi si ama dire. Parliamo dunque della fine del Medioevo, dell'autunno del Medioevo. Parliamo della guerra dei cento anni, guerra combattuta, come diciamo noi, tra Francia e Inghilterra, non è vero. È una guerra combattuta originariamente per una questione di successione dinastica sul trono di Francia, fra due rami della casa regnante di Francia, la casa dei capetingi, che i re, come sapete, sono tutti imparentati fra loro ancora oggi in fondo, ma le tre e quattrocento erano ancora di più. Tra due rami, dicevo, della casa regnante di Francia, che si disputavano il titolo, la corona reale di Francia, e uno di questi due rami era già detentore della corona reale d'Inghilterra, che non era una corona reale indipendente perché era vassalla della Santa Sede, ma la stessa persona che tradizionalmente portava la corona reale d'Inghilterra portava anche la corona ducale di Normandia e molte altre corone ancora, la corona ducale di Aquitania e di Guyenne, eccetera. Il risultato era paradossale. Il re d'Inghilterra, che era anche duca di Normandia, ma anche duca di Guyenne d'Aquitania, ma anche conte d'Angiò, e che quindi era il padrone di due terzi forse della Francia, era come duca di Normandia, come duca di Guyenne, come conte d'Angiò, vassallo del re di Francia. Quindi un re che per un certo verso è vassallo di un altro re, nell'ambito di una corona contesa fra due rami della stessa casata, due rami che parlano fra l'altro francese, che sono francesi di cultura. Questo è il quadro, voi direte, beh, in fondo lo conosciamo, è il quadro ricordato da Shakespeare, è il quadro dell'Enrico V, dell'Enrico VI, sì, è quel quadro, ma Shakespeare scriveva alla fine del Cinquecento in un'altra prospettiva. Noi ricorderemo prospettive storiche più precise del grande trageda e commediografo di Stratford. Il quadro rispetto a Shakespeare che scriveva con un occhio fisso all'Inghilterra del suo tempo e un altro ai problemi relativi alla riforma, alle lotte religiose, eccetera, è un quadro molto diverso. Nemmeno Shakespeare ci aiuta se veramente vogliamo entrare nella logica degli anni di cui ci stiamo occupando. Gli anni di cui ci stiamo occupando, di cui ci vogliamo occupare, sono proprio quelli del crepuscolo del XIV secolo, l'inizio del XV secolo, in un'area che in realtà è molto vasta. Io sono partito, dovevo farlo, dalla guerra dei cento anni, anche perché all'inizio della nostra storia c'è qualcosa che riguarda molto da vicino il re di Francia del tempo, il povero semidemente Carlo VI, ma ci sono anche altre cose, altri personaggi. In realtà il vero protagonista della nostra storia è Timur. Timur che i persiani chiamano Timurlenk, Timur lo zoppo, è un nome che originariamente suonava a disprezzo, ma nello stesso tempo anche paura, ma che poi egli stesso amava portare come insegno di sfida. Lo dovremmo chiamare Timur Beg, forse, con il titolo di Beg, questo titolo di origine turca che qualifica i comandanti militari, ma egli qualche volta si faceva denominare anche Timur Khan, con questo termine Khan che indica i grandi capi di tribù nella società turco-mongola. Lo conosciamo anche con l'appellativo di Timur Sultan, con la parola araba che significa principe, capo, perché Timur che non aveva nulla a che fare col mondo arabo, era tuttavia un musulmano e come tale l'arabo era la sua lingua di preghiera e anche un po' la sua lingua di cultura, stiamo parlando di un uomo molto più colto di quanto di solito non si creda o non si dica, oppure Timur Amir, come si dice nel suo Uzbekistan, perché Timur è un turcomanno, quindi è un abitante di quella grande area che un tempo si chiamava Turkestan, che oggi è divisa in una serie di repubbliche ex-sovietiche, che sono le repubbliche del centro Asia, che formalmente aderiscono alla confederazione di stati indipendenti, il cui stato leader è, come sappiamo, ma come qualche volta ci dimentichiamo, perché la geografia post-sovietica è molto complessa, lo stato leader è ancora naturalmente la Russia, l'Uzbekistan, l'attuale Uzbekistan, e quindi la patria di Timur, e Timur ancora oggi è sepolto nel grande Guromir, nel santuario dell'Emiro, letteralmente, che sta al centro della favolosa città di Samarkand. Timur è dunque lui il protagonista della nostra storia. Che cosa si sa, che cosa si legge di lui sui libri di storia? Pochissimo. Questo è un bel guaio in tempi di globalizzazione, perché effettivamente siamo in un momento in cui i nostri ragazzi dovrebbero abituarsi nelle scuole, già nelle scuole forse primarie, ad avere un po' tutto il mondo in mano, a orientarsi, invece purtroppo così non è. Si continua a studiare una storia nozionistica, è una storia che è prevalentemente mediterranea e occidentale, il che è un bene, forse giusto, è forse anche necessario, che in tempi appunto di globalizzazione, mentre il mondo esplode, ciascuno di noi va dalla ricerca delle sue radici e le nostre radici profonde sono sicuramente ben radicate nel Mediterraneo, nell'Occidente, nella civiltà cristiana, nella civiltà greco-romana, però al tempo stesso siamo obbligati, come cittadini, è un nostro diritto, è un nostro dovere, a cercare di capire che cosa ci succede intorno e quindi dare un'occhiata a queste aree del mondo che oggi sono nevralgiche dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista delle stazioni del petrolio, dal punto di vista della ripresa di quello che i russi e inglesi nell'Ottocento chiamavano the game, il grande gioco, vi ricordate il Kipling che ne ha tanto bene parlato, e che oggi è ripreso, forse avendo come partners non più inglesi e russi come al tempo di Kipling, ma vengono partners ancora più ingombranti, gli Stati Uniti d'America da una parte, la Russia dall'altra, la Cina da un'altra ancora, forse già anche l'India e l'Iran che si affacciano anch'esse come grandi potenze regionali o come subpotenze, come qualcuno dice, quindi un quadro che ci invita a occuparsi anche della storia dell'Asia profonda, di cui un tempo potevamo fare a meno, perché in fondo si trattava di aree molto remote da noi, oggi non è più così. Dalla nostra sicurezza personale fino al prezzo del petrolio, tutte le mattine la patria di Timur ci torna davanti, e quindi è opportuno saperne qualcosa. Però noi non vogliamo parlare, in questa occasione, in questa sede, nella sede che mi riguarda, non vogliamo parlare tanto e soltanto di Timur, anzi, di Timur ne parleremo relativamente poco, relativamente, non vi illudete o non vi preoccupate, dipende dai punti di vista, parleremo di lui, ma parleremo soprattutto della nostra Europa, perché in realtà questo Principe Tartaro, che è rimasto famoso, meno di quanto avrebbe dovuto, ma tuttavia è un po' famoso, sì, se non altro, perché il grande scrittore di tragedie del nostro rinascimento europeo, dopo Shakespeare, Marlow, gli ha dedicato una tragedia, e dopo di lui Wolfgang Goethe ne ha scritto nel divano orientale e occidentale, dedicandogli una bella poesia, molto intensa, molto paurosa, in tutti i sensi possibili, del termine. Questo personaggio, che quindi letterariamente parlando, ci è noto, ci è storicamente un po' meno noto, e allora bisognerà pur dire perché, perché ne stiamo parlando, e che cosa ci manca per conoscerlo, in sintesi, quello che è necessario sappiate, anche per poter meglio seguire le mie divagazioni, io sono uno che spesso divaga, come è noto. In sintesi, noi siamo davanti a una persona, a un personaggio, che conquista, partendo dall'Uzbekistan attuale, in pochi decenni, dalla seconda metà, circa del 300, fino ai primissimi del 400, gran parte dell'Asia oggi conosciuta. Muore Timur nel 1405, all'inizio del 1405, mentre più o meno settantenne, quindi ce lo possiamo immaginare, nato intorno al 1335, queste date non sono sicurissime, posso darvele con una certa approssimazione, muore mentre va all'assalto della Cina, follia, e ci va d'inverno, fra l'altro, quasi settantenne, forse oltre settantenne. Questo è il personaggio, ma prima di quest'ultima follia, quali altre follie aveva commesso? Timur o Tamerlano, come mi capiterà spesso di dirlo, anche se personalmente non amo questa sorta di distorcimento del suo nome, lo amo forse meno di quanto lo amasse lui. Timur, dicevo, nato verso il 35, le date prendetele con la dovuta cautela, morto nel 1405, nell'intervallo, badate che settant'anni a noi sembrano pochi, ma alla fine del Trecento non ne erano affatto pochi, un uomo di straordinaria longevità, anche considerando che era pieno di ferite, lo chiamavano zoppo in seguito a una ferita di guerra, che però gli aveva offeso anche un braccio, insomma era un uomo molto provato, la vita di settant'anni per uno che aveva vissuto come lui, in mezzo ai campi di battaglia, era quasi straordinaria, io ricordo una sola persona, nella mia esperienza di medievista, che da questo punto di vista fisiologico, per tempra gli possa essere messo accanto, ed è l'imperatore Federico I Barbarossa, il quale muore nel 1190, e muore praticamente superando una grossa catena di montagne dell'Asia minore, quello che separa ancora oggi l'altopiano anatolico dalla costa della Cilicia, cioè dalla costa del sud della penisola anatolica stessa, grandi montagne, eccetera, e Federico I, che noi chiamiamo il Barbarossa, che anche lui si chiamava il Barbarossa, usando orgogliosamente questo nomignolo sprezzante che gli avevano dato i comuni italiani, che però ne avevano un gran paura, Federico I Barbarossa muore settantenne, andando alla crociata, era il 10 giugno del 1190, e probabilmente lui aveva addirittura qualcosa di più di 70 anni, i più ottimisti sostengono che ne avesse quasi 74-75, e muore dopo essersi fatto a cavallo tutta l'Europa e l'Asia fra la Germania e la Turchia, non male, insomma, tempre veramente di altri tempi, ma io conosco soltanto Federico Barbarossa, che da questo punto di vista potrebbe essere messo in rapporto con Timur, del resto fra i due qualche somiglianza caratteriale forse c'era. Perché ci occupiamo di Timur? Ci occupiamo di Timur soprattutto perché egli è stato un grande signore della paura. Pochi uomini nella storia, forse giusto Stalin, sono stati accompagnati da un'aura così spaventosa, una fama di ferocia, se si vuole perfino proprio personalmente, di malvagità. La malvagità è qualcosa di diverso dalla ferocia, e la ferocia forse è qualcosa di più, in fondo, di più solare, di più apertamente animale, di più ferino. La malvagità è qualche cosa che riguarda l'intimo del cuore umano ed è difficile penetrare nel cuore umano in generale, ma in quello di personaggi come Timur in particolare. Anche perché, diciamo la verità, di lui abbiamo poche notizie storiche, abbiamo perfino qualche cosa che non oso chiamare di suo pugno, ma che comunque pare essere uscito dalla sua mente ed essere stato dettato da lui. Ma lo abbiamo attraverso tutta una serie di rifascimenti più recenti, una serie di documenti, soprattutto indiani del Cinquecento, dei suoi successori che diventarono imperatori dell'India, imperatori mongoli, che per questo sono noti appunto col nome di Mogul, quindi insomma un personaggio straordinariamente importante, ma al tempo stesso straordinariamente evanescente nella nostra storia, nel nostro ricordo e quindi difficile da richiamare alla memoria propriamente storica. Parlavamo dell'autunno del Medioevo e il Medioevo è una dimensione europea, ce lo siamo inventati noi, nella nostra cultura, sono i nostri umanisti del Quattrocento che a un certo punto hanno pensato che la grande civiltà era quella evidentemente greco-romana in cui si era costruito l'impero romano, in cui era provvidenzialmente nato anche il Signore e che quella civiltà si era rotta a un certo punto, si era spezzata. In questa storia spezzata, come direbbe ai nostri giorni uno studioso vivente, Aldo Schiavone, in questa storia spezzata, dicevo, si è inserita a un certo punto la rinascita. La rinascita di che cosa? È evidentemente della civiltà, della cultura, quindi quello che appunto nell'Ottocento si è chiamato il rinascimento, grazie a personaggi come Michelet, come Burkert, che hanno inventato questo concetto. se la grande civiltà della nostra cultura, la cultura occidentale, come molti amano oggi sottolineare, è finita con la fine del mondo romano in Occidente, naturalmente, perché a Oriente è continuata con la cultura bizantina ed ha ripreso solo nel rinascimento, l'impero romano in Oriente è finito, come sapete, nel 476, quando si è cessato di nominare imperatori e si è ripreso il cammino della cultura solo nel Cinquecento o nel Quattrocento, se preferite, questo vuol dire che per mille anni la cultura ha taciuto, la civiltà ha taciuto. Gli umanisti fiorentini, che appunto pensavano queste cose, fra parentesi sia chiaro, noi non le pensiamo più, hanno elaborato un concetto e una parola che se volete è una non definizione, una antidefinizione. Il concetto è la parola di medioevo, media etas, media tempestas, periodo che sta nel mezzo, un periodo senza qualità, se volete, una palude piena di barbari e di superstizione, sono non solo gli umanisti del Quattrocento, ma anche i filosof, gli illuministi del Settecento, che hanno contribuito a dare questa impressione al tempo che noi chiamiamo appunto medioevo. Beh, a questo punto si potrebbe però fare un'osservazione, cioè si potrebbe anche chiedere qualcosa di molto attuale a livello mass mediale, ma se il medioevo è stato questa cosa, se la nostra cultura occidentale era sempre così svalutato e così disprezzato, se addirittura questo lungo periodo, un millennio, il quale succede tutto, è il contrario di tutto, quindi è difficile parlare di una civiltà medievale, di un uomo medievale, di condizioni di vita medioevali, che volete, in un millennio le condizioni cambiano, i modi di pensare cambiano, succede tutto e il contrario di tutto, Attila è un uomo del medioevo? Beh, diciamo di sì, Alboino è un uomo del medioevo, quello che costringeva la moglie Rosmunda, secondo le storie che si narrano ancora a scuola, a bere nel cranio del padre, trasformato in coppa, è un uomo del medioevo, sì, Lorenzo il Magnifico, che muore nel 1492, quando ordinariamente si fa finire il medioevo, è a sua volta un uomo del medioevo, beh, insomma, fra Alboino e Lorenzo il Magnifico, ce ne corre, non solo di tempo, ma anche proprio di atteggiamenti, di cultura, di civiltà, di modi di vedere, di pensare, di vivere, di strutture, anche economiche e sociali, che oggi non vanno più troppo di moda, ma bisogna sempre ricordarsene, ricordarsene quando si parla di storia, come si fa a parlare di un periodo di questo genere, come se fosse un periodo compatto, noi ci riusciamo, ma a prezzo di grosse generalizzazioni, quindi teniamo sempre presente, il medioevo è convenzionale, e riguarda, la definizione di medioevo, un periodo che è incapsulato, per così dire, tra l'antichità e il rinascimento, quindi quando si parla di medioevo, si parla di qualche cosa di squisitamente, ed essenzialmente occidentale, non possiamo parlare di un medioevo asiatico, di un medioevo africano, o di un medioevo dell'America, che ancora non era stata scoperta, da Cristoforo Colombo, perché per quei luoghi, l'espressione medioevo, non ha senso, se non vogliamo indicare, semplicemente, la sincronicità, rispetto ad avvenimenti, della nostra Europa, ma questo non ha senso, quindi parliamo del nostro medioevo, come espressione culturale, e come modo, che noi abbiamo di pensare ad esso. Il medioevo, era dunque, alla fine del Trecento, al tramonto. In questa fine del medioevo, si situa la grande epopea, di Timur, di Tamerlano, che nel giro di pochi decenni, riesce a conquistarsi, un grandissimo impero, in parte sulle rovine, del vecchio impero federale mongolo, che si era sviluppato, fra metà del Duecento, e metà del Trecento, ma di queste cose, naturalmente, riparleremo, Tamerlano riesce, in pochi decenni, nella seconda metà, del Quattordicesimo secolo, a impadronirsi, partendo dal Turkestan, come lo si chiama tradizionalmente, o, se preferite, dall'Uzbekistan, secondo le espressioni geopolitiche, o già storiche, che usiamo oggi, riesce a conquistare, una porzione di Asia, che va dalla Siria, conquista e distrugge Damasco, fino, quasi all'Indo, alle pendici dell'Himalaya, piuttosto vicini al suo luogo di nascita, lui era nato in una piccola città, vicino a Samarcanda, e questi sono i termini longitudinari, fra est e ovest, del suo impero. I termini latitudinari, sono la Siberia, e il Golfo Persico, quindi un impero immenso, che oggi occupa, una serie di grandi paesi, fra cui, per l'intero, l'Iran, l'attuale Iraq, l'attuale Siria, le attuali repubbliche ex sovietiche, di tutta l'Asia centrale, l'Afghanistan, il Pakistan, quasi un piccolo pezzetto della Cina, dell'India e della Cina occidentali di oggi, quindi un'area immensa, però si potrebbe obiettare a questo punto, sì, ma si parla di un impero asiatico, il buon Tamerlano, non ha mai messo piede in Europa, non è del tutto vero se, ma qui dipende da voi, se voi pensate che la Turchia sia Europa, ebbene, Timur ha fatto delle escursioni, anzi, delle incursioni, anche in Turchia, è arrivato fino a Smirnel, che vuol dire che è arrivato fino a toccare anche il Mediterraneo, a conquistare anche un pezzetto di Turchia, ma le ragioni per cui noi ci occupiamo di lui, nell'ambito di una serie di conversazioni, che in fondo parlano della fine del nostro Medioevo, è che questo conquistatore dell'Asia si è inserito profondissimamente nella nostra storia occidentale, e allora per capire bene tutto questo, bisognerà fare una serie dei classici passi indietro, che si fanno sempre inevitabilmente quando si parla di storia, e richiamare un po' le condizioni storiche del tempo, la fine del Medioevo, quello da cui siamo partiti ieri, la guerra dei cento anni, la peste nera che aveva distrutto gran parte della popolazione europea nel corso del XIV secolo, e capire come si inserisce questo conquistatore dell'Asia e perché? Egli si inserisce, e profondamente, nella nostra storia per un motivo. In quel momento, facciamoci un quadro molto generale della situazione, l'Europa ha un sacco di grattacapi, Inghilterra e Francia si combattono nella guerra dei cento anni, di lì a qualche decennio verrà fuori in Francia la figura di Giovanna d'Arco, poi ci sono altri problemi, ma ce n'è uno fondamentale, l'avanzata dei turchi ottomani nella penisola anatolica. Questo è il nostro vero punto di partenza. L'Europa si sente minacciata dall'arrivo dei turchi ottomani. In verità, nel corso del XIV secolo, erano successi nel Mediterraneo orientale una serie di avvenimenti che avevano cambiato un po' il volto di quell'area, di quello scacchiere del nostro mondo, di quello che è ancora il nostro mondo, insomma, il mondo mediterraneo. Perché da un lato, ormai il califato che riuniva i musulmani sunniti nel bacino mediterraneo non esisteva più. I mongoli nel 1258, con Kulagu Khan, nipote del grande Genghis Khan, avevano conquistato Baghdad, avevano ucciso l'ultimo califo e da allora nessuno si sarebbe più proclamato califo nel mondo sunnita. Almeno nessuno suscettibile di essere accettato come califo da tutto il mondo sunnita. I sciiti, come sapete, non riconoscono il califato e riconoscono altre istituzioni religiose. È vero che ogni tanto nel ribollente Marocco veniva fuori qualcuno che pretendeva di essere a sua volta califo, ma veniva riconosciuto soltanto in certi ambienti, in certe scuole, in certe confraternite musulmane, devote, marocchine. Quindi il mondo dell'Islam dal 1258 è un mondo in cui la società musulmana sunnita non è più guidata da un punto di riferimento religioso prestigioso come quello del califato. Solo nella seconda metà del Cinquecento i sultani turchi ottomani che avevano conquistato Istanbul pretenderanno per sé di nuovo il titolo califale, ma in questo momento l'Islam non ha più califo. Cosa che in fondo significa relativamente poco perché i califi non hanno istituzionalmente poteri particolari, non sono affatto per l'Islam. Quello che può essere il Papa per il mondo occidentale, per intendersi, per il mondo cattolico, sono un riferimento soltanto formale. Comunque è un Islam ulteriormente frammentato come del resto è sempre stato, in cui emergono alcune potenze. Direi che la potenza più importante in questo momento, quella di cui bisogna ricordarsi se vogliamo seguire il senso anche della nostra conversazione, è il sultanato, cosiddetto mamelucco, del Cairo. La parola mamelucco mi rendo conto è un po' strana anche perché noi italiani la usiamo come sinonimo di persona poco acuta, poco pronta dal punto di vista intellettivo. il termine mamelucco in arabo significa schiavo e i mamelucchi, la parola mamelucca è l'italianizzazione di questa parola araba, che andava a qualificare un ambito particolare di persone di varia origine, sudanesi, ma anche russi, che erano stati presi schiavi e in Egitto erano andati a costituire un gruppo particolare di schiavi addestrati per la guerra, che naturalmente avendo le armi a disposizione erano diventati così influenti nella società egiziana che a metà del XIII secolo i gruppi, le tribù mamelucche si erano impadronite del sultanato. Da allora erano diventati sultani dell'Egitto e il sultanato mamelucco andrà avanti fino si può dire all'invasione francese del generale Bonaparte alla fine del XVIII secolo. In quel momento il sultanato mamelucco dell'Egitto che domina appunto l'Egitto, il Sudan e le aree vicine è il potentato musulmano più importante da tenere presente. Il sultanato mamelucco d'Egitto è si può dire forse il più potente fra gli stati che si affacciano nel Mediterraneo del tempo. L'Egitto è una grande potenza anche economica. Dall'Egitto passano i traffici le spezie che arrivano dall'Asia. L'Egitto a sua volta è produttore di splendide e fondamentali materie prime per il mondo medievale del tempo. Il zucchero di canna, il lino, il cotone ma ancora altre sostanze e altre materie prime importanti nel tempo. La seta stessa di cui l'Egitto è produttore. Il porto d'Alessandria è senza dubbio il porto più fiorente del tempo ed è pieno di mercanti italiani soprattutto veneziani ma anche genovesi. Vicino all'Egitto c'è il regno di Cipro dominato ancora dalla dinastia d'origine crociata dei Lusignano signori francesi i signori di Lusignan che è un piccolo centro della Francia centrale vassallo del duca d'Aquitania e quindi del re d'Inghilterra e questo è importante il re di Cipro che fa una politica largamente autonoma i mamelucchi d'Egitto controllano anche la terra santa e Gerusalemme il mondo arabo è quindi fondamentalmente rappresentato dal mondo egiziano ed è un mondo molto familiare ai nostri mercanti alla nostra Europa un mondo da cui dipende il giro commerciale del tempo è un mondo dalla bilancia commerciale molto viva ma anche non solo che esporta in Europa il suo lino il suo cotone il suo zucchero di canna i suoi datteri e via discorrendo ma che importa anche moltissimo importa legname Egitto è povero di legname è ovvio ed è ovvio che lo sia ma il legname è il materiale edilizio e anche il materiale militare per eccellenza nel mondo medievale il medioevo è un mondo del legno e poi ancora la canapa importantissima per le vele delle navi l'Egitto è una grande potenza militare navale e le navi del tempo sono evidentemente navi a vela oltre che a remi quindi l'Egitto ha una bilancia commerciale nonostante sia un grande paese che non è una bilancia commerciale attiva è una bilancia commerciale passiva rispetto all'Europa e infatti la cartina è turna solo di tutto questo è che il mondo del Mediterraneo è dominato da una moneta una moneta forte una moneta aurea lo si potrebbe definire il dollaro del medioevo ma attenzione perché dopo la sconfessione dei trattati di Bretton Woods come sapete il dollaro è una moneta che fluttua e noi non ne sappiamo l'esatto valore l'esatta corrispondenza in oro che resta all'unità di misura ancora per noi nella nostra economia mentre invece la moneta di cui stiamo parlando adesso è una moneta aurea e come ed è di oro buono a 22 carati addirittura è il fiorino o se preferite da parte di me fiorentino citare il fiorino potrebbe sembrare nazionalista o patriottico e lo zecchino il ducato veneto esattamente la stessa moneta 3 grammi e mezzo più o meno d'oro oro a 22 carati una moneta quindi molto buona molto forte che circola e che è il dollaro del tempo sia che venisse da Firenze come il fiorino sia che venisse da Venezia come il ducato che vuol dire che il Bisante la moneta dell'impero bisantino non era più importante del resto l'impero bisantino ormai non esisteva più non si era più rimesso dalla batosta della quarta crociata era rinato ma era circondato da una nuova potenza buonasera ancora Franco Cardini Tamerlano e il medioevo occidentale fine del 300 quello che stiamo stavamo facendo nelle due puntate precedenti era un tentativo di costruire lo scenario nel quale poi calare il nostro protagonista e altri numerosi coprotagonisti il nostro scenario di partenza è mediterraneo perché noi dobbiamo costruire un ambiente che ci disponga a rispondere alla domanda ma questo grande conquistatore dell'Asia alla fine del 300 questo folle principe mongolo che ai primi del 400 architetta niente di meno che di andare alla conquista della Cina questo personaggio quindi immenso enorme qualcuno ha detto l'uomo più grande della storia dopo Alessandro Magno beh sapete queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano però certamente questo personaggio straordinario è sorprendente nel quale fra l'altro non è rimasto quasi nulla ma del resto personalmente che cosa è rimasto a parte la gloria e la leggenda anche del grande Alessandro questo personaggio perché interessa così l'Europa ecco è per rispondere a questa domanda che noi siamo un po' costretti diciamo così a costituire a disegnare con le nostre parole un quadro di quello che era il mondo mediterraneo ed europeo del tempo naturalmente ce la siamo presa a comoda e abbiamo cominciato a vedere come il mondo mediterraneo del tempo sia dominato da un'economia i grandi protagonisti della quale sono senza dubbio i marinai mercanti che qualche volta facevano anche i corsari del nostro occidente quindi le nostre repubbliche marinare non più Pisa e Amalfi che era in decadenza ma Genova e Venezia che sono senza dubbio le due grandi potenze mediterranee però accanto ad esse stava prendendo posto anche un'altra potenza navale che era quella catalana i marinai e i mercanti di Barcellona e la potenza catalana era a sua volta non autonoma ma controllata dal regno nel quale la Catalogna del tempo era inserita che era il regno di Aragona uno dei due grandi regni della Spagna cristiana l'altro era il regno di Castiglia dico della Spagna cristiana perché il meridione della penisola iberica del tempo quindi per intendersi a sud della Sierra Morena quindi l'attuale grande regione dell'Andalusia era ancora in mano dell'ultimo grande principato musulmano la Spagna come sapete era diventata quasi completamente arabo-berbera e musulmana nel corso dell'ottavo secolo poi a partire dell'undicesimo secolo si era verificato cominciando dai principati cristiani del nord della penisola quel fenomeno che gli spagnoli chiamano di reconchista e questo fenomeno nel tempo che ci interessa alla fine del trecento era arrivato a una situazione tale per cui praticamente i cristiani organizzati ormai nei due grandi regni di Aragona e Castiglia ma c'era anche un regno del Portogallo che originariamente era una contea del regno di Castiglia ma poi si era staccato quindi i tre regni iberici di Aragona di Castiglia e di Portogallo stavano riconquistando tutta la penisola iberica ma c'era ancora un enclave al sud un enclave molto ampia e splendida con la capitale di Granada che era rimasto l'ultimo emirato musulmano in terra di Spagna anche in generale in Europa e qui si dovrebbe aprire un piccolo discorso sulla presenza dell'Islam in Europa l'Islam si era espanso a partire dall'ottavo secolo su una piccola parte dell'Europa i musulmani avevano conquistato la penisola iberica la penisola iberica si era largamente ma non totalmente convertita all'Islam rimanevano i cristiani i locali nelle comunità cosiddette mosarabiche che erano comunità cristiane anche se usavano l'arabo come lingua liturgica perché la cultura musulmana conquista anche quelli che non sono conquistati dalla religione islamica e qui entra un concetto con cui bisogna familiarizzarsi perché può servire anche oggi poi l'Islam naturalmente era presente nell'Europa del tempo perché i musulmani avevano occupato alcune delle grandi isole del Mediterraneo avevano occupato Creta avevano occupato Cipro poi Cipro l'avevano dovuta lasciare all'impero bizantino ma Creta era rimasta musulmana per un certo periodo nel nono secolo avevano cominciato a conquistare la Sicilia non conquistarono mai del tutto Sardegna Corsica eccetera ma si attestarono un po' sui margini sulle coste sia Sarde sia Corse occuparono alcune zone costiere in Provenza fra Lazio e Campania occuparono completamente le Baleari stabilirono per 30 anni fra l'840 e l'870 circa addirittura un emirato musulmano a Bari poi pian piano queste conquiste musulmane tarirono progressivamente sotto l'onda della riconquista cristiana ormai i musulmani in Italia non ce n'erano più nel corso del 400 Federico II li aveva praticamente sterminati dalla Sicilia i reduci dallo sterminio li aveva isolati nella colonia Saracena di Lucera si parla di Federico II come di un grande amico dell'Islam beh sarà anche vero dell'Islam lontano Federico II aveva grande amicizia col sultano d'Egitto del suo tempo ma l'Islam di casa sua lo trattava con grande durezza i musulmani isolati a Lucera poi furono trattati con durezza ulteriore e cacciati dagli angioini quindi alla fine del 200 musulmani in Italia non ce n'erano più ce n'erano un pochini nei Balcani e nei Balcani cominciarono a riaffermarsi ad espandersi a partire appunto dal 400 per una ragione che ci interessa molto da vicino e che ci riconduce appunto al quadro dei rapporti fra Islam ed Europa proprio nel corso del 300 400 perché nel secolo 14 in questo Islam mediterraneo che era dominato dal grande sultanato Mamelucco del Cairo che dominava l'Egitto ma che arrivava fino a Benghazi fino a quindi alla Shirenaica a Ovest e fino a Gerusalemme alla Terra Santa e al Giordano Est quindi qualcosa di molto più ampio dell'Egitto attuale questo grande sultanato era rimasto l'ultima grande potenza arabo-musulmana che si affacciasse sul Mediterraneo poi c'erano piccoli emirati lungo tutta la costiera nord-africana arabo-berberi praticamente che occupavano la Tripolitania la Tunisia l'Algeria il Marocco attuali poi c'era l'Emirato di Granada di cui già abbiamo parlato e poi però ultima cosa qualcosa cominciava a muoversi nei Balcani la novità la vera grande novità era costituita dall'arrivo di tribù turche i turchi come sapete sono una popolazione di stirpe uralo-altaica o grofinica come si usa dire non si dovrebbe parlare di stirpe per la verità si dovrebbe parlare di lingue perché sono gli idiomi che qualificano questi gruppi culturali sì poi evidentemente c'è anche un elemento di tipo etnico se vogliamo un turco-mongolo e soprattutto un mongolo noi siamo ancora oggi in grado più o meno grosso modo di riconoscerlo e di descriverlo genti caratterizzate dall'altezza modesta dalla carnagione olivastra dai capelli lisci dagli occhi a mandorla dagli zigomi sporgenti insomma vi sto facendo il quadro di un mongolo così come forse cercherebbe di disegnarlo un ragazzino delle scuole elementari ma va bene queste sono le nostre conoscenze ma in realtà le popolazioni turco-mongole e i turchi noi li immaginiamo già un po' diversi dai mongoli ma non dimentichiamo che c'è stato uno straordinario mixing antropologico intorno a queste popolazioni che si sono nel corso dei secoli mischiate anche grazie all'istituzione della schiavitù eccetera in modo molto complesso comunque i turco-mongoli noi li conosciamo come una serie una costellazione di genti di etnie che occupano ancora oggi un'area che va dall'Anatolia quindi dalla repubblica turca attuale fino all'Himalaya e praticamente dalla Siberia fino ai confini con l'attuale Iran queste popolazioni turco-mongole che sono caratterizzate originariamente da una grande mobilità sono nomadi vivono nelle steppe quindi il loro mestiere diciamo così è il mestiere dell'allevatore cavalli cammelli anche che pecore e capre nomadi quindi una cultura fondata sull'alimentazione una cultura materiale fondata sull'alimentazione carnea e proteica sono quelli che hanno inventato lo yogurt e tutti i derivati dello yogurt per esempio l'Iran è una bevanda particolare la consiglio come vecchio frequentatore di quell'area a tutti quelli che ci vadano detto così forse non è particolarmente appetitosa ma è uno yogurt molto diluito allungato con acqua e lo si sala si mette una buona generosa porzione un generoso pizzico di sale grosso e poi si mischia ed è una bevanda assolutamente straordinaria lo so hanno anche pastori servi perché anche loro hanno l'uso di salare il latte dicono che fa bene soprattutto ai ragazzi il sistema osseo eccetera corroborante eccetera pare per l'altro che sia vero comunque l'Aran è straordinario perché disseta moltissimo contiene sale quindi il sale mantiene i liquidi e questo è importante quando si vive nel deserto le popolazioni turco-mongole usano ancora questa bevanda insieme a una parca alimentazione a carattere soprattutto proteico carne grasso carne essiccata soprattutto hanno una religione che è beh antropologicamente parlando la dovrei definire sciamanica quindi un culto animistico fondato sulla venerazione degli antenati il culto degli antenati le pratiche che consistono nell'interrogazione dei morti quindi pratiche a carattere magico ma anche questo culto sciamanico appunto dai loro sacerdoti gli sciamani che hanno la possibilità di consultare gli spiriti degli antenati dei difunti questo culto sciamanico è anche caratterizzato da un forte monoteismo spirituale e questa è la caratteristica spirituale che colpisce del mondo sciamanico centroasiatico da come l'ho descritto io molto male molto frettolosamente voi però avete colto alcuni elementi che ci sono familiari no? è vero che il western non è più un genere filmico così frequentato dai giovani e dai giovanissimi come lo era negli anni verdi dei miei attuali 65 65 anni voglio dire ma è vero che insomma un po' di familiarità con la cultura pelle rossa sia pure per luogo comuni ce li abbiamo ancora e voi avrete notato che c'è una certa somiglianza fra il mondo culturale spirituale che io ho descritto e quello degli indiani soprattutto degli indiani in America e gli indiani delle praterie e non è una somiglianza casuale perché sembra proprio che attraverso lo stretto di Bering ghiacciato circa 10.000 anni prima di Cristo i siberiani le popolazioni uralo-altaiche siberiane siano passate nel continente americano abbiano usato il continente americano come tavola di scorrimento e siamo arrivati fino alla Mesoamerica quindi gli sciamani pelle rossa hanno molto come gli antropologi ben sanno hanno molto di comune con gli sciamani siberiani e quindi con le popolazioni uralo-altaiche popolazioni che noi chiamiamo uralo-altaiche oppure se preferite ugrofinniche ma in realtà è la stessa cosa se noi vogliamo fare riferimento a un punto di vista geografico allora queste popolazioni vanno chiamate uralo-altaiche perché la loro la loro culla la loro area originale è quella fra i monti altai e la catena degli urali quindi siamo praticamente in piena area eurasiatica come diciamo oggi se noi invece vogliamo riferirsi a popolazioni dal punto di vista etnico allora questi popoli preferiamo chiamarli ugrofinnici perché parlano un linguaggio linguaggio che i linguisti chiamerebbero di tipo agglutinante dato la struttura linguistica particolare che organizza le parole per l'unione di tutta una serie di piccole particelle prefissi o suffissi e queste lingue ugrofinniche sono appunto quelle che vanno dall'ugurico la lingua il gruppo di lingue parlate nel centro asia fino al finnico attuale alla lingua parlata dai finlandesi i quali ordinariamente sono bilingui perché parlano anche lo svedese ma la vera lingua dei finlandesi sarebbe appunto il finnico ora questo gruppo di lingue noi lo conosciamo non solo perché lo parlano i finlandesi o perché lo parlano gli usbechi i kirghisi e via discorrendo ma anche perché lo parlano anche i turchi il turco appartiene appunto a questa famiglia linguistica ma anche l'ungherese appartiene a questa famiglia linguistica e originariamente anche il bulgaro per quanto l'ungherese poi abbia arricchito il suo vocabolario con molti termini tedeschi per ovvi motivi che stanno legati alla storia dell'ungheria che tutti più o meno conosciamo che dovremmo conoscere che l'ungheria fa parte della nostra patria europea e poi ci sono i bulgari il bulgaro attuale ormai è molto fortemente condizionato dal russo e infatti molto spesso si fa l'errore di considerare il bulgaro una lingua slava ma per la verità il bulgaro è originariamente una lingua uralo-altaica e abbiamo attenzione cominciato a gettare le basi per la conversazione di domani perché abbiamo parlato di bulgari abbiamo parlato di ungheria e quindi abbiamo parlato dei balcani della penisola balcano danubiana buonasera parlavamo della organizzazione della dislocazione del mondo musulmano nell'europa della fine del quattordicesimo secolo sempre per preparare questo nostro scenario all'ingresso di timur di tamerlano alla fine del trecento non c'è più una grande presenza musulmana in europa c'è continua a esserci il glorioso emirato di granada in andalusia e poi diciamo che praticamente non ci sono più musulmani se ci sono musulmani non ci sono comunque più stati principati repubbliche dominate da musulmani nell'europa cristiana creta appartiene all'impero bizantino a quel che rimane a quel poco che rimane dall'impero bizantino la capitale costantinopoli e poco di più perché ormai dopo la quarta crociata l'impero bizantino si è andato distruggendo frammentando e quel che ne rimane è in mano a Genova a Venezia oppure anche a qualche perfino a qualche feudatario fiorentino come gli acciaioli che occupavano la città di Atene o come Bondelmonti e altri quindi c'è stata praticamente una sparizione quasi totale dell'impero bizantino a Creta per esempio ormai praticamente comandano i veneziani così come nelle varie isole dell'Egeo ci sono i veneziani o i genovesi certo la popolazione è sempre greca intendiamoci però in realtà i dominanti sono le nostre repubbliche marinare e poi ci sono i catalani che cercano disperatamente di inserirsi anche loro in questo gioco e in effetti un gruppo di mercenari catalani la famosa compagnia catalana dei cosiddetti Almugaveri al comando di un capitano di ventura leggendario un ex templare che si chiamava Ruggero da Fiore Rogerius de Flore oppure Roger de Flore che è un personaggio quasi da romanzo ai primi del 300 si erano conquistate gran parte della penisola ellenica gran parte della Grecia attuale quindi come vedete è un mondo purtroppo poco nostro non lo studiamo troppo a scuola quindi ma è un mondo formidabile è un mondo che ricorda per certi aspetti quasi che so io l'India di Kipring oppure di Salgari del tempo della compagnia delle Indie con questi europei che impongono la loro presenza ma che sono in lotta fra loro Firenze Venezia Genova i catalani di Barcellona questo è il quadro generale in questo quadro generale però noi bisogna inserire anche un elemento in più la storia è bella perché è complessa nel corso del XIV secolo le popolazioni uralo-altaiche di cui abbiamo ampiamente parlato i turco-mongoli si sono rimessi in moto come sapete la cultura e la storia eurasiatiche sono dominate da queste successive sistole e diastole da questo respiro etnico gestito da popolazioni del centro Asia che ogni tanto a intervalli regolari o meglio a intervalli largamente irregolari si mettono tumultosamente in marcia dal cuore dell'Asia verso i margini del continente eurasiatico in fondo il vero il reale il protagonista della storia che cerchiamo di raccontare in queste serate è proprio questo è questo misterioso agglomerato di popoli eurasiatici estremamente inquieti è su questo che bisogna insistere le invasioni barbariche non temete non è vogliamo tornare tragicamente indietro ma noi sappiamo tutti che a partire dal terzo quarto secolo dopo Cristo fino a quando fino a molto perché poi sono invasioni che sono andate avanti in lungo a scuola ci dicono fino al sesto settimo ma forse bisognerebbe essere un po' precisi il nostro mondo europeo è stato turbato dall'arrivo di popolazioni che erano in parte germaniche e in parte appunto uraloaltaiche o ugrofiniche gli unni per esempio ma più tardi gli avari e poi più tardi ancora gli ungari quelli che si chiameranno i magari e che poi si cristianizzeranno e si insedieranno solo a partire dalla seconda metà del decimo secolo nella piana del medio danubio quella che i romani chiamavano la pannonia e che noi chiamiamo appunto perché ci si sono insediati loro nel decimo secolo l'Ungheria poi si insediano diventano cristiani diventano anche agricoltori i cristiani devono fare il vino perché ne hanno bisogno per la messa e quindi devono coltivare la vita e infatti gli ungheresi sono diventati splendidi vinicoltori come sappiamo il Tokai il Legby Cover eccetera quindi c'è questo movimento di popoli dal terzo quarto ma in realtà era già cominciato da prima fino al settimo ottavo ma si arriva fino al nono e al decimo che arrivano a ondate successive nella nostra Europa non sono loro a distruggere l'impero romano queste cose le abbiamo dette un po' fra 7 e 800 che barbari hanno distrutto l'impero romano la storia è diversa è molto più articolata ma certamente hanno contribuito alla crisi dell'impero romano poi tutto sembra fermarsi diventare calmo ma nel corso del XIII secolo noi sappiamo che agli inizi del XIII secolo dall'Asia centrale sorge un nuovo impero che nasce appunto sulla base della rinnovata mobilità di questi popoli sono sempre loro e questo crociolo di etnie situate grossomodo nell'Asia centrale se volete dei parametri geografici attuali per seguir meglio il discorso direi ecco fra il Caspio e il confine cinese attuale in quest'area vivono queste popolazioni di nomadi di pastori di allevatori di cavalli e di cammelli di stirpe turcomongola di lingua o di lingue perché sono molti gli idiomi parlati in quell'area uralo-altaica augrofinica che ogni tanto vengono presi da questa specie di foga di volontà di muoversi di conquistare di trasmigrare dal centro dell'Asia verso le periferie periferie che sono temperate il mare caldo quindi evidentemente il Mediterraneo da un lato o dall'altra parte l'oceano e ma fra queste popolazioni uralo-altaiche che cercano di emigrare e i grandi margini marittimi il Mediterraneo temperato a ovest l'oceano pacifico meno temperato ma pur sempre a clima marittimo est ci sono altri popoli e questi popoli vengono sospinti vengono obbligati anche loro a emigrare a loro volta vengono spesso conquistati e spesso anche distrutti massacrati e poi ci sono i grandi imperi di margine l'impero romano oppure l'impero cinese che cosa muove queste popolazioni che cosa le ha indotte progressivamente a intervalli appunto irregolari ma abbastanza frequenti perché vedete se voi riconsiderate tutta la storia del nostro medioevo alla luce di questi movimenti di queste come dicono i tedeschi völkerwanderungen migrazioni di popoli quelle che noi un tempo chiamavamo invasioni barbariche ma oggi l'espressione è considerata non più politically correct e quindi usiamo piuttosto migrazioni di popoli se voi considerate il medioevo dal punto di vista di queste successive ondate voi vedete che tra secondo quarto secolo fino al decimo si è avuta una serie di invasioni migrazioni pacifiche ma anche invasioni guerriere pensate ai Longobardi con una certa violenza anche fino a toccare quasi il decimo secolo quindi la fine del primo millennio di Cristo poi cosa c'è stato un paio di secoli forse di tranquillità tra undicesimo e dodicesimo ai primi del tredicesimo grande impero di Genghis Khan ma l'impero di Genghis Khan altro non è se non l'inquadramento storico politico di un'altra grande immigrazione di queste popolazioni uralo-altaiche ed è un'immigrazione fondamentale formidabile che interessa i Balcani che interessa l'area ungaro cieco polacca attuale quindi buona parte dell'Europa orientale che viene soggetta sottoposta al regime mongolo che si organizza come una federazione di principati di Khanati cioè di federazione di principati guidati da principi che si chiamano Khan che occupano anche la Russia meridionale attuale Crimea Ucraina parte anche della Bielorussia quindi tutta l'area che oggi si riconosce nelle due grandi capitali l'Ucraina Kiev e la Bielorussa Minsk e questo diventerà il canato che è famoso anche nella storia europea come il canato della cosiddetta orda d'oro guardate il termine orda che noi usiamo come sinonimo di gruppo senza forma e senza legge è una parola che in realtà viene proprio da un idioma uralo-altaico ordu dove significa grosso modo agglomerato di tribù quindi l'orda d'oro è l'agglomerato l'insieme la costellazione di tribù che si riconoscono come suddite di un Khan di un capo di un principe la cui insegna è un'insegna caratterizzata dal color giallo-oro per questo si chiama l'orda d'oro quindi l'orda d'oro è un stato mongolo un principato mongolo che occupa tutta la zona fra la Crimea e il medio corso del Don per intendersi avrà un'importanza fondamentale per noi da lì fra l'altro che partirà la peste nera nel 1347 perché i tartari i tartari e i mongoli è la stessa cosa ma in russo si dice i tartari dell'orda d'oro assediavano la città di Caffa sul Mar Nero vicino all'attuale Odessa e la facevano scenno di una sorta di guerra chimica perché fra loro pare fosse scoppiata la peste e loro prendevano i cadaveri dei morti di peste li mettevano sui cucchiai delle loro catapulte e li lanciavano all'interno dell'abitato fortificato che stavano assediando ora da Caffa partivano le navi genovesi cariche di grano con le navi cariche di grano ci viaggiano sopra i topi evidentemente sui topi ci sono le pulci e nello stomaco delle pulci c'è quella che il dottor Pasteur nella seconda metà dell'ottocento ha isolato come pastorella pestis da lì il guaio chiamato peste nera che ha distrutto l'Europa fra 1347 e 1350 anche la peste nera del 1347 50 la morte nera come la si chiamava con una specie di immaginario abbastanza macabro quella raccontata da Boccaccio ci è familiare che ha veramente ucciso pare i due terzi della popolazione europea pensate nella sola città di Firenze abbastanza ben documentata pare che la popolazione sia passata in tre anni da quasi 120.000 persone a 40.000 quindi secondo i più pessimisti la peste ha ucciso i tre quarti della popolazione gli ottimisti sostengono che invece la popolazione era di 100.000 abitanti e i sopravvissuti sono stati circa 60.000 il che vuol dire che la distruzione è stata di appena si fa per dire il 40% questo naturalmente per dare degli ordini di grandezza un po' molto generici del contagio anche il contagio della peste nera forse è stata una conseguenza indiretta di queste continue invasioni barbariche o migrazioni di popoli che hanno continuamente riguardato l'Europa dal secondo terzo secolo dopo Cristo fino a tutto il 14esimo secolo perché dopo l'impero di Genghis Khan l'impero di Genghis Khan si distrugge si frammenta si rompe si spezza in piccoli canati in piccoli principati piccoli si fa per dire insomma il canato dell'ordadoro arrivava dalla Crimea fino al medio corso del Don e occupava un'area quindi immensa basta controllarla sulla cartina della nostra Europa un po' più a est c'era il cosiddetto canato del Chagatai che praticamente occupava tutta l'area tra il Mar Caspio e il lago di Aral poi c'era il canato il cosiddetto il canato non è un articolo è tutta una parola il canato l'il canato iraniano persiano che era anche quello un principato turco-mongolo però che aveva assorbito la millenaria tradizione persiana e poi naturalmente c'era il gran can e il gran can come tutti sanno perché tutti abbiamo più o meno letto un po' di Marco Polo era l'imperatore della Cina e su questo bisogna soffermarsi un po' Genghis Khan Tartaro ha a che fare naturalmente con la grande muraglia cinese la elimina non la distrugge però la supera tranquillamente e occupa anche la Cina e a questo punto l'impero cinese il millenario impero cinese nel corso nella prima metà del XIII secolo cade a sua volta in mano ai mongoli anzi il principale dei can mongoli il cosiddetto gran can diventa l'imperatore il re dere il sovrano dei vari signori mongoli che si sono spartiti l'Asia e parte dell'Europa del tempo quindi immaginate questo grande impero federale dove alla morte di ciascun dei singoli gran can i principi mongoli convergono sulla città ordinariamente convenivano sulla città di Karakorum piccolo centro al riparo delle montagne dell'Altai quindi siamo proprio nella in piena Asia e lì in un'assemblea in una grande assemblea si eleggeva il nuovo gran can il quale però a sua volta era anche ormai diventato l'imperatore della Cina e si era profondamente sinizzato aveva acquistato caratteristiche della grande cultura imperiale cinese questo fenomeno straordinario dura dalla morte di Gengiz Khan 1227 Gengiz Khan muore più o meno un anno dopo San Francesco d'Assisi tanto per darvi dei parametri storici che si possono ricordare bene fino agli anni 60 del 300 in questi 140 anni i mongoli hanno dominato l'Asia e un signore mongolo ha seduto nel grande trono di Giada della città proibita di Pechino come Gran Can il quadro del continente eurasiafico quale siamo andati lungamente tracciandolo ormai è quasi completo noi abbiamo un grande impero mongolo che però è suddiviso in enormi immensi ma noi siamo obbligati facendo un discorso comparativo a dire in più piccoli regni mongoli che vanno dall'Europa orientale fino all'Asia centrale il Gran Can corrisponde all'imperatore cinese negli annali imperiali cinesi che hanno continuato a essere aggiornati fino all'inizio del secolo scorso quando l'impero cinese è stato abolito dalla rivoluzione nazionalista negli annali imperiali cinesi diciamo il periodo dell'impero mongolo il periodo in cui quindi la Cina è soggetta a una classe dirigente mongola tartara se preferite i due termini sono perfettamente sinonimi va grossomodo dalla prima metà del duecento il tredicesimo secolo agli anni sessanta del trecento questa dinastia si chiama la dinastia Yuei nella nomenclatura imperiale cinese verso il Yuei o Yuan mi perdono per la mia pronuncia cinese che deve essere rovinosa ma io non ho nemmeno gli strumenti per controllarla gli imperatori Yuei negli anni sessanta vengono cacciati da una dinastia nazionale cinese nazionale che inaugura anche un sistema rigorosamente nazionalista che finalmente la conosciamo con un nome molto semplice molto caro a noi italiani non più giovanissimi perché è la dinastia dei Ming io credo che i Ming come dinastia siano fra i più popolari e noti di tutto quel pochissimo quel quasi niente che ordinariamente sappiamo della civiltà cinese della cultura imperiale cinese noi italiani non più giovanissimi lo ricordiamo bene il nome Ming perché come qualche ascoltatore ricorderà con commozione è il nome dell'imperatore delle stelle nella serie dei fumetti di Flash Gordon che hanno pur detto qualche cosa alla nostra generazione che ora sono tornati varie volte di moda l'imperatore Ming naturalmente si chiama così nella logica della scelta dei fumettisti proprio in ricordo in omaggio se volete a questa dinastia Ming che ha dominato la Cina dal 1360 circa vi sto dando i parametri cronologici un pochino generali per farveli ricordare meglio ma controllateli se ne avete bisogno di essere più precisi fino a verso la metà del 1600 la metà del XVII secolo quindi praticamente parte del XIV tutto il XV tutto il XVI e una parte del XVII secolo in Cina sono stati dominati da questa dinastia Ming molto rigida molto dura con un severissimo cerimoniale di corte e caratterizzata da una chiusura i cinesi si sono presi paura dopo l'invasione dei mongoli e a questo punto chiudono veramente rigorosamente i portoni di accesso del celeste impero e l'impero dei Ming resta famoso nella storia come un impero con una Cina chiusa su se stessa che esprime una straordinaria cultura raffinatissima elevatissima tutto quello che volete ma che nello stesso tempo si chiude un po' su se stessa questo è il quadro che ci serve perché a questo punto possiamo anche cominciare a parlare finalmente direte voi di Tamerlano parliamo di Tamerlano nuovamente quindi i tempi non sono ancora maturi ve lo faccio un po' sospirare questo Tamerlano perché il nostro scopo è di parlare dei rapporti fra Tamerlano e l'Europa per il momento quindi limitiamoci a dire questo alla fine del 300 quando Tamerlano conquista da solo una parte del mondo asiatico che corrisponde grosso modo alle repubbliche dell'ex impero sovietico le repubbliche asiatiche musulmane naturalmente Timur è un musulmano molto osservante l'usbekistan il kirghizistan il pakistan l'afghanistan una parte dell'iran settentrionale eccetera quando Tamerlano si ritaglia questo suo principato questo lo può fare perché ormai l'impero mongolo è andato a pezzi e l'impero mongolo è andato a pezzi anche perché a un certo punto è venuto a mancare la guida suprema il re dei re tartari l'imperatore il gran can che era anche l'imperatore della Cina ormai l'imperatore della Cina non è più il gran can dei mongoli è un imperatore cinese che però attenzione mantiene le sue prerogative di sovrano delle etnie mongole le etnie mongole più o meno fedelmente si proclamano ancora vassalle dell'imperatore della Cina naturalmente il can dell'ordadoro che viveva a Sarai nel centro del basso corso del Don beh insomma se ne può infischiare abbastanza dell'imperatore della Cina anche se formalmente si proclama il suo suo servo e dimanda ogni tanto dei tributi qualche regalo regali splendidi ma pur sempre qualcosa di irrisorio in realtà poi c'è tutto il mondo persiano siriano iracheno attuale eccetera che è diviso fra varie signorie il nostro tamerlano si inserisce in questa anarchia generale per cercare di ritagliarsi un suo territorio sempre proclamandosi tuttavia schiavo servo noi diremmo vassallo ma il termine è un po' troppo occidentale dell'imperatore della Cina a un certo punto accetterà anche qualifiche onorifiche lui è si dirà genero imperiale perché era perfino imparentato con la casa imperiale cinese rivestirà abiti e funzioni della gerarchia imperiale cinese ma tutto questo sarà una finzione giuridica perché l'imperatore della Cina della dinastia Ming quindi non è che potesse granché obbligare Tamerlano a seguire la sua volontà anzi ai primi del Quattrocento come sappiamo e come ho già detto in una delle puntate precedenti Timur tenterà addirittura l'assalto alla Cina quindi l'idea folle di questo grande conquistatore mongolo dei primi del Quattrocento è ricostruire l'impero di Genghis Khan essere il vero successore di Genghis Khan lui un po' barando dal punto di vista genealogico si diceva successore di Genghis Khan si diceva anche discendente di Genghis Khan non era vero vi ricordo perché i parametri cronologici spesso si perdono per strada vi ricordo che noi stiamo parlando di un personaggio vissuto grosso modo fra 1335 e 1405 che si proclama discendente di un personaggio che è morto nel 1225 quindi c'è un bello scarto più di un secolo comunque Tamerlano farà circolare anche la notizia falsa di essere un discendente diretto di Genghis Khan e naturalmente quello che lui vuol fare alla fine della vita è riconquistare Pechino riconquistare la Cina porre di nuovo un Khan mongolo cioè se stesso sul trono di Giada della città proibita naturalmente è un disegno che non gli riuscirà e che lo vedrà perdente ammesso il non concesso di un personaggio come lui si possa dire che fu un perdente Tamerlano è quindi un vassallo dell'imperatore cinese che non è più da alcuni decenni un Khan mongolo ma che è un principe cinese che ha recuperato l'indipendenza la libertà la libertà collettiva naturalmente della sua patria e si appresta ai primi del Quattrocento e qui noi termineremo la nostra conversazione alla conquista della Cina ma non si è questo è il punto Timur non si è dedicato istituzionalmente coerentemente alla espansione del suo principato verso est come ci aspetteremmo da uno la cui scopo finale le cui brame finali sono riposte nella conquista della Cina che era naturalmente un progetto folle questo va da sé infatti non gli riuscirà no e Timur ci sorprende perché la sua vita è fatta di continui raids che vanno dall'estremo est all'estremo ovest e anche all'estremo nord di un'area enorme un'area compresa tra la Siria e il Mediterraneo la Siberia e l'Immalaya tutto questo fatto in un relativamente breve periodo di anni che vanno appunto dagli anni 30 alla fine del secolo XIV come entra però e in questo quadro semplerebbe non aver luogo questo ingresso come entra Tamerlano nella storia europea ecco anche per chiarire queste cose è necessario naturalmente il consueto e tradizionale passo indietro il ritorno al punto di partenza in cui eravamo qualche giorno fa l'Europa della fine del Medioevo della guerra dei cento anni un'Europa dominata da tante cose un'Europa in crisi se vogliamo abbiamo parlato appunto di questa grande guerra che oppone due dinastie familiari fra loro legate da vincoli di sangue una delle quali è quella dei re di Francia e l'altra quella dei re di Inghilterra e la cui posta è la corona del regno di Francia conosciamo questa situazione grossomodo situazione durante la quale in Spagna assistiamo a un momento di sosta i tre regni di Aragona di Castiglia e di Portogallo non si decidono ancora a conquistare l'emirato saraceno musulmano di Andalusia lo faranno soltanto nella seconda metà del Quattrocento al tempo della cosiddetta guerra di Granada che si concluderà proprio nel 1492 proprio il fatidico 1492 in cui Cristoforo Colombo sbarca in America il magnifico Lorenzo a Firenze muore e quindi insomma l'anno della fine del Medioevo diciamo così è l'anno della fine del Medioevo è lo stesso della caduta dell'ultimo grande emirato musulmano in terra d'Europa ma con questo riprendo un discorso che avevamo già avviato sere fa con questo non vuol dire che la presenza musulmana in Europa nel Quattrocento sia limitata alla sola Spagna meridionale perché nel frattempo era successo qualche cosa da quell'altra parte dell'Europa qualche cosa all'estremo sud orientale dell'Europa nella penisola balcanica nella penisola balcanica si stava stava nascendo una nuova potenza musulmana portata da una tribù turca che era evidentemente arrivata in quell'area come conquistatrice e a questo punto noi siamo in presenza dell'ultimo in ordine di tempo tra i protagonisti della nostra storia che noi vedremo fuggevolmente ma che avrà un ruolo molto importante perché dovremo proprio cominciare questa nuova etnia musulmana che si mostra timidamente beh timidamente si fa per dire comunque nel sud della penisola balcanica quindi fate conto attuale Albania Macedonia sud della Bulgaria e costa della fra dell'antica traccia che corrisponde a quella che noi chiamiamo oggi Turchia europea e la chiamiamo Turchia proprio perché evidentemente la penisola anatolica che fino ad allora era stata sia pur contesa tra dinastie turche che c'erano già inserite e mondo bizantino nel corso del quattordicesimo secolo diventa interamente turca grazie a un gruppo dominato da una dinastia che è la dinastia dei figli di Osman o Osman che è un nome proprio musulmano naturalmente quindi i turchi detti ottomani oppure come noi diciamo meno spesso in italiano i turchi Osmanli io preferisco chiamarli ottomani anche se francamente è meno preciso il termine Osmanli è forse filologicamente un po' più preciso comunque stiamo parlando i turchi ottomani allora chi sono i turchi ottomani che sono un pochino la ragione per cui Tamerlano è indotto a intervenire nella storia europea e quindi bisogna avere a riguardo le idee chiare i turchi generale grande etnia uralo-altaica fatta di vari popoli di vari gruppi eccetera si sono islamizzati si parla di musulmani nel corso dell'undicesimo secolo ed hanno anche loro cominciato ad abbandonare le loro sedi dell'asia centrale passando però orientandosi però non tanto per un cammino che avrebbe dovuto andare verso verso est quindi fatalmente dall'asia centrale passando dal nord del mar caspio ma invece a sud del caspio quindi i turchi islamizzati dell'undicesimo secolo hanno cominciato a occupare l'area iraniana e poi dall'iran sono passati alla persia all'iraq attuale e anche alla penisola anatolica quindi nel corso dell'undicesimo secolo sono cominciate ad arrivare nella penisola anatolica tribù turche che si sono insediate e questo movimento migratorio è continuato fino al quattordicesimo secolo quando comincia a interessarci più direttamente certo se si volesse fare un discorso veramente puntuale bisognerebbe chiedersi a questo punto noterete qualcuno di voi avrebbe notato senza dubbio che io ho evitato un po' una cosa un problema che è un problema nodale che sarà certamente affiorato alla mente di molti di voi ma insomma come mai continuamente sia pure a intervalli irregolari queste popolazioni nomadi del centro dell'asia si mettono in movimento dopodiché poi per secoli sembrano essersi nuovamente insediate con serenità e poi dopo qualche secolo ricominciano a muoversi questa è una situazione che si è verificata più volte fra il secondo terzo secolo dopo Cristo fino a tutto il quattordicesimo secolo ma insomma cosa c'è in Asia centrale quale motore quale vortice quale ventilatore quale quale fonte di qualcosa che obbliga le popolazioni di quell'area a muoversi ogni tanto verso i confini del macro continente eurasiafico stiamo parlando di timur tamerlano il grande conquistatore turcomanno quindi asiatico della fine del trecento primi quattrocento abbiamo cercato di prendendo un po' il tema molto alla larga come si usa dire cercato di delineare quelli che sono stati i momenti salienti della storia non solo asiatica nemmeno europea perché il nostro tamerlano ci interessa per le ripercussioni europee evidentemente ma anche in senso più ampio eurasiatica macro continentale del mondo medievale per cercare di capire come si è arrivati a questa grande espansione dell'impero di tamerlano che riprende riorganizza e quasi riproduce all'ancora più grande impero del suo preteso antenato Genghis Khan preteso perché in realtà fra i due non c'era una linea di successione ma lui sosteneva che ci fosse e fece in modo che i suoi storici di corte dimostrassero una discendenza che ovviamente non c'è mai stata Genghis Khan aveva conquistato l'Asia centrale ed era arrivato dalla Cina che poi sarebbe stata conquistata a sua volta dai suoi successori immediati fino praticamente all'Europa orientale fino al Danubio fino alla Moldava e tutto questo era accaduto nei primi del duecento il nostro problema è capire come due secoli dopo due secoli scarsi fra tre e quattrocento si sia riprodotto un fenomeno analogo massicciamente più più ristretto si fa per dire perché si sta parlando di di grandezze immense soprattutto per quel tempo ma in realtà Tamerlano non ha mai sottomesso la Cina come invece i successori mongoli di Genghis Khan avevano fatto ed è proprio morto nel gennaio del 1405 partendo settantenne e chissà forse anche qualche anno di più del 70 aveva all'epoca partendo in pieno inverno settantenne per la conquista della Cina e lui partiva dall'attuale Kazakistan anzi scusate dall'attuale Uzbekistan il che vuol dire che tra lui e la Cina si interponevano le grandi montagne dell'Indukush l'appendice nord occidentale della catena dell'Himalaya un conquistatore che ha lasciato anche nella memoria occidentale una striscia di ferocia e di follia qualcuno lo ha definito il più feroce condottiero del mondo dopo Alessandro Magno e prima di Stalin beh ora la graduatoria delle feroce sono sempre difficili a farsi noi non abbiamo questa impressione di Alessandro Magno per esempio ma Alessandro Magno per noi occidentali è roba nostra in un certo senso chissà come si sentiva lui chissà se veramente lui si è mai sentito davvero greco o davvero qualche cos'altro in fondo quando è morto è morto come un monarca siro persiano e sono gli incerti della storia ma non è di Alessandro che dobbiamo parlare e per il momento nemmeno di Tamerlano per ora noi dobbiamo ancora creare lo scenario nel quale poi poter calare agevolmente il nostro protagonista dicevamo che il nostro grande problema è il problema del nostro protagonista di quello che dovremmo chiamare Timur perché così si chiamava Tamerlano è una deformazione come ricorderete il nostro grande protagonista va calato in una realtà di lungo anzi di lunghissimo periodo perché altrimenti si rischia di non capirne il valore e il significato questa realtà di lunghissimo periodo è costituita da quei grandi movimenti che noi eravamo abituati a chiamare almeno fino a qualche decennio fa le invasioni barbariche poi naturalmente il politically correct si è ha invaso anche la storia è sembrato che il termine invasioni barbariche fosse etnocentrico che sottintendesse una valutazione negativa di queste culture che appunto noi usando il termine greco e romano siamo abituati a chiamare barbariche che poi detto fra parentesi in greco non è proprio offensivo semmai è leggermente canzonatorio il termine barbar da cui barbaros cercava di riprodurre la pronuncia che i barbari per eccellenza secondo i greci cioè i persiani la pronuncia che i persiani avevano quando cercavano di parlare in greco ora la lingua che ha preceduto il moderno farsi la lingua che si parla oggi in Iran una lingua indoeuropea molto affine al sanscrito che si parlava in India la lingua del gruppo del cosiddetto satem cioè una lingua affine allo stesso greco in fondo come affine al russo e alle lingue slave piuttosto che non affine alle lingue germaniche e a quelle latine ma i rapporti ci sono molto stretti anche dicevo che questa lingua palavica parlata dagli antichi persiani anche se era abbastanza simile al greco aveva delle differenze delle caratteristiche fonetiche come la consonante monade per cui tutte le consonanti tendevano a ridursi alla sola consonante A da qui la parola barbaros con cui i greci prendevano più o meno amabilmente in giro i poveri persiani quando cercavano di parlare greco e non riuscivano a articolare bene le vocali che come sapete per le nostre lingue indoeuropee è un bel guaio per le semitiche no perché le semitiche sono lingue consonanti che hanno vocali molto tenui ma noi alle vocali ci teniamo e i barbari la parola barbaros è nato da questo noi sappiamo che i barbari cioè che le popolazioni del centro Asia dell'Europa del centro-est a un certo punto del nord-est a un certo punto si sono cominciate a mettere in moto a partire dalla circa il secondo terzo secolo e da questo sono nate quelle cose che noi un tempo chiamavamo invasioni barbariche e che oggi chiamiamo piuttosto migrazioni di popoli un bel termine molto pulito e molto rispettoso in realtà noi non sappiamo perché sono iniziati questi movimenti un grande storico inglese amante dei grandi temi dei grandi spazi e delle lunghe durate che è Arnold Toynbee storico straordinariamente affascinante ha sostenuto che queste invasioni barbariche siano state mosse da un problema climatico cioè un abbassamento della temperatura che ha distrutto i pascoli del centro Asia obbligando le popolazioni tartare mongoliche uralo-altaiche del centro dell'Asia a muoversi verso aree più temperate oggi si pensa quasi il contrario si pensa cioè che il clima centri ma che sia stato piuttosto un surriscaldamento a far muovere queste popolazioni comunque è un fatto che dal secondo terzo secolo dopo Cristo queste popolazioni si sono mosse procedendo dal centro desertico e a clima ferocemente continentale dell'Asia verso i due estremi del continente asiatico dove ci sono i mari temperati quindi verso l'oceano pacifico quindi verso la Cina o verso il Mediterraneo quindi verso l'impero romano da allora per la nostra storia occidentale una lunga sequenza di tentativi di insediamento pacifico o semi pacifico nell'impero romano prima e poi di veri e propri sfondamenti anche feroci sacco di Roma di Alarico nel 410 assalto a Roma di Genserico re dei vandali che si erano insediati in Africa attraverso un lungo giro che li aveva portati dall'Asia all'Europa dall'Europa verso le coste spagnole poi nell'attuale Algeria più o meno Genserico viola a sua volta Roma nel 455 ricordo ai più distratti fra voi che Roma non era più veramente la capitale dell'impero la capitale dell'impero ormai era la nuova Roma la Nea Rime sul Bosforo quindi quella che noi usiamo chiamare Costantinopoli e che oggi si chiama Istanbul però Roma aveva sempre un fascino un significato simbolico tali per cui veramente i barbari entro Roma i barbari che violano il sacro suolo di Roma inviolato fino dal tempo delle incursioni celtiche del IV secolo avanti Cristo erano veramente qualche cosa una notizia che sconvolgeva il mondo romano e che forse ha contribuito molto anche allo sfrangiarsi e al polverizzarsi dell'impero almeno nella sua parte occidentale come sapete poi l'impero romano è continuato e come noi lo chiamiamo impero bizantino ma non c'è soluzione di continuità si può dire fino al XIII secolo fino alla cosiddetta quarta crociata che viola Costantinopoli ma poi è ripreso e soltanto i turchi nel 1453 lo hanno cancellato completamente salvo poi proclamarsene eredi il grande solimano il grande sultano del XVI secolo detto al canoni il restauratore della legge del canon cioè della legge di Giustiniano si riteneva e proclamava di essere il successore del sacro romano impero esattamente come proclamavano di essere tali i duchi di Moscovia che si erano autodenominati tsar cesari quindi imperatori a loro volta fascino e continuità dell'impero romano ma riprendiamo il nostro discorso sulle invasioni barbariche invasioni barbariche praticamente continuano ed intermittenza fino al XV secolo mentre d'altra parte minacciano anche l'impero cinese ma l'impero cinese resiste la grande muraglia serve proprio a contenere il pericolo mongolico il pericolo dei nomadi occidentali della steppa ormai la grande muraglia è diventato un tema comunissimo ci sono sopra Walt Disney ci ha perfino fatto un grande film a cartoni animati la muraglia sta diventando un obiettivo turistico sempre più comune sempre più visitato da noi occidentali quindi questo tipo di storia sta diventando per fortuna sempre più familiare anche a noi e dico per fortuna perché in tempi di globalizzazione noi non ci possiamo più permettere di ignorare la storia di paesi e di popoli diversi da quelli europei diversi da quelli occidentali altrimenti ci capitano addosso certe cose sto pensando anche a quello che succede ormai da molti anni e noi non conoscendo nessun precedente storico di quegli di quei paesi di quei popoli non siamo in grado di comprendere che cosa ci sta succedendo quindi in realtà in ultima analisi il messaggio che io vorrei inviare parlando di Timur di Tamerlano è attenzione stiamo parlando di qualche cosa che è successo nel fra quattordicesimo e quindicesimo secolo ma non lasciatevi ingannare in realtà stiamo parlando di oggi come del resto sempre si fa quando si parla di storia immaginiamoci dunque le grandi distese le grandi platerie fra il Caspio e la catena le catene del Caracorum dell'Altai cioè il centro Asia come usiamo chiamarlo freddissimo d'inverno caldissimo d'estate caldo nelle giornate tra la primavera e l'autunno freddo di notte anche in quel periodo perché le escursioni termini che sono tremende un deserto però che vive un deserto dove c'è erba dove ci sono pascoli un deserto attraversato da una grande via di comunicazione la via della seta che non bisogna immaginarsi come un'autostrada ma che è un fascio di carovaniere che partono dalla Cina e che conducono fino a Damasco fino a Istam fino a Costantinopoli quindi fino al nostro Mediterraneo i prodotti più apprezzati dalle genti occidentali quei prodotti che noi chiamiamo con un nome generale e generico le spezie ma che sono tutte quelle sostanze ordinariamente vegetali ma anche minerali e anche animali che servono alla conservazione dei cibi servono alla tintura dei panni quindi alla grande manifattura laniera e setiera degli occidentali servono alla medicina servono insomma alle ai più svariati aspetti della vita e della produzione dell'occidente che si fermerebbe senza queste cose naturalmente lungo la via della seta passano anche merci occidentali di scambio un po' meno importanti come merci però molto importanti sotto forma di beni che noi chiamiamo denaro in fondo cioè metalli pregiati argento piuttosto che oro ma anche oro che vengono forniti agli orientali in cambio delle loro merci quindi un grande flusso di metalli pregiati che dall'occidente va verso l'oriente e un grande flusso di merci dall'oriente verso l'occidente vediamo che questa bilancia commerciale così sfavorevole a noi occidentali nel corso del cosiddetto basso medioevo a partire dal XII secolo si modifica a vantaggio degli occidentali che hanno anche loro delle merci da esportare ma al di là di questo aspetto commerciale che bisogna tenere presente che richiameremo continuamente l'Asia centrale è un'area di grandi spostamenti di grandi migrazioni queste migrazioni cominciano a orientarsi ovviamente verso la Cina è verso la Cina che i popoli uralo-altaici o mongolici o turco-mongoli come si dovrebbe dire che sono attanagliati da questi problemi come la siccità come la mancanza di pascoli naturalmente il loro primo progetto se preferite il loro primo impulso è procedere verso il mare temperato più vicino che è il Pacifico e per far questo bisogna attraversare l'impero cinese ovviamente i cinesi sedentari agricoltori organizzatori di un grande stato ben ordinato non sono affatto d'accordo che queste orde di nomadi attraversino il loro territorio e magari ci si insedino quindi evidentemente li respingono e siamo alla grande muraglia queste popolazioni respinte dalla Cina se in Cina non ci fosse stata un'organizzazione statale imperiale così rigorosa così ben gestita probabilmente in Europa non ci sarebbero state immigrazioni di popoli quindi le invasioni barbariche si può fare la storia con i secoli ma al condizionale ebbene sì non solo si può ma bisogna farla perché solo comprendendo quello che avrebbe potuto succedere non è accaduto noi capiamo più profondamente l'importanza di quello che è veramente accaduto quindi io non vi faccio il raccontino fantascientifico su che cosa sarebbe successo se non ci fossero state le invasioni barbariche fra secondo e quinto secolo dopo Cristo e se l'impero d'Occidente avesse continuato la sua corsa gloriosa perché questo non è argomento di storia se così facessi farei un magari divertente romanzo fantastorico ma non sono queste le mie intenzioni io voglio parlare di storia e quindi voglio sottolineare l'elemento importante determinato dallo sviluppo storico nel lungo periodo di queste migrazioni arrivati alla fine di questo compito noi potremo finalmente parlare del nostro grande protagonista del nostro tamerlano le invasioni barbariche continuiamo a chiamarle così anche se è poco preciso e soprattutto se non è politica di Corret nel corso del secondo secolo dopo Cristo i romani cominciano a registrare una strana attività anche marinara perché contrariamente a quello che noi ci immaginiamo noi immaginiamo sempre questi barbari rigorosamente a cavallo e quindi li trasferiamo sempre in uno scenario terrestre ma spesso sono riusciti anche a organizzare delle vere e proprie potenze marinare e quindi bisogna immaginarseli per nave bisogna immaginarli un po' come corsari un po' come più tardi immagineremo i vichinghi i goti già nel secondo terzo secolo cominciano a circolare per il mar nero con le loro navi e a condurre un'attività corsara che preoccupa Roma due secoli e mezzo più tardi nel quinto secolo anzi scusate tre secoli e mezzo più tardi nel quinto secolo lo farà un'altra popolazione germanica convertita già al cristianesimo sia pure al cristianesimo eretico al cristianesimo ariano che sono i vandali molto affini ai goti e di cui è rimasto il nome poveracci perché noti per essere non esattamente educati quando assalivano le città o gli insediamenti altrui sapete cosa vuol dire un atto vandalico ancora oggi beh in realtà non sembra che poi i vandali fossero peggiori di altri solo che i vandali nel 455 hanno occupato Roma e non l'hanno fatto effettivamente con molto rispetto da lì la cattiva nomea che li accompagna li accompagnerà forse per sempre almeno in italiano e che in fondo tanti altri meriterebbero come più di loro ma tant'è riprendiamo quindi il racconto delle nostre successive ondate di popoli che sono prima germanici e poi sempre più mongoli e ne capite chiaramente il perché anche se il mezzo radiofonico purtroppo ci toglie la facilità di far vedere queste cose con cartine geografiche magari con le cartine che fanno vedere i movimenti per mezzo di accorgimenti dinamici quelle belle cose che si fanno oggi soprattutto col computer comunque immaginatevi un nucleo di popolazioni uralo-altaiche che spinge dal centro dell'Asia e spinge verso gli estremi del continente eurasiafico non ce la fa sfondare in Cina sfonda verso l'impero romano lì ci riesce ma l'impero romano è ormai diviso in due blocchi un blocco orientale e un blocco occidentale il primo blocco è solido e ben organizzato e gli imperatori d'Oriente che stanno a Costantinopoli non hanno nessun interesse a fare entrare queste popolazioni all'interno della loro compagine intendiamoci queste popolazioni non si presentano con atteggiamenti sempre necessariamente aggressivi in un primo tempo vogliono solo insediarsi nell'impero perché vogliono magari diventare coltivatori a loro volta contadini a loro volta insediarsi e diventare sedentari appunto non sono degli aggressori violenti e orgogliosi magari mostrano di esserlo perché questa è la loro cultura germanica una cultura fondata sulla guerra sulla preda sulla caccia ma sono soprattutto impauriti a loro volta perché alle loro spalle da est ci sono altre popolazioni uralo-altaiche mongoliche che li premono quindi noi abbiamo un'Asia popolata da mongoli turco-mongoli che preme su un'Europa orientale popolata da popolazioni germaniche diverse quindi per lingua e per cultura che sono germaniche o anche slave le quali a un certo punto si vedono letteralmente sospinte verso ovest come come se fossero su un autobus troppo pieno nell'ora di punta in una città e se fossero obbligate a scendere alla prima fermata perché ci sono quelli dietro di loro che spingono violentemente per scendere il paragone è un grosso ano ma forse rende l'idea ed ecco quindi le successive ondate delle migrazioni dei popoli e che a un certo punto si sono trasformate in invasioni quando? quando la linea di fortificazione romana il cosiddetto limes che poi non era una vera e propria fortificazione continua era piuttosto una strada che segnava il confine dell'impero romano lungo i due fiumi del Reno e del Danubio che fanno se li guardate su una carta geografica una sorta di L perché il Reno nasce a sud nelle Alpi Svizzere e va verso nord mentre il Danubio nasce non lontano del Reno ma va verso est e questa era la linea fortificata che per i romani era il limite dell'impero i romani non avevano avuto bisogno di fortificazioni perché erano l'unica potenza dell'area nessuno li minacciava poi a partire dal secondo terzo secolo si vede che qua e là ma non solo nel continente anche nelle isole britanniche l'attuale Inghilterra succede lo stesso si vede che cominciano a fortificare finché possono fanno fortificazioni leggere quindi una strada protetta da punti di guardia fortini punti di avvistamento niente di drammatico ogni tanto fanno dei veri e propri valla valla è plurale della parola vallum e vallum vuol dire proprio fortificazione ecco immaginatevi qualche cosa di abbastanza simile alla muraglia cinese i romani non fanno nulla di così ampio lungo e continuativo ma se voi andate in Roma Nero fra l'Inghilterra e la Scozia il vallo d'Adriano eccetera eccetera vedete che c'è vallo di Traiano vallo di Adriano qualche cosa di simile ancora in piedi perché quelli erano i punti nevralgici lasciamo perdere l'aspetto inglese fra la Britannia e la Caledonia l'attuale Scozia si doveva organizzare una muraglia continua perché i Caledoni e i Picti popolazioni scozzesi erano come del resto è noto estremamente bellicose ma guardiamo soprattutto all'Europa orientale attraverso l'Europa orientale arrivano queste continue ondate di popolazioni germaniche sospinte da popoli uralo-altaici che a loro volta sono alle loro spalle e che anche loro sono diretti verso ovest e per motivi analoghi anche loro fuggono alla carestia fuggono alle praterie che si stanno bruciando per ragioni climatiche vogliono arrivare ai mari temperati e alle terre più fertili e a una vita migliore l'impero romano li accoglie perché l'impero romano è in crisi anche demografica i romani hanno bisogno di braccia per lavorare la terra e hanno bisogno anche di braccia per difendere i loro stessi confini i primi germani quindi sono tutt'altro degli invasori sono degli ospiti anche abbastanza graditi che fanno gli agricoltori e fanno i soldati immaginatevi qualche cosa di simile a quella istituzione che gli tsar in età moderna hanno pensato in Russia ai cosiddetti cosacchi che erano appunto popolazioni originariamente nomadi che vengono insediate che fanno in zone in aree di confine che fanno anche loro i soldati e gli agricoltori è qualche cosa che succede molto spesso nella storia in fondo i kibuzim del primo periodo del periodo eroico dello stato di Israele non sono stati nulla di molto diverso dai cosacchi o dai germani acquartierati intorno all'imes romano soldati agricoltori quindi ma ben presto dietro ai soldati agricoltori spuntano altri che non hanno né tempo né voglia di collaborare con i romani anche perché è un lusso che essi non si possono più permettere ed ecco quindi la tragica sequenza degli assalti delle ondate barbariche alla compagine romana quella che distrugge non l'impero romano ma la parte occidentale dell'impero romano anche perché nella parte orientale dell'impero romano dove le cose funzionano meglio le truppe imperiali riescono a presidiare bene i confini fanno passare quel tanto di le quote diremmo noi oggi quel tanto di barbari che servono effettivamente per essere insediati che hanno buone prospettive di diventare contadini agricoltori ora non non pensate che io vi sto proponendo una sorta di lettura del periodo fra il terzo e quinto sesto secolo alla luce della logica che so io della legge bossi fini non è così evidentemente però effettivamente ci sono delle analogie quando una compagine si trova in necessità di accogliere dall'esterno forza lavoro ma nel caso romano c'era anche il problema della difesa evidentemente c'è un'offerta molto ampia da parte di popolazioni esterne che vorrebbero entrare noi abbiamo un bisogno quindi la nostra domanda è limitata bisogna regolamentare quest'offerta secondo le esigenze della nostra domanda questa è una cosa ovvia se ne sono accorti i romani fra terzo e quinto secolo ce ne stiamo accorgendo noi fra ventesimo e ventunesimo e qui evidentemente l'analogia si deve fermare per motivi di buon gusto ma anche di comprensione storica il problema è semplicemente che appunto la domanda di ingresso nell'impero romano è sempre più forte e sempre più urgente a un certo punto l'impero la compagine imperiale nella sua parte occidentale che è più debole più fragile meno organizzata non ce la fa più e allora siamo alla trasformazione di migrazioni in invasioni ed ecco che arrivano prima i visigofi poi arrivano gli unni ecco finalmente che gli uralo altaici i mongoli che premevano dietro le spalle dei germani spingendoli verso il mondo latino finalmente fanno la loro apparizione a loro volta e arriviamo naturalmente anche ad avere gli unni in casa nostra gli unni in Italia secondo la leggenda il principe Attila un personaggio fra l'altro politicamente e culturalmente molto importante tutt'altro che un bestione barbaro un uomo crudere ma estremamente colto che conosceva bene il mondo di Costantinopoli parlava greco Attila viene comunque fermato dal vescovo di Roma che gli impedisce di venire a Roma dove lui avrebbe forse saccheggiato o fatto di peggio i mongoli in realtà si ritirano gli unni che le fonti cinesi conoscono benissimo che chiamano Xionnu con un nome molto simile i greci li chiamavano Cunei noi in latino li chiamiamo unni e li conosciamo bene si ritirano ma arrivano poi altre popolazioni germaniche ed ecco arrivare gli ostrogoti e poi dopo gli ostrogoti dopo un breve periodo arriveranno i longobardi e siamo attenzione già al sesto secolo circa sembra che col sesto settimo secolo le cose si calmino invece no invece le cose ricominciano a muoversi fra nono e decimo secolo noi abbiamo incursioni barbariche di ogni genere i magiari o ungari che sono uralo altaici che arrivano dall'asia poi si insederanno in quella che noi chiamiamo l'ungheria medio corso del danubio però arrivano anche dal nord in seguito probabilmente proprio allo scioglimento dei ghiacci a una stagione buona climaticamente arrivano i normanni e intanto ci sono anche i musulmani che stanno conquistando il mediterraneo e quindi altro grande movimento di popolazioni e mutamento nella nostra geografia fra nono decimo e undicesimo secolo il nostro occidente subisce ancora una nuova ondata di questi movimenti nati dalla inquietudine dell'asia complicata questa volta anche da un rivolgimento climatico del nord che induce le popolazioni scandinave a scendere verso il mediterraneo più temperato successivamente nel tredicesimo secolo quindi vedete tre secoli di calma e poi nel tredicesimo secolo ci ritroviamo alle solite all'inizio del tredicesimo secolo dalla Polonia fino al vicino oriente in cui i crociati e i musulmani si stanno picchiando ma tutto sommato non si picchiano con troppa convinzione avete presente come Federico II e il sultano del Cairo nel 1229 si mettano d'accordo per una spartizione tranquilla di Gerusalemme quindi insomma non c'è quello scontro di civiltà che qualcuno oggi vorrebbe immaginarsi non c'è fra cristiani e musulmani dico ma nel frattempo arriva qualcun altro e arrivano letteralmente arrivano i mongoli Genghis Khan ai primi del duecento è riuscito a unificare le popolazioni mongoliche ne ha organizzato una sorta di grande impero federale attribuendo le regioni diverse del suo grande impero a principi che sono suoi parenti suoi nipoti molto spesso Genghis Khan muore nel 27 nel 1227 due anni prima che l'imperatore Federico II vada incrociata a Gerusalemme e quando Genghis Khan muore nel 1227 noi abbiamo già principi tartari principi mongoli che hanno assalito le propaggini orientali della nostra Europa il nipote di Genghis Khan Batu Khan fra gli anni venti e gli anni trenta del tredicesimo secolo riesce a portare le sue truppe dalla Polonia alla Bohemia attuali fino ai Balcani poi a un certo punto si ferma c'è una crisi interna di tipo dinastico all'interno dell'impero mongolo e quindi questa invasione dell'Europa che avrebbe potuto esserci e già erano nate leggende i mongoli erano gli araldi dell'anticristo erano gli antichi popoli di Gog e Magog guardate caso fra l'altro il termine Magog ricordava molto la parola mongoli e i popoli apocalittici di Mogog e Magog che si sarebbero rovesciate sulla cristianità alla fine dei tempi quindi mirate nel presente anche questo quadro simbolico e mitico molto ricco si diceva addirittura che i principi mongoli avessero degli antenati illustri nei re magi che le reliquie dei quali erano a Colonia e volessero andare a Colonia per rimpadronirsi di queste reliquie grande paura grande sconquasso poi non succede granché alla metà del duecento le acque si calmano di nuovo dopo i postumi di Gengiz Khan l'impero mongolo si organizza in alcune grandi entità statuali il gran Khan mongolo equivarrà ormai all'imperatore della Cina perché i mongoli hanno preso anche la Cina poi si creano grandi principati territoriali il cosiddetto il canato che poi vuol dire canato da Khan capo quindi principato territoriale di Persia un principato mongolo il canato del Chiagatai nel centro dell'Asia e la cosiddetta Orda d'Oru la parola Ordu significa famiglia dinastia l'Orda d'Oru che occuperà l'area fra Crimea e Ucraina attuali grandi principati mongoli che agiscono sempre interagiscono in modo federale e questo è il sistema che va avanti fino all'età del 300 quando succederanno alcune altre cose Buonasera eravamo arrivati a una sistemazione ormai dell'impero mongolo abbiamo questo nuovo soggetto della nostra storia eurasiafica che noi siamo abituati a vedere un po' alla lontana e a conoscere magari attraverso le avventure di Marco Polo e degli altri mercanti missionari e ambasciatori che fra due e trecento hanno fatto la spola fra l'Europa e l'Asia perché questo hanno di nuovo immesso nella storia i conquistatori mongoli una paz mongolica una pace mongolica che bisogna ricordare bisogna inserirla fra la pax romana dell'impero e la pax americana di oggi è stata una pax anche brutale come di solito sono brutali in generale le paces perché il periodo di pace viene evidentemente egemonizzato da una potenza che mantiene la pace con gli strumenti dell'ordine ma anche della repressione se si vuole addirittura del terrore sto parlando dei mongoli naturalmente certo però quest'asia egemonizzata dai mongoli dalla metà del 200 a circa la metà del 300 fa sì che le cose funzionino bene non a caso è stato un periodo di grande prosperità per noi occidentali pensate alla via della seta la via della seta prima dei mongoli è percorsa da continui rischi di guerre di disordini eccetera arrivano loro e per un secolo la via della seta funziona splendidamente e quindi le merci lontane arrivano ai nostri mercati e questa è una delle chiavi per capire la prosperità per esempio dei nostri comuni italiani ma non solo dei nostri comuni italiani la prosperità di tutta Europa e quindi gli europei tornano alla moneta d'oro il fiorino a Firenze il ducato a Zecchino a Venezia e così via è il periodo si può dire uno dei periodi migliori della storia di tutto il nostro occidente non a caso è il periodo delle cattedrali delle università delle banche di Tommaso d'Aquino di Dante è un periodo veramente splendido uno dei presupposti dei quali è anche la grande avventura mongolica un'avventura feroce di conquista di sangue di violenza che però ha pacificato un grande territorio e naturalmente a questo punto gli europei si accorgono di tutto questo e si precipitano a conoscere questa nuova realtà e quindi noi parliamo sempre di Marco Polo ma Marco Polo ha avuto una quantità di predecessori anche se non sono stati così accurati come lui nel raccontarci le sue vicende di viaggio e molti successori fino a metà del Trecento cos'è che blocca questa macchina così splendida così oliata e anzitutto partiamo dalla solita faccenda il clima e le vicende geostoriche o geobiografiche oserei dire geobiologiche la peste la peste del 1347 durata fino al 1350 è veramente una pandemia universale che infuria per tre anni in tutta l'Asia e tutta l'Europa riducendole veramente in ginocchio ma questa peste era stata preceduta da una quantità di rivolgimenti climatici quindi bisogna pensare anche a questo cattive annate agricole peggioramento climatico dovuto a un generale raffreddamento dell'emisfero boreale del nostro emisfero che vuol dire annate peggiori vuol dire carestie vuol dire gente che muore mortalità infantile e questo naturalmente abbassa le difese biologiche e fa sì che quando arriva la peste che in altri tempi forse avrebbe potuto essere meglio contrastata da difese biologiche migliori ed era quello che era accaduto nei secoli precedenti invece questa volta l'epidemia veramente ci distrugge la peste lascia un panorama desolato in Europa come in Asia e naturalmente si accompagna alle doglie per la nascita di un mondo nuovo il mondo che va riorganizzato vedremo vedremo successivamente come tutto questo sia accaduto in Europa ma certo in Asia tutto questo è accompagnato dal fatto che i principati mongoli ormai non c'è più un grande capo un grande principe un imperatore come Genghis Khan che li tenga insieme i principati mongoli si oppongono fra loro con guerre intestine molto forti in Cina una rivolta che potremmo definire nazionalistica guardate anche di tipo etnico perché i cinesi e i euro sono affatto simili fra loro a noi sembra che siano simili ma non lo sono per nulla i cinesi cacciano i mongoli e restaurano verso la metà del XIV secolo una dinastia cinese molto forte molto dura molto colta molto tradizionalista la dinastia dei Ming che proprio si chiude ermeticamente allo straniero la Cina dei Ming vivrà chiusa e sigillata su se stessa fino grosso modo al XVII secolo quando gli occidentali lo obbligheranno in qualche modo ad aprirsi un po' con la loro politica fatta anche di navi e di cannoni non bisogna dimenticarlo quindi l'apertura della Cina sarà un'apertura involontaria all'Occidente ma per tre secoli la Cina resta sigillata e i mongoli l'hanno perduta e sarà il grande rimpianto dei tartari il nostro tamerlano morrà mentre sta cercando di riconquistare la Cina ci sarebbe riuscito probabilmente no ma la polmonite lo ferma sulle pendici dell'Inducus nell'inverno del 1405 e le ripercussioni comunque di questa crisi avviata dalla grande peste non sono soltanto queste cioè naturalmente tutta una riorganizzazione del mondo asiatico a cui corrisponde anche una riorganizzazione del mondo europeo e a questo punto finalmente bisogna tornare in Europa bisogna tornare in Europa dove le conseguenze dei sommovimenti di popolazioni dell'Asia avevano creato un grosso problema l'arrivo dei turchi in Anatolia e nel bacino mediterraneo le popolazioni turche che sono molto affini alle popolazioni mongole erano abituate a muoversi e a muoversi naturalmente verso ovest dall'Asia centrale verso il Mediterraneo questo loro movimento era cominciato dall'undicesimo secolo ma il mondo occidentale il mondo europeo il mondo cristiano il nostro mondo non si era accorto granché di questi turchi già durante l'undicesimo secolo in fondo i turchi avevano portato all'Islam una forza militare nuova e in qualche modo le crociafe si sono organizzate anche per contenere questa forza militare nuova che aveva un elemento guerriero inusitato perché il mondo arabo-persiano fino allora era stato ormai abbastanza pacifico ma i turchi veramente forti e veramente importanti per la nostra storia arrivano nella penisola anatolica che da allora in poi si chiamerà appunto Turchia perché i turchi la insediano completamente a partire dall'inizio del quattordicesimo secolo e si creano vari emirati turchi si tratta di popolazioni uralo-altai che lo ricordo ancora una volta ma musulmane evidentemente musulmane sunnite e queste popolazioni a un certo punto trovano una popolazione un gruppo leader nella dinastia degli osmanli o ottomani gli ottomani sono una dinastia una dinastia allargata potremmo dire una tribù che organizza un grande impero turco nel corso del quattordicesimo secolo nel centro dell'anatolia finché riescono a identificare nella città di brussa la vecchia prusea in bitinia quindi siamo molto vicini a costantinopoli una loro capitale e da lì i turchi ottomani danno serie avvisaglie lanciano seri messaggi perché sono ben decisi ormai a conquistare costantinopoli che non è solo la capitale dell'impero bizantino è una città simbolo per tutti i cristiani nello stesso tempo quest'impero bizantino praticamente non esiste più ci sono ancora imperatori che si chiamano orgogliosamente basileuston romayon cioè sovrano di tutti i romani sono in qualche modo i successori del vecchio impero romano d'oriente ma ormai l'impero bizantino non c'è più non si è più risollevato dal colpo che gli hanno dato i crociati alla fine XIII secolo da Costantinopoli la casa imperiale che è una casa imperiale molto nota fatta di personaggi anche piuttosto colti raffinati personaggi della famiglia dei paleologi sì che lo so che è un cognome è un po' buffo un po' ridicolo per noi ma è così che si chiamano che sono l'ultima dinastia imperiale bizantina ma che governano più o meno la città di Costantinopoli e le immediate vicinanze anche perché i turchi ottomani non hanno assalito solo Costantinopoli che era una città ma era una città enorme poi era anche ben difesa difesa dai greci stessi ma anche difesa diciamo dagli insediamenti dai forti insediamenti coloniali delle nostre città marinare soprattutto di Genova e di Venezia i genovesi e i veneziani avevano a Costantinopoli dei veri quartieri che erano città delle città e Genova e Venezia all'epoca sono delle grandi potenze molto ben organizzate bellicose che hanno forti interessi che si disputano le vie commerciali fra Asia ed Europa evidentemente quindi stanno a Costantinopoli abbarbitate come stanno del resto anche ad Alessandria d'Egitto che è una città nelle mani del sultano del Cairo del sultano Mamelucco del sultano marabo turco che è la più grande potenza musulmana del tempo ma che anche lui ad Alessandria è costretto ad accettare questa convivenza questa coabitazione con gli occidentali questo è il quadro del tempo perché siamo in un Mediterraneo che è veramente egemonizzato dagli occidentali dai latini e soprattutto da tre potenze regionali se vogliamo che però sono estremamente ben organizzate estremamente efficienti ed attive che sono la Repubblica di Genova la quale però è un pochino sempre in difficoltà stretta come è tra il Ducato Visconteo di Lombardia che se ne vorrebbe impadronire il re di Francia che guarda sempre a Genova come uno dei suoi desiderati porti mediterranei quindi Genova è un po' in difficoltà ma resta una grande potenza soprattutto nel Mar Nero la Crimea è egemonizzata dai mercanti genovesi poi c'è Venezia che occupa le isole dell'Egeo che è una quella grande potenza che tutti sappiamo e poi ci sono anche i catalani di Barcellona questo è il quadro composito di un Mediterraneo tenuto saldamente dagli occidentali questo Mediterraneo in cui ormai le potenze cristiane occidentali la fanno dal padrone il sultanato d'Egitto ha sì le sue navi ma non ha una grande potenza ed ha molto da pensare perché c'è un vicino stato cristiano che è il regno di Cipro anche quello egemonizzato da genovesi e da veneziani che gli dà continuamente dei grandi grattacapi il re di Cipro Pietro I di Cipro nel 1364 ha fatto un assalto al porto di Alessandria e ha veramente saccheggiato violentissimamente la città fra l'altro ha saccheggiato anche i quartieri veneziani il che non ha fatto molto piacere a Venezia stessa si è creato un grosso incidente diplomatico ma è comunque ormai i musulmani nel mondo mediterraneo non sono più i padroni della situazione non lo sono più da molto tempo per la verità i piccoli emirati del Maghreb quindi all'ovest della Sirte tra la Tripolitania l'Algeria la Tunisia e il Marocco attuali hanno una loro abbastanza ragguardevole potenza anche navale ma sono molto contenuti i veri signori del mare del tempo sono i catalani i veneziani i genovesi Pisa è ormai decaduta e un pochino anche il regno di Cipro quindi praticamente le lotte se si fanno sono lotte fra occidentali ma la situazione verso la metà del 300 anche lì comincia a cambiare cambia perché la potenza ottomana dà chiari segni di unificare tutti gli emirati piccoli emirati turchi sparsi nella penisola anatolica all'alto c'è anche un'altra potenza occidentale che non bisogna dimenticare che io ho colpevolmente lasciato da parte i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme che erano fondamentalmente un ordine religioso militare che agiva anche in combattimento e naturalmente cavalieri lo dice la parola stessa combattendo a cavallo ma dopo che i musulmani li avevano espulsi dalla terra santa si erano creati una base formidabile nell'isola di Rodi e da lì erano diventati anche loro una potenza navale quindi ci sono anche i cavalieri di Rodi che fra parentesi saranno quelli che poi verranno mandati a Malta ai primi del XVI secolo e diventeranno cavalieri di Malta che ci sono ancora anche se non se non fanno più guerre però non hanno mai perduto e non sono mai venuto in meno alla loro grande vocazione ospitaliera che ancora oggi assolvono come sapete con grande dedizione e con grande dignità sono l'unico ordine militare che ci viene dal medioevo che ci è rimasto e non oserei chiamarlo un fossile sono tutt'altro che un fossile sono un sovrano militare ordine di Malta che ha rapporti diretti con la santa sede e che ancora oggi ha un grande significato nel mondo dal punto di vista umanitario bisogna ricordarsi di queste cose perché altrimenti questo mondo di cui parliamo ci sembra del tutto scomparso no no non lo è affatto e allora abbiamo un mare egemonizzato dagli occidentali Cipro Cavaliere di Malta Venezia Genova i catalani ma su questo mondo si stanno affacciando i turchi egemonizzati a loro volta dalla dinastia ottomana e gli ottomani dalla loro capitale Brusa hanno un obiettivo ben preciso prendere Costantinopoli per prendere Costantinopoli cominciano intanto con il passare lo stretto e con insediarsi dall'altra parte la Frascia il sud dell'attuale Bulgaria una grande città Adrianopoli diventa Edirne la loro nuova capitale a questo punto noi abbiamo nella seconda metà del quattordicesimo secolo una situazione nuova terribile determinata dal fatto che l'abbraccio ottomano da est e da ovest sta per strangolare la città di Costantinopoli la cristianità deve reagire vedremo come essa si organizzi a tale scopo arrivederci siamo in una situazione nuova e drammatica ormai l'occidente europeo si è quasi rassegnato alla perdita di Gerusalemme della Terra Santa e quindi in fondo non c'è più bisogno di crociate le crociate però si continuano a fare si fanno crociate ogni tanto contro la potenza egiziana molto spesso contro gli emirati magrebini che minacciano perché sono emirati corsari la libera circolazione degli uomini e delle merci nel Mediterraneo anche nel bacino occidentale del Mediterraneo si fanno crociate per ricordare al sultano Mamelucco d'Egitto che la cristianità c'è che è forte che ormai è lei a gestire la vita e la politica del Mediterraneo ma diciamo pure che nella seconda metà del Trecento il Mediterraneo è tornato ad essere un lago cristiano un lago europeo perché lago cristiano potrebbe significare anche bizantino senza dubbio il mondo bizantino è un mondo profondamente cristiano ma ormai Bisanzio in ginocchio l'impero bizantino quasi non esiste più è ridotto a Costantinopoli e pochi dintorni c'è anche qualche altro potentato uscito fuori dall'esplosione dei territori greci succeduta alla quarta crociata nel 1204 quando il despota di Epiro l'imperatore di Trebisonda e via discorrendo hanno creato alcuni piccoli stati che potremmo definire neo-bizantini ma insomma ormai l'esperienza di Bisanzio che è la legittima e diretta erede della Roma imperiale è quasi esaurita ma gli occidentali sul mare mediterraneo essere occidentali significa essere veneziani genovesi catalani gli occidentali hanno in mano la situazione veneziani genovesi catalani e anche ciprioti ce li dimentichiamo sempre questi ciprioti invece erano discretamente importanti all'epoca però l'isola di Cipro era economicamente un'economia dominata in mano a genovesi e veneziani che naturalmente si picchiavano anche lì come al solito però ormai è il mondo cristiano che conduce le danze nel Mediterraneo ma c'è questo nuovo elemento questo incognita dei turchi turchi ottomani sono in fondo i turchi una delle tante protesi della grande migrazione mongola del XIII secolo che ha ridefinito la realtà demografica dell'Asia che ha creato un grande sommovimento ad est hanno conquistato i mongoli hanno conquistato l'impero cinese e l'impero cinese è stato tenuto per oltre un secolo da un gran can mongolo a ovest sono arrivati fino quasi alla palestina alla polonia all'ungheria poi anche loro hanno creato un grande impero lorda d'oro l'orda d'oro corrisponde all'ucraina attuale però poi si sono anche loro fermati e i turchi ottomani la famiglia di osman la famiglia degli ottomani che egemonizza questa nuova ondata turca è l'elemento veramente nuovo del periodo di cui stiamo parlando i turchi osmanli ottomani hanno creato uno stato che per certi versi va anche al di là dell'anatolia quella che da allora in poi si chiamerà la turchia perché appunto i turchi vi si insedieranno stabilmente per la verità tribù e popolazioni turche c'erano già insediate in anatolia già dall'undicesimo secolo quindi se si vuole scudate il gioco di parole banale la penisola anatolica era già turchia ma certo gli ottomani questi nuovi arrivati fanno quello che molto spesso fanno gli ultimi arrivati cioè riescono a creare veramente una realtà egemonica e a riunire le tribù le popolazioni turche che erano si insediate in anatolia c'erano anche degli emirati corsari anche sulle coste dell'anatolia che facevano le solite operazioni in mercanzia ma anche traffico di schiavi ma anche assalto pirata alle navi cristiane eccetera eccetera i turchi ottomani riescono a unificare tutta questa realtà e a questo punto l'impero di Costantinopoli si sente veramente accerchiato e qui comincia in un certo senso dopo questa lunghissima introduzione che è servita a creare un po' lo scenario entro il quale è il momento di calare il nostro grande protagonista si può finalmente cominciare a parlare di Timur cioè di quello che noi chiamiamo Tamerlano per parlare di Timur naturalmente è necessario partire a noi interessa come questo grande sovrano mongolo che non è mai arrivato in Europa non so dire se fortunatamente o sfortunatamente beh è sempre difficile in storia stabilire cos'è bene che sia accaduto e cos'è stato male eccetera lasciamo da parte tutto questo limitiamoci al fatto che Timur Tamerlano non ha mai messo nemmeno la punta del naso nel nostro continente europeo interessante il divertente se volete è che gli europei a un certo punto addirittura ce l'avrebbero voluto in Europa ecco ed è questo di cui bisogna parlare per l'Europa la più grande potenza musulmana del tempo almeno quella mediterranea quella che loro conoscevano era il sultanato d'Egitto ebbene il sultanato d'Egitto non era un problema si avevano con esso ottimi rapporti diplomatici e commerciali ogni tanto nasceva qualche scaramuccia qualche crociata così come gli europei facevano le crociate contro gli emirati del Maghreb ma poca roba poche cose c'era stata la grande il grande assalto cipriota verso il 1860 ne abbiamo parlato ma era rientrato l'Egitto domina anche Gerusalemme ma i pellegrini cristiani vanno tranquillamente a Gerusalemme e quindi i rapporti sono ottimi certo non bisogna dimenticare che questo mondo mediterraneo e anche circumediterraneo quindi Europa ma anche Asia occidentale ma anche Africa del nord è il mondo su cui si è abbattuta la peste del 1347 50 che poi è rimasta endemica con alcune punte di pestilenza alcuni ritorni forti di pestilenza uno fortissimo alla fine del secolo verso il 1399 1400 che continuano a falcidiare la popolazione quindi è un mondo in forte sviluppo economico politico eccetera ma è anche un mondo in crisi al tempo stesso ed è stata proprio l'epidemia a metterlo in ginocchio però per il momento non sembrano esserci gravi problemi ma il punto è che la potenza ottomana assume sempre più un ruolo di tipo aggressivo che in qualche modo bisogna rintuzzare ed ecco allora il primo dei nostri coprotagonisti il sultano Murad primo e poi il sultano Bayazet purtroppo nella dinastia ottomana come in tutte le dinastie che si rispettino i nomi tornano alternati e sono sempre quelli quindi noi avremo dei Bayazet poi avremo dei Murad poi di nuovo dei Bayazet poi un Mahometto il grande Meshmet II Al-Fati il conquistatore quello che prenderà Costantinopoli nel 1453 e la farà diventare Istanbul che è poi la pronuncia turca dell'espressione greca Estenpolin dentro la città con cui i contadini la gente che stava fuori di Costantinopoli ordinariamente chiamava quello che noi chiameremmo con un'espressione inglese ormai familiare anche per noi il downtown il centro antico di Costantinopoli il nostro sultano quello che ci interessa è Bayazet Bayazet detto il dream la folgore un uomo crudele un uomo di grande abilità militare e anche di grande abilità politica il quale ha ormai completato l'accerchiamento di Costantinopoli perché domina quasi tutta la penisola anatolica e domina anche l'altra parte del Bosforo la parte europea quella che oggi è la cosiddetta Turchia europea che corrisponde all'antica area della Trascia quindi ha veramente accerchiato Costantinopoli a questo punto grande paura del mondo bizantino paura sì ma fino a un certo punto degli occidentali che insomma tengono a Costantinopoli che è un grande emporio commerciale la chiave del Mar Nero i genovesi in particolare che hanno anche molte colonie del Mar Nero beh ma tutto sommato poi sanno bene che qualunque sia il padrone di Costantinopoli ci si potrebbe sempre mettere d'accordo certo Costantinopoli è la nuova Roma è una città è una città santa essa stessa piena di santuari di chiese di reliquie di memorie bellissime quindi insomma lasciare che Costantinopoli cada in mano dell'infedele del musulmano non c'è ancora la paura dei turchi arriverà da ora in poi quindi il problema non è che Costantinopoli cada in mano del turco a partire dal 400 si comincerà a parlare del turco la T maiuscola come del grande pericolo ma per il momento beh tutto sommato il problema è che certamente non si può permettere che gli ottomani strangolino la ex potenza bizantina e allora cosa si fa beh gli europei non fanno granché però fa qualche cosa il sultano Bayeset negli anni 80 del 14esimo secolo decide di consolidare il suo potere a nord ovest del suo impero ampiandolo e comincia una marcia trionfale attraverso i Balcani sottomette la Bosnia la Valacchia la Bulgaria la Macedonia la Tessaglia uso più o meno i nomi moderni insomma tutta l'area fra la Grecia e la Jugoslavia attuale a sud del Danubio si crea una situazione che è il mare dell'Islam che circonda minacciosamente le residue due isole bizantine due grandi città Istanbul e Tessalonica Tessalonichi l'attuale Salonico questa la situazione alla fine degli anni 80 del 14esimo secolo nel giugno 1389 gli orgogliosi cristiani ortodossi della nazione serba ancora oggi la quella data del giugno 1389 resta profondamente iscritta nella memoria nazionale serba durante la crisi balcanica degli anni 90 del secolo scorso i campi dei passeri i campi di Kosovo erano continuamente al centro di una elaborazione della memoria di una elaborazione del lutto e della gloria serba contro i bosniaci contro i croati che cos'è questa battaglia del campo dei passeri della battaglia di Kosovo del giugno del 1389 il grande banco di prova su cui la nazione ortodossa serba si immola per costituire un'ante murale all'Europa cristiana e fermare il sultano Bayazet e non ci riesce a questo punto veramente dopo Kosovo gli europei prendono paura si comincia a pensare che questi ottomani se non si fermano gli ottomani non hanno una flotta o hanno una flotta molto debole e ce l'hanno soltanto indirettamente perché sono alleati con alcuni emirati marinari però per via di terra si pensa che possano davvero risalire ai Balcani e minacciare Venezia e minacciare Vienna e dilagare in Italia e arrivare in Germania due secoli prima i mongoli erano quasi arrivati a Colonia e non bisogna dimenticare che i turchi e i mongoli sono profondamente affini prendono paura anche i papi dico i papi al plurale perché in quel momento c'è in atto uno scisma lo scisma che conosciamo come il grande scisma d'Occidente avviato nel 1378 quando i papi da Avignon sono tornati a Roma ma un gruppo di cardinali scismatici soprattutto francesi hanno deciso che non era il caso di abbandonare Avignon e sono rimasti lì e a un certo punto si è creata quindi una doppia dipendenza della Chiesa Cattolica alcuni e anche alcuni stati hanno riconosciuto il Papa di Roma poti o meno tutti gli stati italiani e poi ancora l'Inghilterra e poi ancora l'Aragona ma altri con sistema a scacchiera naturalmente gli avversari degli stati che riconoscevano il Papa Romano hanno naturalmente riconosciuto il Papa d'Avignon evidentemente il re di Francia che aveva il Papa in casa e questo gli serviva ma anche per esempio la Castiglia tradizionalmente alleata della Francia e si è creato quindi un sistema a scacchiera o preferiti a pelle di leopardo i papi sono due e a questo punto prendono paura tutti e due Benedetto XIII da Avignon Bonifacio IX a Roma decidono di ricostituire rapidamente una Lega Santa a questa Lega Santa accede anche Venezia Venezia non amava questo tipo di leghe perché in generale finivano sempre con l'impicciarsi troppo di cose orientali e Venezia avrebbe amato gestirle personalmente però la paura è tanta e allora anche Venezia aderisce alla Lega vi aderisce anche il re dei Romani Sigismondo lo chiamo re dei Romani perché re eletto di Germania la corona del regno di Germania elettiva e quindi ha diritto anche alla corona del regno d'Italia e ha diritto anche alla corona imperiale ma a patto che se la venga a prendere a Roma dal Papa Sigismondo questo non l'ha fatto e quindi noi lo chiamiamo re dei Romani e non imperatore a questo punto la cristianità è di nuovo schierata e c'è di nuovo nel mondo europeo sul serio aria di crociata buonasera aria di crociata quindi grandissimo schieramento c'è un grande principe europeo il duca di Borgogna Filippo secondo l'ardito che in mancanza di imperatore l'imperatore c'è ma non è ancora stato consacrato si sente lui il re di Francia è praticamente in ginocchio perché la guerra dei cent'anni ricordiamolo che era cominciata a metà trecento non era ancora finita il re di Francia in quel momento è un povero demente dire povero demente non significa che io personalmente lo disprezzi per carità significa semplicemente che era proprio tecnicamente un folle un uomo soggetto a crisi depressive durante le quali diventava anche pericoloso ogni tanto qualcuno del personale della corte ci rimetteva un po' di salute a vivergli accanto era un uomo debole un uomo prigioniero dei suoi problemi anche dei problemi personali una moglie bellissima Isabella di Baviera perlomeno così si dice che fosse bellissima intraprendente fin troppo dotata politicamente pare anche un po' troppo dotata fisiologicamente anche questo il re Carlo VI di Francia doveva avere delle difficoltà non indifferenti insomma un quadro di debolezza e allora il grande principe d'Occidente in duca di Borgogna Filippo II l'ardito padre di quello che poi sarà Giovanni senza paura anche gli duca di Borgogna quindi siamo in pieno autunno del medioevo come l'ha descritto Oitzinga Filippo l'ardito come tutti i duchi di Borgogna sogna la crociata veramente i duchi di Borgogna sognavano qualcosa di più sognavano addirittura una corona imperiale e forse magari Filippo II pensa che se non lui il figlio Giovanni potrebbe cingere la corona imperiale di Costantinopoli se i cristiani d'Occidente riuscissero a salvare i cristiani d'Oriente perché ormai la dinastia dei paleologi che si chiama proprio così non è colpa mia che governa Costantinopoli è una dinastia alla fine si mobilita anche la chiesa anche a livelli popolari il grande predicatore del tempo uno spagnolo domenicano San Vincenzo Ferrer incita alla crociata clima di entusiasmo veramente globale in tutta l'Europa campane che suonano a distesa giovani che corrono a prendere la croce a fare il voto di crociata cavalieri che si sfidano in tornei che poi saranno la messi in scena la teatralizzazione si direbbe oggi della crociata stessa un grande esercito al comando del giovane Giovanni Conte di Never figlio del duca di Borgogna e il duca di Borgogna ci aveva messo la maggior parte dei soldi e quindi aveva preteso che suo figlio che era un giovane di poca esperienza poi diventerà quel politico raffinato e crudele anche che conosciamo ma allora era un giovane cavaliere di poca esperienza e di molta ambizione partono dall'Europa lungo il Danubio parallelamente una grande armata di terra una flotta stavo per dire un'armata di mare non posso dirlo perché erano galee che avrebbero potuto solcare anche il mare ma andavano per via di fiume attraverso il Danubio e si recano all'incontro anzi allo scontro in Serbia con l'armata turca Sicismondo re di Italia re di Germania re di Ungheria futuro imperatore cerca di consigliare la prudenza gli danno senz'altro del vigliacco vogliono arrivare allo scontro frontale cavalleriscamente e succede l'inevitabile il 25 settembre presso Nicopoli dove la grande strada militare bulgara tocca il corso meridionale della Morava la formidabile armata dei crociati subisce una sanguinosa sconfitta una delle sconfitte più sanguinose e diciamolo pure anche più vergognose da un certo punto di vista della storia militare dell'occidente cristiano nel medioevo i crociati assalgono ferocemente con la loro cavalleria a cuneo penetrando nelle file turche i turchi si aprono come due grandi ali di un frutto che si spezzi e si richiudono sulla retroguardia crociata è una carneficina molti sono gli uccisi a freddo i turchi non amano far prigionieri o meglio fanno prigionieri soltanto quelli che possono pagare il riscatto Giovanni Conte di Nevers viene riscattato dopo un periodo anche di umiliazioni il prigioniero dei turchi viene riscattato a carissimo prezzo così molti altri protagonisti della grande epopea cavalleresca della fine del trecento il maresciallo Bossicò per esempio un altro amabile folle corridore di tornei imparentato con il re di Francia a quel momento era governatore di Genova e come governatore di Genova faceva un sacco di spese folli e di altre pazzie non era un granché come amministratore ma era un prode e generoso cavaliere ma anche lui Annicopoli alla sua fitta di umiliazioni Giovanni di Nevers e i suoi compagni vengono riscattati per una somma globale di 200.000 ducati veneziani ora badate a parte il fatto che con un ducato una famiglia media ci viveva tranquillamente un mese fate i vostri conti 200.000 ducati un ducato veneziano sono circa 3 grammi e mezzo di oro a 18 carati il potere d'acquisto è notevole ma anche proprio la massa di metallo è impressionante dopo il disastro di Nicopoli che è del 96 arriva subito a ruota la grande peste del 1399 1400 non la si ricorda ordinariamente perché la nostra memoria è monopolizzata dalla peste del 1348 quella descritta da Boccaccio ma quella del 1400 non è stata poi troppo più lieve quindi un'altra bella mazzata sull'Europa cristiana il Basileus l'imperatore di Costantinopoli Emanuele II paleologo a questo punto chiede disperatamente di nuovo aiuto all'occidente ma gli occidentali non sanno più veramente che cosa fare il maresciallo di Francia Boscicò governatore di Genova viene inviato da Carlo VI nelle acque di Costantinopoli con una flotta a cui addirittura si è unita un rinforzo che viene da Genova dai gattilusi o genovesi che sono signori di Lesbo dai cavalieri di Rodi insomma si cerca di arginare in tutti i modi il pericolo ottomano e si cerca di colpirlo per via di mare visto che gli ottomani sono deboli dal punto di vista navale ma non è che si ottenga veramente un granché Manuele paleologo l'imperatore di Costantinopoli a questo punto rompe gli indugi nel 1399 si reca lui in Europa fa un pellegrinaggio pomposo ma anche doloroso per certi versi è un grande ospite per altri un mendicante chiede aiuto ai fratelli d'Occidente e a questo punto avviene il miracolo il miracolo non consiste in quello che riesce a ottenere Manuele paleologo lui ottiene soltanto assicurazioni comprensione promesse ma niente di più solo che succede qualche cosa succede che comincia a circolare nel 1402 una straordinaria notizia la notizia che il sultano Bayeset non c'è più è stato catturato ha perduto una battaglia in Anatolia ha perduto la libertà con questa battaglia e perdendo la libertà di lì a poco avrebbe perduto anche la vita si disse per stenti in prigionia eccetera non è del tutto vero l'uomo era già vecchio e piuttosto malandato comunque certo è successo qualcosa c'è la mano di Dio un salvatore e questo salvatore viene da Oriente la battaglia c'è stata nei pressi dell'attuale capitale della Repubblica di Turchia nei pressi di Ankara quindi siamo nel centro dell'Anatolia e la compagine la formidabile compagine ottomana è stata sconfitta da un'orda di popoli a cavallo che sono quelli che genericamente gli occidentali chiamano tartari o mongoli noi possiamo precisare venivano in gran parte dall'attuale Turkmenistan e soprattutto Uzbekistan erano quelli che nel secolo scorso si sarebbero chiamati i turcomanni quindi i turchi che stanno a est del mar Caspio e che sono profondamente affini ai mongoli ma c'erano anche rinforzi di altro genere c'erano addirittura dei cristiani che combattevano con questi mongoli cristiani che venivano dalla Georgia qualcuno dalla Russia dai principati del Neestere del Don da Suddad Vladimir da Novgorod quindi una armata eterogenea che ha messo in ginocchio gli ottomani gli ottomani per un breve momento scompaiono come pericolo per gli europei grazie a questa vittoria di un principe mongolo che gli occidentali chiamano appunto Tamerlano ora chi è Tamerlano? Lasciamo ancora a fra poco la risposta a questa domanda limitiamoci per ora a fare un quadro della nuova situazione che era nuova fino a un certo punto per la gente del tempo perché già da due secoli si favoleggiava di principi cristiani che stavano nell'Asia profonda e che al momento opportuno e momento opportuno sarebbe stato all'inizio dei tempi ultimi con l'arrivo dell'Apocalisse si sarebbero mossi in aiuto dell'occidente cristiano contro l'Islam quindi Tamerlano diventa questo principe tartaro del quale non si sa quasi nulla diventa il misterioso salvatore dell'occidente cristiano secondo una vecchia leggenda che favoleggiava di un principe sacerdote che avrebbe soccorso l'occidente e che secondo la tradizione si sarebbe chiamato prete Giovanni o prete Gianni chi è questo Timur? beh ameremmo dare molte notizie su di lui ma il tempo stringe e le cose veramente a proposito di questa storia che non è familiare a noi occidentali le cose da dire sarebbero veramente tante allora limitiamoci alle notizie più scarnamente necessarie bisognerebbe fare non un passo ma un grande passo indietro e arrivare all'inizio del duecento quando il principe tartaro che era riuscito a unificare le tribù mongole dell'asia centrale quello che noi conosciamo col nome del signore oceanico il signore universale Gengiz Khan il suo nome proprio di persona era Timugin Gengiz Khan aveva creato un grande impero federale i suoi successori avevano addirittura conquistato la Cina da una parte avevano conquistato la Persia e la stessa Bagdad dall'altra erano arrivati fino alla Russia meridionale e fino alla Siberia quindi uno straordinario impero asiatico però era un impero federale in fondo erano quattro grandi corpi che riconoscevano come loro capo principe signore il gran Khan che poi era diventato anche l'imperatore della Cina ma che in realtà poi agivano indipendentemente l'uno dall'altro e anche molto spesso entravano in guerra fra loro per esempio fra l'orda d'oro che domina il sud della Russia e il cosiddetto il Khan il Khan significa Khan territoriale che dominava la Persia c'era una lotta geopoliticamente ordinaria diciamo così sapete che chi domina la Persia chi domina la Turchia tradizionalmente è difficile che vadano d'accordo per un motivo di confini piuttosto complicati quindi lotte anche all'interno di questi domini pace mongolica certo perché i mongoli erano fortemente crudeli ma anche dotati di un grande senso dell'organizzazione e di un grande senso della necessità di mantenere la pace fra le tribù e quindi in quel momento fra due e trecento le merci lungo la via della seta corrono tranquillamente perché la Pax mongolica permette loro di muoversi però naturalmente questa Pax mongolica è molto relativa i vari imperi mongoli i vari regni mongoli si fanno guerra fra loro nonostante siano formalmente uniti e alla fine anche questo impero federale abbastanza fragile tutto sommato nonostante le apparenze entra in crisi addirittura negli anni sessanta del trecento i cinesi riescono a cacciare il gran can mongolo che come imperatore della Cina si era molto sinizzato a sua volta e a riorganizzare un impero nazionale con la grande dinastia dei Ming che arriverà fino al XVII secolo quindi a questo punto anche il mondo mongolo è entrato un po' in crisi e nel frattempo per la stragrande maggioranza dei suoi componenti la compagine mongolica ha abbracciato l'Islam gli occidentali avevano sperato a un certo punto che i mongoli diventassero cristiani anche perché nell'Asia centrale ci sono effettivamente gruppi cristiani soprattutto nestoriani e si era cercato fra due e trecento di mandare missionari ma non si era arrivati in tempo l'Islam aveva vinto la sua corsa con il cristianesimo siamo arrivati con il nostro tamerlano a occuparsi sul serio di lui bisognerà che ci familiarizziamo con qualche nome a questo punto che forse non è proprio dei più semplici quando io dirò canato dovrei pronunziarlo un po' più dolce canato e voi dovrete capire che sto parlando di un principato mongolo i due principati che più ci interessano a questo punto sono quello del kipchak che io chiamerò più semplicemente come noi siamo abituati a chiamarlo il cosiddetto canato dell'ord dell'orda d'oro cioè della famiglia aurea è un riferimento all'emblema di famiglia diciamo così che era dorato che è il canato che governa tutta il sud della Russia la Crimea e l'Ucraina da una parte quindi siamo a nord ovest rispetto al Caspio dall'altra parte del grande mare chiuso del Caspio c'è un canato un altro principato evidentemente avversario del canato dell'orda d'oro che è il canato del Karakitai letteralmente i cinesi neri per così dire questo canato del Karakitai è diviso a sua volta in molti principati subalterni che naturalmente si guardano bene dall'obbedire al Khan copre tutta l'area enorme immensa che dal nord del Mar Caspio giunge quasi ai confini con l'attuale Iran con la Persia dove la Persia è gestita a sua volta da una serie di piccoli canati o emirati nati dal disfarsi del grande canato di Persia quindi siamo in un mondo di piccoli stati retti da principi tribali con una popolazione con grandi città carovaniere di sedentari ma anche con una popolazione e con un'aristocrazia mongola nomade che li guida e uno di questi principati quello che ci interessa è organizzato intorno all'attuale grande città d'arte dell'Uzbekistan Samarkand lì nella città di Keshe oggi si chiama Sharisabs la città verde a un centinaio di chilometri da Samarkand nasce nel 1336 tradizionalmente ne sappiamo anche la data di nascita l'8 aprile del 1336 nasce un piccolo nobile mongolo che apparteneva a un gruppo di transumanti di nomadi che gli altri chiamavano con disprezzo Karaunas mezzo mezzo sangue sono mongoli musulmani molto fortemente turchizzati nasce un bambino che viene chiamato Timur e sarebbe bello poter insistere vi avverto subito che ci faremmo tutta la trasmissione su questo nome Timur Camerlano quando da vecchio ha dettato per i figli come avrebbe fatto tre secoli dopo il re sole ha dettato delle memorie per i figli per istruirli nell'arte del governo ha sostenuto che questo suo nome Timur proverrebbe da una radice semitica araba la lingua del Corano che significa Timur sconvolgimento le cose stanno un po' diversamente le cose dicevo stanno diversamente perché non sembra proprio che questo sia vero cioè la l'affabulazione che il vecchio tamerlano fa porre su carta al suo amanuense è la seguente quando lui nasce il padre corre immediatamente dal consigliere spirituale la famiglia è di musulmani molto pii dall'imam che lo guida e l'imam in quel momento sta leggendo una sura del Corano dove si parla dello sconvolgimento del terremoto del sisma che accompagna le grandi manifestazioni divine sulla terra e allora dal termine Timur si dà il nome al bambino nome noi diremmo di battesimo più propriamente di circoncisione dal momento che stiamo parlando di musulmani ma non pare proprio che le cose stiano così nel resto già il padre si chiamava con un nome che non vi starò a dire è un po' complicato che comunque voleva dire all'odola nell'idioma turcomongolo parlato taragai parlato da quelle genti beh il nome all'odola può sembrarci strano quasi patetico portato da un fiero guerriero noi diciamo all'odola e naturalmente pensiamo immediatamente a Giulietta e Romeo chi è che che canta nel giardino è ancora lusignolo no no è la lodola la ralda del mattino e questo significa che la notte d'amore deve finire no ma per la verità la lodola di taragai era piuttosto un simbolo totemico come lo chiameremmo noi moderni dopo l'insegnamento del dottor Freud e quello di Levi Strauss il figlio si chiama Timur e Timur negli idiomi turcomongoli richiama alla parola che indica il ferro molti di voi magari non più giovanissimi penseranno guarda caso guarda la bella coincidenza Josip Vissarionovic di Ugasvili nato alla fine dell'ottocento in un villaggio vicino a Tifliss in Georgia una zona che si ricordava bene di Tamerlano e delle sue incursioni quando ha preso ha scelto un nome un nome di battaglia rivoluzionario come si usava nel mondo del rivoluzionario del tempo si è scelto il nome che rimandava all'idea dell'uomo di ferro Stalin o l'uomo d'acciaio addirittura probabilmente Josip Dugasvili si è proprio ispirato a Tamerlano che se volete non dava bene a sperare per la futura carriera del giovane rivoluzionario che direi non ha poi disatteso le peggiori speranze ma tant'è Timur è un nome turco e significa ferro e a questo punto bisognerebbe riflettere su questa strana coincidenza per cui questi turcomongoli islamizzati profondamente musulmani profondamente pii profondamente religiosi però mantengono i loro vecchi nomi tribali turcomongoli e non prendono nomi arabi come di solito fanno sempre i musulmani anche i musulmani che si convertono anche se non sono arabofoni è un elemento interessante questo comunque poco sappiamo della giovinezza di Timur è un capobanda è un ladro di capre di cavalli di cammelli però è un capobanda intelligente geniale che presto si impone all'interesse dei canne più potenti che lo guardano come si guarda uno che ha un certo avvenire davanti a sé le prime notizie certe ci danno il giovane tamerlano come desideroso di gloria di dominio si mette a servizio dell'emiro Kasgan che è il vero padrone dell'area storica della Transoxania cioè di tutta la zona intorno al grande fiume la Mudaria che nasce dalle propaggini dell'Indukush con un percorso che va da oriente a occidente e finisce nel lago Daral oggi è un'area ecologicamente parlando profondamente in crisi la scelta del governo sovietico di organizzare intorno al lago di Daral la monocultura del cotone ha determinato una serie di problematiche idriche che alla fine hanno portato alla crisi idrica di tutta l'area ormai il lago Daral è quasi scomparso ma allora siamo in presenza di un'area fortemente irrigata addirittura ricca di paludi quindi un mondo che non è un mondo desertico e nel mezzo a questo mondo così magari pericoloso perché qualche volta c'è la malaria eccetera ci sono questi due straordinari gioielli che ancora oggi che sono Samarkanda e Bukhara Bukhara la città dove era nato a Vicenna nel decimo secolo la città delle Cicogne come la chiamano ancora oggi i Mongoli o la città delle Rane non a caso le Cicogne si nutrono di Rane e il fatto che ci siano le Rane significa che c'è acqua che c'è acqua in abbondanza e anche acqua stagnante questo è il panorama geografico della zona in cui vive il giovane Timur che si lega fortemente alla famiglia dell'Emilo Kasgan al quale sarà sempre molto devoto vive poi e lavora e combatte con il figlio di Kasgan Hussein e sposa anche la sorella di Hussein quindi la figlia dell'Emilo Kasgan che è la principessa Al-Jai e la principessa Al-Jai ancora oggi nei canti epici del mondo turcomongolo dell'area i canti epici usbechi per esempio ancora oggi ci sono poesie belle poesie d'amore sulla principessa Al-Jai bellissima giovanissima morta giovane di una malattia che probabilmente oggi sarebbe banale una cosa che si potrebbe curare in via ambulatoriale in qualche settimana ma che allora era mortale Al-Jai morrà giovanissima e Timur non supererà mai Timur ha questo in comune con alcuni grandi non voglio fare nessuna psicoetnologia o roba di questo genere lungi da me ma certamente Timur ha questo in comune con alcuni grandi tiranni anche del ventesimo secolo sta durezza spietatezza disprezzo della vita umana inflessibilità e nello stesso tempo questa straordinaria capacità di commuoversi quasi questo elemento di debolezza di fragilità le lacrime facili la disperazione che arriva fin quasi a avere proprie crisi di rabbia o di costernazione se volete c'è qualche cosa di misteriosamente o di cupamente hitleriano nella figura proprio a livello psicologico nella figura di Timur ma per carità non andiamo oltre in questo giochetto psicologico perché ci porterebbe fuori strada registriamolo come un elemento caratteriale che i cronisti ricordano a proposito del nostro chiamiamolo pure del nostro eroe verso il 1263 quindi Camerlano che è del 36 è quasi trentenne guardate che a 30 anni alla fine del 300 è pregiunta nella steppa mongola non si è propriamente più giovanissimi quindi si è davanti ormai a un uomo maturo un uomo che ha già fatto la sua carriera Hussein figlio dell'emiro Kasgan e Timur decidono di ribellarsi a un altro fratello di Hussein cioè a un altro cognato di Timur che è Elias Koja figlio di Kasgan aveva raccolto alla morte del grande emiro Kasgan nel 1363 l'eredità paterna ma era un uomo feroce un uomo che veramente presenta questa vena di follia che è caratteristica di un po' di questo ceto dirigente di questo gruppo familiare e addirittura veniva forse più a Tamerlano veniva dalla probabilmente dalla moglie dalla dolce giovane fragile Aljai la quale aveva data figli a Tamerlano e alcuni di questi figli saranno veramente personaggi ancora meno raccomandabili del padre dal punto di vista caratteriale ebbene Elias Koja era uno di questi cognato di Tamerlano fratello di Aljai era uno di questi personaggi personaggio cupo instabile attraversato da crisi di ferocissime di rabbia di rabbia assassina Usain si ribella insieme a Timur a questo folle congiunto e inaugurano una lunga fase di guerriglia durante le quali accadono questo è caratteristico della vita di Tamerlano una quantità di prodigi di segni Tamerlano è un uomo che ha delle visioni anche in questo lo potremmo ravvicinare a certi grandi tiranni del ventesimo secolo ha delle premonizioni vive di sogni di incubi badate che nella cultura musulmana questo è molto comune addirittura capi di stato musulmani usano inviare messaggi politici parlando dei sogni che hanno avuto ricorderete probabilmente che nell'autunno del 2002 una strano apparentemente strano per noi uno strano messaggio del raiz iracheno Saddam Hussein cominciava proprio parlando al suo popolo agli iracheni con la menzione di un sogno un sogno durante il quale Dio si era rivelato al reis e gli aveva detto certe cose e queste cose a noi sembrano fra virgolette medievali ma in realtà hanno un peso un ruolo non dimentichiamo poi che rispetto a tutto il mondo musulmano dove il sogno ha un ruolo particolare c'è l'elemento aggiuntivo il valore aggiunto del mondo uralo-altaico del mondo mongolo che è un mondo segnato da una profonda tradizione sciamanica lo sciamano parla con i morti lo sciamano guarisce le malattie andando nell'aldilà a strappare la radice del male lo sciamano è un grande comunicatore con l'ignoto e questa cultura sciamanica ancora oggi tocca profondamente l'islam turco-mongolo uno studioso dei giorni nostri ha scritto un bellissimo libro al riguardo intitolato proprio più sciamani che mullah per spiegare la caratteristica del mondo musulmano così come è vissuto nella realtà uralo-altaica vi confesso che io sto resistendo fortemente quasi eroicamente forse non lo do a vedere ma è una resistenza eroica alla tentazione di veramente di raccontarvi una storia epica una cosa che potrebbe sembrare una sorta di ilia de tartara non lo farò naturalmente perché verrei meno un po' a questo dovere un po' banale del cronista dello storico che deve raccontare le cose d'altra parte queste cose vanno pur raccontate perché siamo davanti a una storia che non ci è familiare quindi non possiamo permetterci il lusso di parlare di strutture di istituzioni di tesi storiografiche bisogna familiarizzarsi con i fatti e i fatti hanno molto dell'epica o della tragedia un'epica è una tragedia familiare segnata proprio da episodi che ricordano un pochino le gesta dei fratelli coltelli dei fratelli che si odiano dei castore e polluce dei romolo e remo dei caino e abele in questo caso non si parla di fratelli ma si parla di due che in fondo forse si erano anche amati come fratelli Usain e Timur vincono la lotta contro Ilias Khan contro quella Ilias Hoja che era un così terribile personaggio e un così instabile personaggio ma immediatamente come accade solitamente a chi vince immediatamente i rapporti fra loro si guastano siamo grosso modo alla fine degli anni sessanta verso il 1370 Timur è riuscito a occupare e a dominare come can come capo locale un'altra grande città carovaniera che è Tashkent Tashkent è l'attuale capitale dell'Uzbekistan fra le tre grandi città storiche dell'Uzbekistan è sicuramente la più brutta o la meno bella non regge il confronto con gli splendidi monumenti di Samarkand e nemmeno con questo incredibile centro storico di Bukhara però non bisogna dimenticare che Bukhara e Samarkand sono state più accuratamente restaurate e che Tashkent è stato colpito anche recentemente da una serie di terremoti che l'ha veramente messa in ginocchio la città di Tashkent degli anni settanta del quattordicesimo secolo era senza dubbio una bellissima e ricchissima città lì però si consuma il divorzio tra Timur e Usain tanto più che la sorella di Usain è amatissima moglie di Timur e qui non c'è da fare dell'ironia Timur era veramente innamorato folle di Aljai Aljai muore e muore dopo aver dato alla luce un figlio per la verità ce n'era già un altro ma il secondo genito Miran Shah è che erediterà purtroppo la vena di follia che serpeggia nella famiglia di Timur praticamente Miran Shah sarà veramente un degno nipote dello zio Elias Khan e sono personaggi molto più cupi molto più feroci molto più instabili di Timur stesso certo la storia li ha sommersi adesso non li ricordiamo quasi più sono per noi non sono nemmeno dei nomi perché sicuramente la stragrande maggioranza di voi non li terrà nemmeno a memoria anch'io li perdo continuamente però la morte di Aljai segna la fine della collaborazione fra Hussein e Timur a questo punto c'è guerra anche fra loro e Timur ha la meglio e spietatamente coglie l'attimo fuggente di gloria e di vittoria siamo quindi all'apoteosi l'8 aprile del 1369 il nostro eroe ha ormai 33 anni pare che sia una data una data veramente fatidica il giorno del suo compleanno secondo la tradizione badate che non c'è da affidarsi Timur viene sollevato su una grande cortina per la verità quasi un materasso di feltro bianco simbolo della regalità nel mondo altaico si solleva il nuovo can su un feltro bianco esattamente come i Celti ma anche i Romani facevano per presentare agli dèi il nuovo re o il nuovo capo portandolo sugli scudi e i mongoli lo portano invece su questa specie di grossa trapunta di grossa coperta di feltro lo presentano elevato su questa coperta di feltro verso il cielo lo presentano al grande dio unico della tradizione mongola Tangri Tangri che poi equivale assolutamente allo wakantanga dei mongoli che stanno dall'altra parte dell'Atlantico delle pelle rosse delle praterie Tangri il cielo il cielo luminoso il cielo divino che poi i mongoli quando si erano islamizzati avevano disinvoltamente in fondo identificato con Allah con il dio di Abramo di Isacco e di Giacoppe si presenta il nuovo sovrano al cielo ma sovrano di che? un anno dopo nell'aprile sempre nell'aprile Timur ci tiene a queste ricorrenze crede nell'astrologia naturalmente nel 1370 Timur viene acclamato Khan della Transoxania cioè in fondo capo di tutte le tribù che stanno fra l'attuale Uzbekistan Ghirghizistan e un pezzetto di Turmenistan quindi per intendersi fra il lago Daral e le pendici dell'Indukush e che egli è riuscito a unificare vedremo poi che questo sterminato impero finirà con lui ma alcuni dei suoi successori faranno carriera altrove diventa emiro della Transoxania prende il titolo di Amir termine arabo che significa principe e capo guerriero al tempo stesso prende il titolo di Amir che poi porterà porterà sempre preferibilmente rispetto ad altri titoli anche il suo mausoleo splendido mausoleo che ancora si ammira a Samarcanda si chiama il Gura Amir il santuario dell'emiro assume il titolo di grande chebir in arabo ulu in turco e si definisce emiro degli emiri di tutti i principi di Transoxania qualche settimana dopo il fatidico aprile del 70 in cui si era confermato la cerimonia del 69 muore il Maric il sovrano di Herat l'ultimo signore potente della zona quello che dominava il Corassan e a quel punto Timur diventa il padrone delle città che sono la chiave della via della seta nell'area che dall'Himalaya scende verso la Persia il mondo tartaro è dominato da una aristocrazia tribale la quale aristocrazia tribale vive una realtà comunitaria che è quella del consiglio dei capi in qualche modo si potrebbe quasi parlare di una sorta di repubblica aristocratica periodicamente si fanno delle grandi assemblee principalmente quando muoiono i can quando muoiono i principi ma anche per le grandi decisioni queste grandi assemblee si chiamano curiltai e durante i curiltai si prendono decisioni importanti Timur è diventato grande emiro della Fransoxania proprio in seguito a un curiltai noi di solito lo chiamiamo can ma il termine can è ambiguo perché per certi versi in fondo significa solo capo tribù per certi altri viene usato addirittura ai livelli eccelsi il gran can era quello che si identificava con l'imperatore della Cina finché l'impero della Cina è rimasto in mano ai mongoli ma al tempo di Tamerlano non lo è più Tamerlano si è unito in matrimonio da buon aristocratico musulmano è un poligamo anche se è un poligamo molto moderato si è unito anche con principesse discendenti della famiglia di Genghis Khan e questo gli permette vorrei ricordarvi che i musulmani come gli ebrei ragionano a livello familiare in termini mafie lineari è la linea materna che decide per esempio della nobiltà si è discendenti del profeta si è sharif se si discende dalla famiglia del profeta per via di madre non per via di padre quindi il fatto che Timur si sia sposato anche con una principessa che discende da Genghis Khan gli permette di assumere un titolo che in turco suona più o meno Kyurgen ho una pronunzia perfida quindi i turcofoni che mi stanno ascoltando la brividiranno questo termine Kyurgen significa grossomodo genero imperiale cosa ci può far sorridere ma era un titolo nobiliare dei più ambiti e significava che chi lo portava era discendente di Genghis Khan anche se non era discendente da parte di madre di padre ma era addirittura discendente sulla base di acquisizioni matrimoniali e questo è molto importante perché il fatto che Timur insista tanto e tenga tanto a diventare discendente di Genghis Khan significa una cosa precisa significa che questo ancora relativamente giovane condottiero mongolo mira alla restaurazione dell'impero di Genghis Khan questo è il progetto che con gli anni settanta quando Timur chiamiamolo Timur Khan oppure Timur Beg Beg è un altro termine Beg è un altro termine turco che significa governatore eccetera vedete che questi termini qualificano tutti una magistratura subordinata Timur non è non è non è gran can non è imperatore non si chiamerà mai sultan si chiamerà sempre con questi termini perché in realtà il mondo mongolo formalmente riconosce ancora una sovranità universale che è quella dell'imperatore della Cina che però non è più un mongolo che è un cinese ma che non apprezza granché questi tumultuosi sudditi che stanno al di là della muraglia della Cina naturalmente però con tutto questo quando la principessa Sarai Malikkatun sposa Tamerlano Tamerlano diventa appunto Churgen genero imperiale e a questo punto è pronto per il balzo verso l'impero balzo verso l'impero che va contestualizzato anche se il gran canne mongolo della dinastia che i cinesi chiamano gli Yuan aveva visto oscillare pericolosamente il suo trono la data in cui i cinesi espellono cacciano gli Yuan i mongoli dalla Cina la data precisa fatidica è il 1368 quindi vorrei richiamare la vostra attenzione sulla straordinaria sincronia di questo grumo di avvenimenti nel 68 i cinesi cacciano veramente drammaticamente si direbbe volgarmente appedate i mongoli dopo oltre un secolo quasi un secolo e mezzo di dominazione che i cinesi hanno sempre sopportato molto malamente a noi cinesi e mongoli ci sembrano molto affini per dire la verità ma non lo sono granché dal punto di vista cinese e anche dal punto di vista mongolo i mongoli non amano i cinesi però il legame feudale tra quello che era il Gran Can e gli altri principi mongoli non si rompe nel 68 i mongoli continuano a sentirsi feudalmente legati all'imperatore e la Cina Timur non è di questo avviso Timur non lo dice continua a mandare tributi all'imperatore e la Cina ma cova veramente sentimenti di riscossa genghizcanide Timur si sente non un feudatario dell'imperatore della Cina ma un erede del grande imperatore mongolo questa naturalmente è una cosa che sulle prime nemmeno i suoi amici i suoi collaboratori i suoi colleghi i vari capi dei piccoli o grandi o medi canati mongoli capiscono chiaramente è un progetto di una follia e di una lungimiranza straordinaria però Tamerlano sa essere moderato e dopo i 70 si mette un pochino a sedere si fa per dire perché veramente i 30 anni di governo pieno di Tamerlano 35 morirà nel 1405 sono tutti pieni di guerre ma guerre vicine guerre con canati vicini che consolidano la sua potenza territoriale e quindi naturalmente io non ho il tempo e forse non avrei nemmeno la voglia di rincarvele tutti poi non serverebbe granché certo che Tamerlano occupa il tratto mediano della via della seta che vuol dire proprio che diventa il padrone dell'economia eurasiafica mediterranea che passa tutta o in gran parte da lì e si preoccupa di consolidare questo territorio e di abbellire le sue città soprattutto le sue capitali Samarcanda diventa veramente splendida Timurne restaura la scinta moraria fa costruire una grande fortezza il cosiddetto arc termine strano perché probabilmente attraverso il greco viene dal latino arcs che significa appunto fortezza all'interno dell'arc fa un grande palazzo ormai ce ne restano soltanto dei monconi Samarcanda non ci è pervenuta nella sua struttura urbanistica purtroppo abbiamo soltanto la tomba santuario dell'emiro e poi abbiamo alcune bellissime moschee e insomma dà prova di essere veramente un saggio e accorto governante l'azione di governo di Timur cerchiamo di periodizzare le sue gesta in modo da renderle magari un po' meno epiche ma insomma da trasmettere più possibile l'idea che in questo complesso di azioni politiche e militari vi fosse un disegno perché il disegno c'era dicevo che l'azione politica di Timur si potrebbe naturalmente distinguere per grandi fasi e c'è una prima fase è la fase dal 1370 quando viene presentato al cielo per dirla in termini mongoli fino a circa il 1375 insomma cinque anni grosso modo più o meno in cui le preoccupazioni di Timur sono quelle di consolidare il suo regno o il suo principato chiamatelo come volete e dargli anche una certa continuità e coerenza territoriale e naturalmente anche di abbellire la sua capitale e le altre grandi città e in questo contesto Timur presenta un altro dei suoi aspetti caratteristici abbiamo visto l'abbiamo già detto che nonostante ormai fosse diventato il padrone assoluto e anche molto fortemente tirannico si ricordano ancora oggi nella tradizione popolare turcomongola le piramidi di teschi cioè le piramidi di teste che poi naturalmente diventavano teschi per ovvi motivi che Timur usava erigere davanti alle città che non si erano arrese e che quindi lui aveva conquistato con la forza è un'usanza dei popoli delle steppe la conosciamo anche perché i turchi la praticavano nei Balcani ce ne è rimasta qualcuno abbiamo scoperto a livello archeologico Timur però seminando il terrore come ordinariamente facevano sempre i mongoli è un po' perché questa evidentemente la loro indole ma un po' anche perché questa era una tattica era una tecnica far paura è un modo per dissuadere dalla resistenza e quindi in fondo è un modo anche per risparmiare vite umane dei propri e degli avversari certo Timur esercita ferocemente fortemente questo suo potere però nello stesso tempo mantiene due caratteristiche di fondo che noi conosciamo di tutti i principi mongoli cioè il lealismo è un uomo d'ordine come tale lui è inserito all'interno di una gerarchia ideale che fa capo come ho detto almeno formalmente all'imperatore e la Cina e qui arrivate a un certo punto lui farà scelte diverse lo vedremo ma che passa attraverso il gran can il can del cosiddetto carachitai o ciagatai insomma il canato dell'Asia centrale ecco con molta modestia formale Timur si dirà sempre un emiro un can un beg insomma un personaggio mediocre mediano della grande organizzazione gerarchico burocratica dell'impero federale mongolo è ovvio che siamo davanti a una assoluta finzione giuridica ma lui ci tiene a mantenere fede ad essa altra sua caratteristica l'alternare periodi di pace a periodi di guerra scatenata quasi inattesamente senza non dico dichiarazioni di guerra ma anche senza avvisagli apparenti Timur come uomo di pace è un uomo di pace molto anche simpatico direi è un uomo che ama sedere personalmente in tribunale che si occupa anche con molta generosità umanità dei casi anche umili dei suoi sudditi è secondo la tradizione mongola molto tollerante in questioni di fede il suo impero è principalmente popolato di musulmani ma ci sono comunità cristiane nestoriane ci sono ebrei pochi ma ci sono ci sono i buddisti ci sono i mongoli che in fondo non si sono ancora nemmeno convertiti all'islam perché non tutte le tribù sono proprio convertite quindi ci sono i kuffar plurale della parola kafir che vuol dire pagano per tutti questi Timur mantiene un certo rispetto secondo proprio quella che è la tradizione mongola i mongoli non hanno anche Genghis Khan era così non hanno non conoscono l'intolleranza religiosa conoscono la ferocia contro chi si ribella al loro potere questo sì ma dal punto di vista della fede ognuno può credere nel Dio che vuole e da questo punto di vista bisogna dire che le dominazioni mongole sono esemplari direi nel 75 alla fine Timur però decide di fare un passo ulteriore verso quello che nel suo disegno è la restaurazione dell'impero Genghis Khan certo non lo va a dire che è questo che lui vuol fare però e comincia a farlo a mostrarlo a sorpresa marcia verso la capitale il centrale del Mogulstan del suo immediato superiore gerarchico un Khan che si chiama Kamar Adin lo vince ne sposa la figlia perché nel frattempo anche la seconda mia moglie la discendente del Genghis Khan gli era morta non ha molta fortuna Timur con le cose familiari con i figli con le figlie anche questo è un tratto che potrebbe ricordare qualcuno ci ha pensato ma io diffiderei da fare questi collegamenti qualcuno ha ricordato le sfortune familiari di Giuseppe Stalin sono i soliti collegamenti che tendono a farci pensare che Timur fosse lo Stalin della fine del trecento che Stalin fosse il Tamerlano del ventesimo secolo storicamente questi rapporti lasciano un po' il tempo che trovano beh semmai bisogna dire ecco che rispetto al nostro occidente siamo in un ambito culturale che è veramente un ambito culturale molto compatto questo grande mondo che comincia a Mosca e termina a Samarkand che comincia da Baghdad e arriva fino alla muraglia della Cina di queste cose di questo mondo noi sappiamo poco e adesso con la globalizzazione forse bisognerà mettersi in testa che bisogna studiarne un po' di più la storia perché molte cose che ci sembrano incomprensibili se non conosciamo certi eventi lontani diventano un po' meno ostiche un po' meno difficili a capirsi se noi ci familiarizziamo un po' per quanto è possibile con questo tipo di storia quindi nel 75 nuovo balzo in avanti verso la ricostruzione dell'impero Gendiz Canile ed ecco quindi il grande emiro e ormai si chiama così Amir al-Kabir il grande emiro Timur sposa la figlia del Khan di Shaddaqa che era il suo superiore gerarchico il suo superiore feudale e poi torna a Samarkand attraverso un lungo giro passa addirittura per il Xinjiang cioè per il Turkestan cinese la propagine di sud-ovest della Cina attuale la città di Kashgar per intendersi la città di Kashgar la losi del Tufan siamo in un'area che ancora interessa la via della seta quindi siamo in un'area ancora molto importante per l'economia del tempo alla fine del 75 si blocca si ferma inspiegabilmente ecco a quel punto avrebbe potuto procedere avrebbe potuto per esempio intaccare l'Iran attaccare i canati della Persia non c'era più un il-can non c'era più un can territoriale che da Baghdad dominava l'Iran come era accaduto dalla metà del duecento in poi la Persia era un paese ricchissimo civilissimo attraversato dalla via della seta ma privo di un vero e proprio governo e diviso in piccoli principati se li sarebbe potuti mangiare proprio uno dietro l'altro come si dice si faccia con le ciliegie con le fette di salame e invece nel rapporto con le fette di salame visto che si parla a un musulmano è poco opportuno ma invece non lo fa non lo fa perché viene fermato è un'altra delle sue caratteristiche da un fatto privato personalissimo il solito sogno parte da Samarkand alla fine del 75 per un'altra conquista si blocca torna indietro ha sognato un altro dei suoi figli più amati il giovane Janangir che era morente torna indietro torna a Samarkand torna nella sua capitale e scopre che il sogno era veridico Janangir quasi gli muore fra le braccia secondo altre fonti addirittura era già morto è sinceramente affranto è a pezzi questo padrone del mondo non riesce a reggere alle crisi o alle disgrazie personali che peraltro sono ingenti è un segno anche di se si vuole di debolezza caratteriale qualcuno lo penserà invece come un segno di sensibilità per questo per quest'uomo che si chiama ferro e che è noto per la sua ferocia e comunque si ferma osserva un periodo di lutto e poi riprende la campagna e riprende una campagna a questo punto nella direzione dell'attuale repubblica ex sovietica del kazakhkan questo suo spostarsi verso ovest e poi verso nord ovest ha un motivo Timur e anche questo è un tratto che ha ricordato a qualcuno certi elementi caratteriali dei grandi dittatori del ventesimo secolo Timur ha un atteggiamento bipolare nei confronti dei suoi collaboratori che spesso sono anche suoi amici a volte è spietato è feroce anche senza ragioni apparenti li fa sparire rapidamente oppure li fa sparire ma purtroppo non rapidamente fra tormenti atroci inenarrabili a volte è fedele alle amicizie fino quasi alla inspiegabilità anche questo è un altro elemento ed eccoci al punto è arrivato il momento di introdurre in questa storia che ha fin troppi coprotagonisti un altro coprotagonista importante quasi come il sultano ottomano Bayezet che Timur prende prigioniero come sappiamo nel 1402 che contrariamente alle leggende che circolano al riguardo ancora oggi sembra che non trattasse affatto male c'è un precedente in questa generosità uno precedente che colpisce è un signore mongolo un Khan mongolo il Khan dell'orda d'oro che si chiama Toktamish Toktamish è un altro mistero forse se non fosse stato sconfitto avrebbe potuto essere un altro Timur un altro tamerlano è comunque il corrispondente l'amico di letto l'antagonista principale di Timur ed è strano è strano per noi perché per noi il tamerlano è diventato sinonimo di feroce e di spietatezza e anche di slealtà ma fra i due quello che sarà più sleale quello che sarà più spietato quello che sarà meno limpido è il Khan Toktamish il Khan dell'orda d'oro perché Timur sarà sempre fedele alla loro amicizia è un'amicizia che non riusciamo molto bene a capire è un'amicizia molto strana è un'amicizia intervallata da momenti di guerra feroce che dura molto a lungo che prende direi la fase il lungo momento centrale dell'esperienza di governo e di vita di Tamerlano Tamerlano in questo momento ormai siamo negli anni ottanta del trecento e comincia a sentirsi invecchiare fra l'altro era piuttosto malmesso dal punto di vista fisico la parola Tamerlano proviene da una sorta di sciarada pronunziata in persiano nella lingua farsi timura link che significa timur lo zoppo come sappiamo era un uomo segnato non era soltanto zoppo era anche impedito a un braccio probabilmente era un ferite di guerra però qualcuno ha parlato di una poliomielite giovanile qualcun altro ha parlato addirittura di un piccolo ictus che l'aveva colpito a un certo punto feroce mangiatore di carne di grassi un po' insomma la dieta del nomade asiatico naturalmente ma pare che lui ci mettesse un po' del suo nel sottolineare questo tipo di dieta e quindi persona già un po' malandata anche se poi non è morto tutto sommato giovanissimo perché è nato nel 36 è morto nel 1405 al suo tempo insomma i suoi tempi la settantina di anni era un buon record o comunque un'età rispettabile per morire ma si sentiva già non troppo bene e verso la metà degli anni 80 del 300 si sceglie un collaboratore nella persona di uno dei figli i figli che lui amava di più gli erano morti Giangir per esempio si sceglie quindi quello che gli restava che gli sembrava più capace Miran Shah ed è quello che gli darà più delusioni e più amarezze la seconda metà degli anni 80 del 300 è caratterizzata da un interesse molto pronunziato di Timur per padroneggiare finalmente il mondo iraniano il mondo persiano la Persia del tempo arriva fino all'eufrate include quindi Iraq attuale include una parte della Siria attuale include l'area contesa che è sempre stata contesa lo è ancora oggi come sappiamo fra il Mar Nero e il Caspio quindi l'area caucasica l'Asebarjan per esempio l'apice di nord-ovest dell'attuale Iran questa zona zona spramontuosa però fertile ricca attraversata da grandi carovaniere è la zona che però confina e più ci si avvicina al caucaso più il confine diventa caldo con i possedimenti del grande canato che sta fra Ucraina Crimea e caucaso l'orda d'oro e c'è a presidiare il canato questo strano amico avversario di Timur che è Toktamish verso il 1383 84 Timur e suo figlio Miran Shah cominciano una campagna di conquista del nord dell'Iran attuale diretti senza dubbio in Asebarjan e quindi verso le montagne del Caucaso diretti quindi a conquistare il sud del Caucaso e diventare veramente la grande potenza confinante con l'orda d'oro è probabile che Timur non avesse veramente idea non avesse veramente intenzione di restaurare totalmente l'impero di Gengiz Khan Gengiz Khan del resto quando era morto nel 1227 era soltanto il grande patriarca di alcuni Khan che erano suoi figli e suoi nipoti che dominavano tutta l'Asia centrale ma lui personalmente non poteva governare un'area così ampia sembra impossibile molto improbabile perlomeno che Timur potesse pensare sul serio non solo a restaurare l'impero di Gengiz Khan ma addirittura esserne il sovrano diretto Gengiz Khan se l'ha limitato essere il presidente diciamo così in termini moderni di una federazione di principi è molto probabile che Timur pensasse a una diarchia l'impero Gengiz Khan avrebbe dovuto essere ricostituito e poi si sarebbero fatti i conti con l'imperatore della Cina e con la Cina che si era scrollata di dosso la dominazione mongola però questo impero Gengiz Khan ricostituito avrebbe dovuto forse essere retto da due imperatori due sovrani e Timur pensava senza dubbio al Khan del Lord Adoro al suo amico Tochtamish può darsi che Tochtamish da parte sua invece non fosse troppo d'accordo e pensasse invece a fagocitare anche Timur sta di fatto comunque che verso il 1887 i rapporti si guastano Timur è arrivato ormai a nord della Seberjan nel Karabag quindi è immediatamente a sud del Caucaso Tochtamish ha paura si lancia contro la frontiera del Caucaso e ormai pare che lo scontro fra Timur e Tochtamish sia inevitabile a quel punto il Khan del Lord Adoro Tochtamish fa una cosa che fino ad allora non aveva mai fatto mentre l'aveva fatta Timur rivendica a sua volta la discendenza Gengiz Canide sappiamo che è facile in fondo rivendicarla basta avere una moglie che ne sia discendente e quindi Timur a questo punto entra sul serio nella Persia vera e propria dove c'erano alleate di Tochtamish conquista Amadan la conquista e la saccheggia veramente con una violenza inaudita a questo punto la città di Sfahan prende paura e gli si apre davanti la città più ricca e più colta di tutta la Persia lo accoglie come un liberatore in realtà lo accoglie perché ne ha paura però stranamente chissà cosa succede il 17 novembre del 1387 probabilmente un banale scontro fra qualche esponente della popolazione e qualche soldato ubriaco insomma qualche cosa di banale questa città che è così grande così bella così colta una delle città più belle più colte del mondo Sfahan che non è stata nemmeno saccheggiata viene veramente freddamente fatta oggetto di un episodio repressivo agghiacciante incomprensibile si calcola che arrivasse al mezzo milione di abitanti ne vengono massacrati circa centomila cioè un quinto della città viene direttamente passato per le armi sono armi bianche non dimentichiamo si tratta proprio di morti fatti uno per uno noi siamo abituati alle esplosioni alle bombe ai bombardamenti quindi alla morte collettiva che quasi non si vede per certi aspetti no no qua si tratta di cadaveri allineati l'uno dopo l'altro i conquistatori erigono intorno a Sfahan una cinta di minareti ciascuno dei quali ospita è costituito di 1500 crani di decapitati quindi siamo davanti a un episodio veramente orrendo si parla anche di incendi di massacri di bambini eccetera dopo quest'episodio Timur punta su Shiraz a questo punto naturalmente Shiraz gli apre festosamente le porte grandi feste grande giubilo per l'ingresso del conquistatore perché non si vuole fare la fine di Sfahan alla fine dell'anno però Timur viene raggiunto da un corriere è un corriere che aveva fretta evidentemente perché in meno di 20 giorni aveva percorso la distanza che separava Shiraz da Samarkand il che vuol dire che il corriere o meglio le staffette perché non era un corriere solo c'erano i cambi di cavalli erano riusciti a percorrere 160 chilometri al giorno guardate che la media di un viaggio di un cammello che percorre a passo normale la via della seta è di circa 30-35 km al giorno quindi questi avevano fatto di gran carriera lo spazio di 5 giorni di cammello in un giorno solo e evidentemente aveva fretta il corriere e aveva fretta perché doveva avvisare Tamerlano che Doctemish aveva invaso la transoxania e puntava su Samarkand la contromossa è terribile Timur si muove subito a marce forzate siamo nell'inverno e siamo nell'inverno non lontano dall'Indokush quindi gravi perdite di uomini di cavalli persone congelate eccetera a febbraio Timur è già nuovamente non lontano da Samarkand attacca le truppe nemiche dopo averle aggirate le costringe a ritirarsi comincia a punire ferocemente tutti i Khan locali che in qualche modo si sono piegati all'invasore a Doctemish gli hanno dato aiuto o sono passati addirittura dalla sua parte a questo punto guerra senza quartiere si parla veramente di un ferocissimo duello con aspetti anche veramente molto personali sono nemici come possono e sanno esserlo solo quelli che si sono amati che sono stati amici fraterni sono nemici fino in fondo tra la primavera e l'autunno del 1390 Timur attacca il Tian Shan e quindi il Turkestan cinese praticamente il Sinkianga attuale percorre la via della Seta fino all'oasi di Turfan si incontra con i Khan locali sposa e aggiunge al suo harem anche le figlie di questi Khan locali e poi di nuovo punta verso nord una lunga campagna nella steppa perché a questo punto vuole veramente battere definitivamente il Khan avversario si ha una traversata epica della Siberia nell'estate la Siberia nell'estate non è che sia così piacevole noi pensiamo alla Siberia invernale ma la Siberia di estate è caldissima è paludosa è molto poco salubre e finalmente nei dintorni dell'attuale Orenburg fra il 19 e il 21 luglio siamo nel 1391 si combatte la grande battaglia alla fine della quale Timur entra in possesso del Zug di Toktemish il Zug è per le popolazioni turco-mongole una specie di totem una specie di insegna che contiene l'anima del nemico è un'insegna molto caratteristica costituita di varie code di cavallo issate su una lunga pertica ve la ricorderete forse perché ancora fino alla seconda guerra mondiale la si usava nelle bande militari degli eserciti tedesco e russo i quali eserciti tutti e due l'avevano ereditata proprio direttamente dall'esercito turco e dai popoli della steppa siamo di nuovo in questo mondo centroasiatico che a noi occidentali sfugge ma che ha una grande profondità e una grande coerenza a questo punto riposo del guerriero Toktemish è battuto definitivamente il mondo mongolo è completamente nelle mani di Timur e Timur può celebrare brevemente il suo riposo del guerriero certo questo impero di Timur non a caso è un impero che non durerà lo diciamo subito perché non credo che questo equivalga a svelare la fine di un libro giallo questo impero è un po' una grande tela che si strappa continuamente che se si rammenda da un lato si rompe dall'altro a questo punto Timur ha consolidato il nord dell'impero l'equivalente all'asia centrale vera e propria però nuovamente il pericolo della rottura e dell'infrangersi del suo sogno si presenta a sud nella Persia che era stata conquistata alla fine degli anni 80 ma i governatori messi da Timur che molto spesso erano anche alcuni fra i suoi numerosi figli o nipoti non riescono a tenerla insieme nel frattempo Timur ha fatto un altro passo simbolico importante viviamo in un mondo che da grande importanza ai simboli ha cambiato le sue insegne l'insegna caratteristica e primordiale per così dire di Timur la conosciamo bene perché la conosciamo dai documenti dalle monete da molte iscrizioni c'è un emblema che ricorda un po' se si vuole tanto per darvi un'idea visto che non posso farvelo vedere traverso la voce ricorda un po' i cosiddetti mom giapponesi quei simboli quelle forme specie di logo che noi amiamo tanto perché li conosciamo dalle industrie giapponesi così eleganti oppure li conosciamo dai film giapponesi quelli con Toshiro Mifune eccetera tre cerchi erano la caratteristica dell'insegna tribale di Timur nel luglio del 1892 cambia insegna e cambiare insegna vuol dire proprio nel linguaggio del tempo vuol dire cambiare programma politico in un certo senso vuol dire cambiare anche anima se si vuole adesso usa insegne regali continua a chiamarsi con nomi modesti Khan Mir Beg però la sua insegna è diventata un drago d'argento che è l'insegna imperiale cinese usa una corona tempestata di rubini e usa anche una grande mazza scettro è un altro oggetto che diventerà familiare a tutti i comandi militari dall'esercito polacco e russo fino all'esercito cinese una specie di bastone sormontato da un globo che nel caso di Timur è una artistica preziosissima aurea testa di toro parte di nuovo siamo nel 93 all'attacco della Persia per sottometterla cade ammalato le sue condizioni di salute si fanno sempre peggiori ma continua a vivere a muoversi a combattere si fa trasportare in lettiga molto spesso attacca sotto Shiraz la Shiraz che qualche anno prima gli aveva aperto le porte apparentemente con gioia in realtà con paura attacca il nemico del momento Shamansur e lo vince addirittura in singolar tenzone buonasera Timur dopo la conquista di Shiraz si dà veramente un po' di riposo un mese di tripudio il vino di Shiraz era già famoso in tutta l'Asia nonostante si fosse in piena area musulmana questo vino di Shiraz è proprio il caso di dire che corre a fiumi in questo mese di trionfo insieme con altre forme di sregolatezze data l'età ormai le sregolatezze di Timur erano soprattutto alimentari mangiava e beveva un po' troppo fin troppo per un musulmano ma soprattutto troppo per un sessantenne del quattordicesimo secolo però non vuole e non può star fermo deve conquistare la parte l'apice di nord ovest di quella che nella sensibilità e nella realtà geografica del tempo è ancora la Persia cioè l'Iraq cioè Bagdad Bagdad è un altro dei suoi sogni e nello stesso tempo si preoccupa di Bagdad perché lì si stanno concentrando suoi nuovi avversari i quali si collegano ecco la novità si collegano per certi versi con il sultano Mamelucco del Cairo figuratevi quanto per un uomo che dominava Samarkand fosse remoto e al limite ininfluente l'Egitto però le conquiste di Tamerlano l'hanno fatto avvicinare l'hanno fatto diventare confinante anche dell'Egitto e poi ci si avvicina sempre di più non solo nuovamente all'orda d'oro perché Tokamish è stato sconfitto ma sta covando la rivincita anche se apparentemente da segni di amicizia ma ci si avvicina sempre di più alle frontiere del sultanato ottomano cioè all'Anatolia quindi si allarga i propri confini e allargando i propri confini ci si avvicina a nuovi interlocutori che potrebbero essere anche i nemici intorno al 1394 Tamerlano scatena l'offensiva contro l'attuale Iraq la sua meta è evidentemente Magdad anche lì riceve un fiero colpo nei suoi affetti perde uno dei suoi figli prediletti Omar Shaikh che cade in battaglia e qualcuno al solito anche perché intendiamoci Timur non è molto studiato agli occidentali come sapete è molto studiato invece dalla storiografia sovietica e negli ultimi tempi negli ultimi decenni questi paralleli fra Timur e Stalin a cominciare dal nome come dicevo giorni fa sono stati sempre più comuni la morte del figlio la morte di Omar Shaikh è stata immediatamente paragonata alla morte prigionia in mano ai tedeschi del figlio di Stalin che come sappiamo fu uno dei fieri colpi alla vita e anche alla stabilità un po' sentimentale spirituale del dittatore Ulubeg risarcisce la morte di Omar Shaikh insisto un attimo anche se ho poca speranza che si possano ricordare questi nomi Omar Shaikh è il figlio prediletto cade in battaglia c'è un altro figlio un personaggio molto intelligente Shah Ruk questo Shah Ruk proprio mentre il fratello cioè il figlio di Tamerlano Mar Shaikh muore ha un figlio figlio che poi si chiamerà Ulubeg e questo nipotino diventa veramente il prediletto di Timur dalla nascita del nipote Ulubeg Timur riceve veramente una sferzata di energia e di ottimismo tutti ricordano come per esempio abbia perdonato gli abitanti della città anatolica di Mardin quindi era già penetrato in Anatolia aveva già cominciato l'attacco al sultano ottomano e gli abitanti della città anatolica di Mardin gli avevano posto una resistenza feroce Timur e questo è un tratto non dirò unico ma abbastanza caratteristico stranamente non concepisce ammirazione per gli avversari che gli resistono concepisce rabbia nei confronti di chi gli resiste i cronisti successivi hanno ricordato la sua abitudine delle tre tende quando Timur arriva in vicinanza di una città avversaria nemica fa erigere una grande tenda bianca dove risiede per qualche giorno la tenda bianca significa apriteci le porte in pace e diventeremo fratelli naturalmente fratelli si ma sotto il comando suo questo va da sé dopo qualche giorno Timur cambia il colore della sua tenda fa ripiegare la tenda bianca e per qualche giorno abita sotto una tenda rossa la tenda rossa significa arrendetevi senza combattere pagherete una certa cifra in denaro sconterete la vostra ostinazione ma il can è ancora magnanimo non perdete l'occasione questo è il significato del rosso siamo a un livello di segnaletica quasi semaforiale e poi la tenda nera e la tenda nera è esattamente quello che vi immaginate voi attenzione perché Timur è un mongolo per i mongoli il color nero è semplicemente il colore che indica il punto cardinale del nord non vuol dire morte rovina tragedia insomma quello che sentiamo noi occidentali il mar nero si chiama mar nero così perché per i turchi è il mare del nord e è contrapposto proprio al mediterraneo sottostante l'anatolia che non a caso si chiama Akdeniz mar bianco nella nomenclatura geografica mongola fra l'altro per i musulmani il nero è il colore califfale il colore degli abbasidi è uno dei colori sacri dell'islam però nello stesso tempo è vera anche la simbologia funebre che ci è più familiare a noi occidentali la tenda nera vuol dire distruzione quando Timur risiede sotto una tenda nera mentre assale una città questo vuol dire che non c'è remissione non accetta più la resa e quando la città sarà presa sarà sottoposta a rovina a distruzione a saccheggio a violenza a stupro a ruberia questa è la logica alla quale purtroppo Timur resta fedele nel frattempo il can del lord adoro il nostro vecchio amico chiamiamolo così Toktemish si è ripreso e verso il 95 si fa risentire si è alleato con il gran principe di Mosca si è alleato addirittura con il re polacco lituano la Veslao Iagellone e insomma sta puntando al caucaso ha fatto capire ai suoi amici i suoi nuovi amici che questo Timur comincia a diventare pericoloso anche per l'Europa ed ecco che Timur accetta la sfida a suo solito corre a marce forzate sorprende il nemico perché comincia la marcia nell'inverno e punta verso il caucaso attraversa il caucaso alla fine dell'inverno il che vuol dire che lo attraversa in un paesaggio di neve e di ghiaccio Toktamish non se l'aspettava questo elemento di sorpresa climatica è molto caratteristico della tattica di Tamerlano e finalmente fra la costa del Caspio il fiume Terek quindi siamo nell'attuale Gorni-Carabasch più o meno l'apice settentrionale dell'Eseberjan attacca Toktamish si parla di una battaglia veramente epica quest'uomo sessantenne semisciancato monco eccetera combatte proprio personalmente veramente il caso di dirlo come un leone tanto è vero che Toktamish si convince che non c'è nulla da fare Timur è protetto da Allah Timur è il favorito di Allah non resta a Toktamish che ritirarsi naturalmente a questo punto Timur lo insegue arriva fino a Kazan quindi passa il Caucaso prende il vaccino del Volga arriva fino a Kazan giunge fino ai pressi di Kiev nel frattempo invade anche la Crimea e quindi tocca da vicino le colonie genovesi che erano comuni in quell'area distrugge chiese e monasteri è perché ora siamo in area cristiana e quindi la distruzione delle chiese e dei monasteri non ha probabilmente un valore di intolleranza religiosa ma ha il valore di un segnale Timur distrugge Timur uccide paradossalmente diciamolo con un po' di cinismo perché vuole colpire il meno possibile i territori che conquista e sa benissimo che essere duri essere violenti essere crudeli essere feroci rapidamente significa fiaccare il morale dei nemici e quindi arrivare più presto possibile alla vittoria e alla pace detto così sembra molto cinico e lo è magari me ne rendo conto ma questo è il suo modo di ragionare lo vogliamo definire umanitario non lo so comunque grande vittoria fino ad arrivare al Caucaso fino ad Astrakhan quindi fino al nord del Caucaso entra proprio in profondità nel territorio del Lord Adoro e poi però si deve fermare e deve tornare indietro perché c'è uno dei suoi avversari che per la cronaca non è importante ricordarlo ma è un principe persiano iracheno che si chiama Ahmed Gelair che era il vecchio padrone di Baghdad nel frattempo ha ripreso potere quindi vedete questa tela imperiale che si straccia continuamente Timur arriva in profondità nel territorio del Lord Adoro arriva fino al nord del Caucaso prende quasi Kiev o ci va vicino ma nel frattempo gli rioccupano Baghdad e allora bisogna correre di nuovo una guerra veramente estenuante e alla fine mentre Lemiro sta cercando di tenere la costa occidentale del Caucaso e nello stesso tempo recuperare Baghdad la notizia nuova si è mosso contro di lui anche il sultano ottomano il padrone dell'Anatolia il sultano di Anatolia che ormai si fa chiamare Padiscià Gran Re è un titolo che i sultani porteranno fino al 1918 Bayazet la folgore è il vincitore di Nicopoli quindi riprendiamo il discorso che abbiamo fatto alcuni giorni orsono è il vincitore dei crociati nei Balcani e naturalmente a questo punto però è preoccupato per quello che sta succedendo a est mentre lui stava nei Balcani a combattere contro gli europei questo strano principe mongolo che addirittura aveva il centro del suo regno vicino all'Indukush quindi lontanissimo a mesi di percorso a dorso di cammello lungo la via della seta questo oscuro principe mongolo era arrivato quasi in Turchia era arrivato in Ucraina aveva conquistato Bagdad veramente bisognava far qualcosa e a questo punto tutti quelli che hanno paura di Timur si rivolgono al sultano ottomano a Bayazet ed evidentemente al contrario tutti quelli che hanno paura di Bayazet e quindi a cominciare da noi gli europei rivolgono le loro speranze in Tamerlano Tamerlano diventa davvero la barbara speranza di Europa e a questo punto campagna occidentale vittoriosa nel 1402 lo ripetiamo affinché tutto si tenga al meglio in questa storia che me ne rendo conto è complicata ormai Tamerlano è diventato anche il dominatore di gran parte dell'Anatolia ha preso prigioniero ad Ankara nel luglio del 1402 lo stesso Bayazet che morirà in prigionia poi si parlerà di torture di privazioni ma sembra proprio di no sembra anzi che Tamerlano lo trattasse con molta umanità insomma un re non uccide un altro re come è stato detto è una frase che è entrata quasi in proverbio era proprio Bayazet che non ce la faceva più era vecchio era anche lui in cattiva salute pare che quando Tamerlano riceve il suo nemico sotto la tenda la sera della battaglia del luglio del 1402 della battaglia di Ankara e Bayazet non vuole accettare la sconfitta costringe i suoi carcerieri a legarlo perché continua a opporre resistenza anche fisicamente eccetera finché stanco alla fine si accascia e Timur gli dice e sono veramente strani i destini degli uomini ed è strana la volontà di Allah io sono vecchio sciancato tu sei vecchio e anche tu sei malmesso Dio ha posto il mondo nelle mani di due vecchi malati sono questi sprazzi di umanità anche dolorosa e qualche volta ci rendono questo personaggio terribile più vicino più umano a volte quasi simpatico in fondo non dimentichiamo che a Damasco Timur è entrato in colloquio il grande storico musulmano il più grande storico musulmano e uno dei più grandi storici in senso assoluto dell'umanità con il caldun e ci ha parlato a lungo e si sono scambiati i pareri sul destino degli uomini sul senso della vita insomma Tamerlano invecchiando e combattendo continuamente dall'impressione di pensare sempre di più alla fragilità della condizione umana buonasera giunti all'ultima settimana delle nostre fatiche tartare vorrei fare un momento di sosta prima di avviare il racconto e riprendere un po' le fila del nostro discorso praticamente noi abbiamo seguito in maniera molto tortuosa perché la storia che stiamo raccontando è obiettivamente tale abbiamo seguito dicevo le campagne militari e meno abbiamo potuto seguire le azioni politiche per ovvi motivi di un personaggio che nella seconda metà del trecento ha cercato di ricostituire l'impero di Genghis Khan e noi sappiamo anche che ha fallito ma ha fallito non senza avere raccolto straordinari risultati nel bene e nel male la ferocia etamerlana è diventata proverbiale forse addirittura per certi versi non dico superiore alla realtà ma in fondo diciamo diciamo che era in buona compagnia si è preso la fama che sarebbe aspettata non solo a lui a pieno titolo ma anche ad altri un uomo contraddittorio come abbiamo visto abbiamo parlato dei suoi affetti familiari molto profondi che lo coinvolgevano a questo proposito mi sovviene proprio adesso di aver lasciato per aria come succede a me spessissimo ma credo un po' a tutti qualche volta quando si racconta di aver lasciato dicevo per aria uno dei prediletti nipoti di Tamerlano Ulubeg del quale avevo promesso di dire qualcosa poi me ne sono dimenticato perché è importante è importante anche per l'oggi se si vuole perché Samarkand come sapete è una delle città dell'Asia fra le più gettonate attualmente dai turisti occidentali bene se vi capita di andare a Samarkand un viaggio assolutamente consigliabile vi faranno vedere a un certo punto una strana pianura piena di monumenti monumenti stranissimi che potrebbero sembrare quasi monumenti extraterrestri o architetture per certi versi postmoderne grandi scale altissime che a un certo punto finiscono nel nulla quasi straordinarie terrazze lunghi percorsi che sembrano divisi in sezioni regolari come se fossero sezioni numeriche bene lo sono c'è a Samarkand un grande monumento della cosiddetta età timuride cioè dei sultani discendenti di Timur del 4500 che è un vero e proprio osservatorio stellare un osservatorio fatto in una località abbastanza alta e fatto di monumenti che naturalmente l'osservazione del cielo non poteva avvenire se non con gli strumenti fisiologici della vista ma si cercava di mettere l'osservatore nelle condizioni migliori quando il cielo era terzo quindi ascendendo grandi scalinate e calcolando poi le ombre del sole con l'aiuto di grandi strumenti strumenti fatti in pietra ciclopici enormi si riusciva ad arrivare a calcoli astronomici come è stato dimostrato molto raffinati ecco questo nipote di Tamerlano Ulubegg è il creatore un principe umanista principe studioso principe scienziato è il creatore di questa meraviglia che è veramente uno dei monumenti più straordinari al mondo naturalmente ecco si sono fatte anche molte ipotesi un po' avveneristiche un po' azzardate su questi osservatori astronomici ma sembra proprio che servissero a funzioni tranquillamente paragonabili a quelle della ricerca scientifica attuale Ulubegg è solo un caso di questi nipoti a cui Tamerlano anche perché per quel tempo egli fu discretamente longevo l'amore l'affetto che non aveva potuto riporre nei figli perché i figli o avevano ereditato questo lato oscuro del suo carattere il lato feroce il lato quasi folle di cui abbiamo parlato oppure erano spesso morti in battaglia e allora questo affetto Timur lo riversa spesso sui nipoti se ne ricorda un altro per esempio il secondo genito di Jahangir che è Pir Muhammad che era uno dei suoi prediletti e a cui egli affida alla fine del trecento un altro compito folle fino dal tredicesimo secolo alcuni principi turcomongoli avevano fondato un sultanato musulmano nell'India settenzionale il sultanato di Delhi famoso splendido civilissimo bene Timur concepisce l'idea di conquistare anche il sultanato di Delhi col solito sistema attacco passando le montagne d'inverno appena appena quando si sciolgono le nevi attacchi di sorpresa violenza iniziale tesa a mettere in ginocchio il nemico e affiaccare la volontà di resistenza e per quella strada seguendo il nipote che lo ha già preceduto verso Delhi passa l'Afghanistan sosta a Kabul dove fa degli splendidi lavori di sistemazione idraulica perché l'architettura era non solo quella sacra delle moschee ma quella anche profana in questo caso Acquedotti è una delle sue caratteristiche questo interesse il 2 ottobre del 1398 Timur passa l'Indo su un ponte di barche si abbatte sul panjab distrugge massacra finché alla fine il signore del luogo che fra l'altro non era un musulmano era uno shivaita era un rajput era un induista quindi il signore del luogo che per la cronaca si chiama Raidul Shand lo contrasta fieramente al punto tale che Timur concepisce per lui una grande ammirazione e quando Rajidul Shand si arrende lo riempie di doni lo riempie di regali lo riempie di favori e in qualche modo gli mantiene anche un rango sia pure subordinato feudalizzato all'interno del suo impero per contro arrivato a Deli nel 1398 la distrugge e questo è un altro dei grandi delitti che gli si attribuiscono e che ancora oggi gli si rimproverano torna di nuovo in Siria nel 1401 prende Damasco non la distrugge però la saccheggia lì incontra il grande filosofo magrebino in Caldun siamo quindi a questo punto a una nuova fase delle conquiste del vincitore di Deli di Kabul di Damasco e di Baghdad è davvero il caso di dire con Alessandro Manzoni diavolo di un uomo noi lo abbiamo lasciato a Deli in India nel 1398 massacro di Deli una vergogna una macchia sulla sua coscienza e sulla sua immagine poi però torna in Siria lo troviamo a Damasco nel 1401 nuovi eccessi di ferocia e nuove manifestazioni del lato umanistico del suo carattere l'incontro amichevole e affettuoso quasi con in Caldun che avrebbe voluto incontrarlo a tanto tempo e che il Lemiro tratta con grande affabilità a questo punto però da Damasco è chiaro che Timur vuol procedere e vuol procedere verso nord ovest attacco definitivo al mondo anatolico governato dal sultano ottomano battaglia di Ankara del luglio 1402 la conosciamo bene ormai l'abbiamo ricordata più volte l'Europa tira un sospiro di sollievo è arrivato il liberatore è arrivato il salvatore che ha eliminato il grande pericolo il sultano ottomano beh forse poi gli europei hanno cominciato a ricredersi perché già dal dicembre del 1402 Tamerlano non dimostra affatto di volere salvare gli europei forse non ha mai pensato a conquistare anche l'Europa del resto c'è da chiedersi veramente che cosa potesse essere l'Europa per lui però per esempio nel dicembre del 1402 i cavalieri ospedalieri li caccia da Smirne ora Smirne è sulla costa anatolica una grande città di mare molto vicino a Roti cacciare gli ospedalieri da Smirne significa evidentemente forse anche cominciare a pensare che poi Lemiro prenderà anche la stessa isola di Roti attacca Foscea Foscea e Chio sono rispettivamente una piccola città della costa anatolica e una piccola isola molto importanti però per l'economia del tempo a Foscea si produceva l'allume importante come mordente per i colori nelle stoffe a Chio si produce il mastice uno dei principali oggetti del commercio manifatturiero del tempo tanto Foscea quanto Chio erano terre molto importanti tenute direttamente o indirettamente dai genovesi quindi insomma Timur comincia a mordere anche la cristianità se ne sono resi conto i cristiani forse non immediatamente perché si continuava a favoleggiare di questa possibile alleanza fra gli europei e il principe tartaro magari i genovesi qualche sospetto cominciavano a averlo e anche gli ospitalieri che del resto erano molto vicini ai genovesi e alleati con essi però non tutti i cristiani reagivano così per esempio Enrico III grande re di Castiglia personaggio di straordinaria sensibilità intelligenza politica sperisce fra 1402 e 1403 ben due ambasciate presso Timur la seconda ci è nota perché l'ambasciatore persona simpaticissima Rui Gonzales De Clavico ci ha lasciato un diario di questa ambasciata e voi potete anche leggerlo in italiano l'ha pubblicato molto bene qualche tempo fa l'editore Viella di Roma io vi raccomanderei proprio caldamente la lettura del viaggio a Samarcanda di Rui Gonzales De Clavico è un libro scritto in castigliano stato tradotto e studiato molto bene in Francia ed è stato anche benedito dall'editore Viella come vi dicevo poc'anzi è una lettura assolutamente affascinante innovativa per certi versi vi ricorderà forse il milione di Marco Polo perché in fondo le strade descritte da Rui Gonzales De Clavico un secolo e mezzo circa dopo Marco Polo sono più o meno le stesse ma Rui Gonzales riempie poi questo suo scritto autobiografico di osservazioni di ricordi parla delle sue malattie dei suoi problemi ci descrive come l'ambasciatore del re di Castiglia e cioè da chiedersi veramente ma cosa sapeva Timur della Castiglia però lui descrive di essere stato accolto regalmente e addirittura e questo è un particolare su cui bisogna insistere posto messo a corte di Tamerlano seduto nel luogo che abitualmente veniva occupato dall'ambasciatore dell'imperatore della Cina ambasciatore che in quell'occasione è un episodio del novembre del 1403 viene pesantemente offeso e pubblicamente offeso e allontanato da corte da Timur quindi immaginatevi la scena arriva questo nobile spagnolo che aveva i suoi traduttori i suoi interpreti ma era quanto di più remoto si poteva immaginare alla corte di Tamerlano a Samarkand Tamerlano non solo lo accoglie affabilmente lo riempie di doni eccetera ma addirittura di cibo per esempio questa è una sua caratteristica ma addirittura gli dà il posto dell'ambasciatore della Cina e caccia fisicamente l'ambasciatore dell'imperatore della Cina dal banchetto beh insomma non si può pensare a un atto di maleducazione è un atto diplomatico molto serio molto importante questo vuol dire io Khan di Transoxania denunzio la mia sudditanza feudale nei confronti dell'imperatore cinese non voglio più avere nulla a che fare con lui umilio l'ambasciatore del padrone del mondo perché noi euro mediterranei non lo capiamo non lo avvertiamo non lo sentiamo non è nelle nostre tradizioni nella nostra sensibilità ma l'imperatore della Cina era considerato in tutta l'Asia come veramente il signore e l'universo quindi un gesto carico di significato importante che ci mostra quali erano a questo punto ormai con chiarezza le intenzioni di Timur Timur vuol dichiarare guerra alla Cina il gesto in presenza di lui González de Clavico che non dà l'impressione di averlo capito fino in fondo ha questo particolare significato il che voleva dire che evidentemente Timur non aveva tutto sommato interesse semmai a muoversi dall'altra parte del mondo cioè ad assalire l'Europa e che da un certo punto di vista è senza dubbio una buona notizia e Ruiz di Clavico mostra di prenderla come tale Tamerlano Tamerlanus in latino Timur Lang nella lingua persiana che era un po' il Basic English la lingua comune di tutta l'Asia non solo nel Quattrocento già al tempo di Marco Polo Marco Polo non ha mai imparato il cinese nonostante sia stato al servizio dell'imperatore della Cina che era anche il Gran Khan Kubilai Khan al suo tempo e tantomeno Marco Polo conosceva i diomi turcomongoli Marco Polo doveva parlare discretamente il persiano ed era il persiano era la lingua comune di comunicazione di tutta l'Asia ecco sapendo un po' di persiano ci si intendeva da Damasco fino a Pechino che non era poco ora in persiano appunto Timur Lang significa Timur Lo Zoppo e non è detto che originariamente fosse un'espressione spregiativa come qualcuno ha voluto dire no era una qualifica fisiologica che lo caratterizzava non bisogna dimenticare che in generale chi ha certi segni è appunto come diciamo noi in italiano un segnato da Dio e questi segni sono sempre ambigui simbolicamente e riguardano proprio lo zoppicare il claudicare oppure l'essere cieco da un occhio non dimentichiamo che il diavolo zoppica perché è il piede di capra e il dio Votan Odino era cieco da un occhio gli orbi e gli zoppi sembrano essere particolarmente destinati a qualcosa di particolare quando Timur lo abbiamo ricordato nei giorni passati quando Timur la sera della battaglia di Ankara nel 1402 accoglie sotto la sua tenda il vinto Bayeset osserverà proprio questo che Dio ha posto il mondo in mano di un orbo e di uno sciancato e questi due termini non sono casuali è probabilmente senza dubbio che Timur era sciancato era zoppo era claudicante aveva problemi di deambulazione non so come queste cose si dovrebbero dire in Politically Correct ed è non meno vero pare che Bayeset fosse cieco da un occhio però questi due tipi di infermità hanno anche una fortissima carica di tipo simbolico e queste coincidenze per cui a volte i simboli si traducono in realtà storica o viceversa non stupiscono chi è abituato a occuparsi di storia perché li riscontriamo molto spesso a questo punto c'è da forse una domanda ma Timur che intenzioni aveva nei confronti dell'Europa e è possibile pensare a lui come a un potenziale salvatore dell'Europa perché Timur è morto nel 1405 si era affacciato al contesto europeo in Anatolia soltanto pochi anni prima 1402 1403 cosa avrebbe fatto facciamo un po' di storia col sé con il ma cosa avrebbe fatto se avesse continuato a vivere e a regnare un po' più a lungo è un grosso problema sì è un grosso problema ma d'altra parte rientra in quell'ampia gamma delle questioni che sono dette ucroni che oggi nessuno più afferma qualcuno lo afferma ancora ma con molti dubbi quello che a noi non più giovanissimi io sono dei 40 ci hanno insegnato al liceo quando i nostri professori di storia che in generale erano all'epoca parlo degli anni 50 gentiliani o crociani più raramente marxisti comunque erano egheliani e loro ci insegnavano che la storia ha una ragione immanente in qualche modo e che soprattutto non si fa non si può fare con i secoli ma la sensibilità odierna è molto diversa abbiamo attraversato esperienze molto varie nella ricerca storica e non siamo affatto più convinti che la storia non si possa non si debba scrivere anche al condizionale un grande studioso David Landess grande studioso della rivoluzione industriale eccetera giunge a dire che non solo si può ma si deve scrivere la storia al condizionale con i sé e con i ma perché soltanto ricostruendo correttamente il panorama di quello che avrebbe potuto accadere momento dietro momento nelle vicende storiche si può capire l'importanza di quell'unico possibile che volta per volta nella storia si avvera voi capite che questa immagine finisce col distruggere la nostra idea molto corrente fra noi e anche fra noi insegnanti per esempio l'idea che la storia sia una specie di linea continua magari leggermente ascendente e sostituisce quest'idea consolatoria così tranquillizzante con un'idea invece estremamente inquietante la storia come una continua biforcazione come il luogo dove si rende necessario una serie di scelte continue non è il caso di insistere su queste cose cadremo nelle teorie storiografiche più varie ci sono biblioteche intere sull'argomento riportiamo tutto questo a Timur per chiedersi semplicemente ma ci si può porre il problema è storicamente plausibile chiedersi se Timur avrebbe salvato l'Europa oppure l'avrebbe conquistata beh non possiamo dire nulla perché noi sappiamo semplicemente che dopo Ankara Timur non si è più volto all'occidente non ha mai attaccato Cipro che apparteneva a Venezia non ha mai attaccato Rodi che apparteneva ai cavalieri non ha mai attaccato la Sicilia che all'epoca era appannaggio della monarchia aragonese il suo dominio si è limitato alla penisola anatolica dove peraltro non è nemmeno entrato troppo in profondità e allora cosa possiamo dire è ben poco da questo punto di vista si può semplicemente far notare una cosa in fondo ecco la storia al condizionale ecco la storia con i ma in fondo veramente Ankara ha salvato l'Europa veramente il fatto che Timur abbia vinto e fatto prigioniero Baiazetti il vincitore di Nicopoli sei anni dopo Nicopoli ha salvato l'Europa ma viene da chiedersi in fondo se non sia più ragionevole più veridico pensare che se il sultano Baiazetti avesse veramente voluto conquistare l'Europa avrebbe agito diversamente dicendo che contrariamente a quello che parve all'opinione pubblica europea del tempo è discutibile pensare a Timur come a un salvatore dell'Europa vogliamo alludere al fatto che la battaglia di Nicopoli è del 1396 e immediatamente dopo non succede assolutamente niente Nicopoli non è un luogo nel quale si decidevano per esempio i destini di un'invasione o se l'invasione c'era era quella dei crociati nei confronti del sultanato ottomano ma non viceversa Nicopoli ha segnato una sconfitta cosciente dei crociati questo è vero ha impaurito l'Europa l'ha messa in ginocchio però dopo Nicopoli il sultano Bagiasette non si è assolutamente dato all'assalto dell'Europa ne avrebbe avuto tutto il tempo e forse ne aveva anche i mezzi però dopo Nicopoli Bagiasette si è fermato lì sei anni dopo costretto a tornare verso Oriente dalla nuova minaccia tartara che è appunto la minaccia di Tamerlano Bagiasette viene sconfitto evidentemente quando è stato sconfitto non aveva ancora dato segni dopo sei anni dalla sua vittoria contro gli europei di volersi accanire nei confronti dell'Europa quindi non è tecnicamente verosimile sostenere che Timur abbia salvato l'Europa dai turchi si può dire semmai questo con una passabile ragionevolezza che Timur con la sua vittoria di Ankara del 1402 ha dimostrato come sarebbe stato comunque molto ardo da parte del sultano turco l'intraprendere una qualsiasi campagna di invasione di offensiva nei confronti del mondo europeo proprio perché evidentemente per far questo i turchi avrebbero dovuto spostare e impegnare la maggior parte delle loro risorse militari nei confronti dell'Europa e credo che non avessero alcuna intenzione di farlo d'altra parte vi è da dire che a questo punto qualcosa di nuovo interviene Wilfredo Pareto questo grande studioso e sociologo svizzero della fine ottocento prima del novecento ha coniato come sapete la teoria generale dell'imponderabile che è esattamente quello che poi più o meno Fernand Brodel presenta a proposito dell'insorgere dell'emergenza nella lunga durata della storia i maghi di faraone nell'esodo quando si presentano davanti al loro al loro sovrano insieme a Mosè per quella specie di gara di magia e riconoscono la superiorità di Mosè e del suo dio nei confronti di loro e dei loro dei usano un'espressione Ezba Elohim il dito di Dio per qualificare la loro meraviglia davanti a un fatto inaudito qui c'è il dito di Dio ebbene probabilmente con Timur abbiamo avuto a un certo punto l'intervento diretto del dito di Dio vedremo come dopo il 1402 dopo la vittoria la grande vittoria di Ankara Timurda ha tutta l'impressione di volersi stabilizzare cacciare gli ospedalieri da Smirne cacciare i genovesi da Focea da Chio non voleva certo dire manifestare il proposito di attaccare la compagine europea la compagine europea si sarebbe ben guardata da farsi attaccare da raccogliere una provocazione così leggera in fondo nessuno avrebbe impiegato soldi e soldati per restituire Smirne ai veneziani oppure Chio Focea ai genovesi non è questo il punto il punto è semmai un altro è che cosa Timur fa nei due anni che passano dalla sistemazione delle conquiste anatoliche fino alla morte nel gennaio o nell'inverno comunque del 1405 niente o meglio siamo relativamente poco informati di questa stagione che era piuttosto tarda nella vita del conquistatore Timur va su oltre 70 anni e tutto quello che probabilmente ha fatto nei tre anni che separano il suo ritorno dalla Turchia attuale dall'Anatolia alla sua morte sulla strada della Cina sono stati dedicati direi quasi esclusivamente a riorganizzare la compagine dei suoi territori il suo regno sono stati dedicati soprattutto alle opere pubbliche moltissime e anche alle opere se si vuole giuridiche organizzare la giustizia riorganizzare le leggi in questi due anni guardate che due anni possono essere anche molto lunghi a riguardo Lemiro altro non ha fatto se non darsi finalmente forse l'età in qualche modo si faceva sentire all'ordinaria di amministrazione dopodiché nuovo colpo di testa estremo colpo di testa siamo nel pieno inverno del 1405 nel gennaio e Timur decide di nuovo di mettersi in marcia e questa volta si mette in marcia addirittura verso la Cina è una decisione straordinaria epocale è il punto d'arrivo di quella mossa inaugurata in quella sera del 1403 quando Lemiro aveva cacciato dalla sua presenza l'ambasciatore cinese e aveva messo al suo posto aveva insediato l'ambasciatore di questo piccolo oscuro re occidentale come senza dubbio visto da Samarkand poteva essere il re di Castiglia Timur ha fatto una scelta precisa e questa scelta è denunziare lo stato di feudalità dei mongoli nei confronti dei cinesi e attaccare ferocemente con grande determinazione l'impero cinese alla fine del 1404 è ormai evidente che Timur sta preparando la campagna risolutiva la campagna della sua vita del resto l'uomo è ormai settantenne molto provato si può pensare che pensasse a quella occasione come all'occasione estrema anche della sua esistenza si era già fatto costruire il suo mausoleo il guramir che anche oggi si visita a Samarkand con quella famosa iscrizione che per la verità oggi non c'è più ma oggi c'è ancora l'iscrizione che racconta un po' i fasti di questo discendente vero sedicente che sia di Genghis Khan ma le cronache riportano che la prima iscrizione sulla tomba di Timur fosse lascia il mondo prima che il mondo lasci te il che farebbe pensare un po' in un certo senso a un uomo che sceglie alla fine dell'esistenza la strada di cincinnato dell'imperatore diocleziano si rifiuta cioè di vivere il potere fino in fondo e si riserva gli ultimi anni dell'esistenza saggiamente a pensare alla propria vita al proprio passato ai propri affetti anche alla cerchia proprio delle persone più care e invece no Timur che ha sempre recitato nemmeno in mala fede credo la parte del guerriero assetato d'affetto che si è sempre manifestato come disperato quando a un familiare accadeva qualcosa e purtroppo molte volte nella sua esistenza ha dovuto seppellire figli o nipoti quelli più cari fra l'altro beh tuttavia non sembra veramente rassegnato ad uscire di scena da questo mondo in punta di piedi sarà vero che ha fatto scrivere sulla sua tomba lascia il mondo prima che il mondo lasci te ma è non meno vero che ormai davvero vecchio provato nell'inverno del 1405 parte in lettiga perché non ce la faceva stare sul cavallo sul cammello parte all'assalto della Cina e ovviamente ci muore anche qui si potrebbe fare un'analogia più o meno della stessa età però più di due secoli prima una cosa di questo genere l'aveva fatta un personaggio che doveva avere una tempra una fibra fisica non diversa dalla sua Federico I Barbarossa che nel 1189 parte ormai settantenne forse più che settantenne se l'è fatta tutta a cavallo dalla Germania fino all'Anatolia fin quasi alle porte della Siria e muore nel fiume Salef annegato nel fiume Salef come di solito si dice molto probabilmente possono essere state le conseguenze di un bagno incautamente preso in acqua troppo fredda di un arresto cardiaco quindi oppure di una caduta a cavallo mentre stava guadando il fiume comunque muore alla per il tempo decisamente venerabile età di 70 anni e conducendo un'avventura che sottintendeva un grosso sforzo fisico sappiamo che Tamerlano al confronto stava peggio era decisamente messo molto peggio poteva soltanto muoversi in lettiga ma questo evidentemente non lo ha dissuaso e muore così muore fra Indukush e Himalaya nel gennaio del 1405 non sappiamo bene in quale luogo anche se ci sono molti luoghi che si disputano l'onore di averlo visto nei suoi ultimi istanti Timur lascia una straordinaria eredità i successori di Tamerlano si segnalano per doti di mecenatismo di cultura non sono forse dei grandi conquistatori salvo uno ne parleremo fra un attimo ma sono senza dubbio degli uomini di cultura e degli uomini profondamente abituati a muoversi nelle difficoltà e nelle trappole della vita diplomatica ma il regno principato di Timur non regge del resto in fondo per dire la verità questo principato di Timur in fondo non c'era mai stato Timur si muoveva di continuo e la sua potere consisteva nel tenere assoggettata a una costellazione di principi costellazione che mutava di continuo fra quelli che morivano quelli che cadevano in disgrazia quelli che passavano agli avversari eccetera eccetera e quindi anche parlare di una frammentarsi o di un esplodere come è stato fatto dell'emirato di Timur in una quantità di emirati o di canati se si vuole usare il termine turcomongolo ma è largamente inesatto largamente impreciso diciamo questo che in fondo il tessuto colloidale quello che veramente teneva in piedi l'impero di Tamerlano era Tamerlano stesso mai impero è stato più personale e quindi in fondo anche il suo frammentarsi non è poi così drammatico è ovvio che venendo a mancare il pivò il pilone nello stesso tempo il tessuto colloidale perché lui era tutto questo il resto viene da sé e allora intanto frammentarsi degli emirati nelle mani degli immediati successori dei nipoti tra Uzbekistan Kazakhstan Turkmenistan si stabiliscono tre canati tutti diversi uno con capitale Samarkand uno con capitale Bukhara e uno con capitale Herat quello più a sud Herat è fra l'Iran e l'Afghanistan in Persia invece i turcomongoli preferiti nell'amministrazione di Tamerlano non ce la fanno riemerge una dinastia d'origine turca ma che non aveva avuto nulla molto a che fare con Tamerlano ed è una dinastia che era stata semmai favorita dai precedenti signori dell'Iran cioè dai mongoli di Ghegis Khan dai fondatori del cosiddetto Ilkanato cioè Ilkanato va scritto tutta una parola non è un articolo Ilkanato cioè Ilkanato territoriale e durante questo periodo di governo Ghegis Khanide a cui aveva fatto seguito la conquista cruenta di Tamerlano c'era stato il fiorire di una serie di principati fra cui uno era tenuto dalla dinastia d'origine turca dei Safavidi che è una dinastia interessante perché è di religione musulmana evidentemente ma di confessione sciita quindi questa dinastia d'origine turca che nel corso del 4500 si sostituisce a Tamerlano che era sunnita e si afferma in Persia e poi fa iniziare la grande avventura dello sciismo persiano è la dinastia dei Safavidi da allora in poi l'Iran sarà guadagnato alla scia naturalmente bisogna intendersi siccome gli argomenti sono per ovvi motivi basta guardarsi intorno di attualità e gli sciiti in Iran sono sempre stati molto forti come erano forti nell'ovest del paese iraniano che è l'est dell'Iraq attuale come erano forti e sono forti lungo il litorale del Golfo Persico di solito lo sciismo non è la versione dell'Islam che prende il potere ma anche per certi connotati del mondo sciita che è un pochino più refrattario forse all'uso del potere però ci sono stati nella storia momenti in cui lo sciismo iraniano lo sciismo persiano ha significato cose di straordinaria importanza per esempio fra undicesimo e tredicesimo secolo si sviluppa proprio con centro in Iran in Persia il gruppo ereticale degli sciiti settimimani cioè gli sciiti che attendono il ritorno dell'imam velato e che considerano che la dinastia degli imam discendenti dal profeta Ali cugino e genero di maometto si sia fermata a sette imam e l'ultimo è ancora velato e si svelerà il giorno del giudizio mentre viceversa lo sciismo che poi si affermerà e che ancora oggi è quello più affermato in Iran è lo sciismo duodecimi mano cioè quello che considera come legittima una linea non di sette imam successori di Ali ma addirittura di dodici imam noi conosciamo bene sta per dire insomma conosciamo abbiamo una certa familiarità con lo sciismo duodecimano perché è lo sciismo che oggi domina in Iran non abbiamo più familiarità con lo sciismo settimimano cioè quello che conosce una linea di derivazione legittima di sette imam dopo il profeta Ali perché questo gruppo molto minoritario si è andato sempre più collegando a teorie di carattere esoterico iniziatico collegate evidentemente col platonismo ma anche con certe correnti dell'escatologia musulmana ed è il gruppo che ancora oggi sopravvive ne è capo spirituale il principe Karim Khan il figlio dell'Aga Khan questo gruppo sopravvive fondamentalmente nell'India del nord ovest a Delhi e sopravvive poi soprattutto nella cosiddetta valle dell'Umsa in Pakistan che è una l'Umsa è un affluente di destra dell'Indo la valle dell'Umsa è notissima a noi occidentali perché nella filmologia del primo novecento ha fatto grande furore il film dedicato alla terra dove non si invecchia Shangri-La e Shangri-La è appunto identificata con la valle dell'Umsa oggi i seguaci dell'Aga Khan sono pochi riuniti in quell'area ma sono gli ultimi di una linea estremamente importante che è la linea dei cosiddetti assassini il termine assassino viene da shish significa consumatore di hashish non si sa bene in che forma sotto forma di decotto sotto forma di tabacco da fumo cose di questo genere ma noi sappiamo che fra perché ne parla anche Marco Polo che fra undicesimo e tredicesimo secolo si sviluppa questa setta di musulmani sciiti il cui fondatore si chiama Asani Sabah noto filosofo che era stato anche amico di infanzia del poeta persiano per eccellenza prima di Hafez che è Omar Khayyam naturalmente Asani Sabah crea una sorta di credo religioso a carattere iniziatico a carattere esoterico e si fa denominare Shaikal Jabal Veglio della Montagna il vecchio della montagna e monasteri fortezza degli assassini gli uomini del Veglio della Montagna che fra loro si chiamavano soltanto filai uomini uomini del sacrificio per la religione e questa setta degli assassini governa tutta un'area montuosa fra il centro dell'Iran fino alle montagne del Libano fra XII e XIII secolo alla fine vengono cancellati da un attacco sistematico da parte dei Mongoli questi sciiti settimimani non vanno confusi naturalmente con i 12 mimani che sono gli sciiti maggioritari in quanto tali e che oggi sono presenti in Iran i safavidi turchi che hanno importato in Iran lo sciismo 12 mimano non sono però discendenti di Tamerlano i discendenti di Tamerlano che erano riusciti a sistemarsi a Samarkand a Bukhara ad Erat nel corso del IV o del Cinquecento vengono tutti eliminati hanno lasciato un forte segno soprattutto nel mondo artistico e ancora oggi si parla di una dinastia timuride e di un'arte timuride timuride evidentemente deriva da Timur quindi i discendenti di Timur però non tutti i discendenti di Timur hanno questo destino di essere grandi intellettuali grandi mecenati però non più grandi conquistatori c'è perlomeno perlomeno un'eccezione e questa eccezione è data da Babur o Babar secondo le pronunzie che è un personaggio che da parte di padre era un discendente di Timur e da parte di madre invece era un discendente di Genghis Khan diretto quindi siamo nell'ambito della tradizione principesca tartara più illustre Babur ai primi del Cinquecento organizza intorno a Delhi ricorderete che Delhi è una delle città che era stata presa e addirittura distrutta da Timur dicevo che Babur organizza intorno a Delhi un sultanato e una dominazione che poi resterà viva fino all'Ottocento ed è la dominazione di quelli che noi chiamiamo i Gran Mogul o Gran Mogol Mogol che è appunto lo stesso termine da cui deriva il nostro italiano Mongolo come ci è stata tramandata la memoria di Tamerlano prima di dire anzitutto che Timur dispone di una cancelleria di evidente origine turco-mongola e forse anche esemplificata sulle cancellerie cinesi una cancelleria complessa costituita da teologi giuristi segretari in generale si trattava di gente persiana c'erano anche degli ebrei e dei cristiani se non erano persiani e quindi potevano essere principalmente mongoli erano comunque iranofoni diciamo così cioè parlavano persiano e questi funzionari erano incaricati di registrare a turno gli atti e i discorsi del principe e di prendere nota di tutto quanto accadesse nell'impero e ripeterlo in modo esatto poi c'erano anche scrittori che erano incaricati di tradurre il tutto in termini letterariamente eleganti quindi praticamente la cancelleria di Timur si organizza in questo modo che vuol rispondere e alle esigenze di completezza di informazione e alle esigenze di correttezza ed efficacia di stile praticamente ci sono due sezioni ben distinte di funzionario quelli che raccolgono le notizie le rielaborano le controllano le danno diciamo così già digerite all'altro settore all'altro ufficio e poi invece il settore ufficio diciamo così stilistico che sa bene che una notizia un'informazione un documento è tanto più valido tanto più autorevole nella realtà quanto più è fruibile e quanto meno è difficile naturalmente ci sono stati momenti particolari come il grande incontro tra lo storico scrittore magrebino Imqaldun e Timur nel 1401 a Damasco non abbiamo notizia di questo incontro da nessuna fonte timuride mentre invece è proprio Imqaldun che ce ne lascia una memoria estremamente affascinante e è il caso di dirlo affascinata Imqaldun ne scrisse di questo incontro nella sua autobiografia e ne scrisse anche diffusamente però quella parte del manoscritto il manoscritto della bibliografia di Imqaldun come sapete è enorme restò a lungo inedito finché nel 1952 un grande semitista della USLA la University of California Los Angeles Walter Fischer ne pubblicò la traduzione in inglese e sulla base di due manoscritti complementari arabi naturalmente voglio dire arabi nel senso di scritti in arabo che erano tutti e due conservati nella biblioteca di corte di Istanbul al Toccapè quindi questa è l'avventura filologica della memoria tamerlaniana di Imqaldun poi ci sono gli scritti propri di Tamerlano non possiamo dire che li abbia scritti lui ma li ha dettati lui e sono due testi il Tazukat cioè le istituzioni e il Malsufat cioè le memorie che noi possediamo entrambi in traduzione persiana il manoscritto è stato trovato nella biblioteca di Jaffer Pasha che fu governatore dello Yemen per conto del sultano di Istanbul nel 1610 a questo punto noi sappiamo tutto no ma essenziale se volete sappiamo cioè quali sono gli scritti non possiamo dire di pugno perché il personaggio non scriveva personalmente direttamente ma quali sono gli scritti autobiografici di Tamerlano le istituzioni e le memorie cioè in fondo si tratta di scritti che si potrebbero appunto lo abbiamo già detto nei giorni scorsi paragonare con quelli del Re Sole perché sono scritti fatti per gli eredi dove si si narra senza dubbio vicende della vita del sovrano si parla della famiglia si parla delle malattie delle feste di tante cose si danno informazioni su dati di governo ma sono più o meno un po' come le istituzioni di Carlo Magno o di Luigi XIV una sorta di testamento spirituale poi c'è la cancelleria di Timur che naturalmente non ci riesce a ricostruire per intero non la faremo mai sarà impossibile però ce ne restano brandelli quella in vari archivi c'è l'episodio particolare di Imqal Dun che è particolarmente significativo e particolarmente messo a luce proprio perché si tratta del grande Imqal Dun e infine naturalmente ci sono anche delle modeste fonti occidentali per esempio il primo a far pervenire notizie sicure in occidente di Tamerlano fu un frate domenicano divenuto nel 1398 arcivescovo di Sultanie in Persia egli si trasferì per lungo tempo a Samarcanda riuscì a ottenere la fiducia di Tamerlano al punto che dopo la battaglia di Ankara Tamerlano spedì questo frate domenicano in l'arcivescovo di Sultanie l'arcivescovo Giovanni lo spedì in Europa per esempio in Francia con una lettera di Carlo VI e pare con l'intenzione di stabilire rapporti amichevoli diplomatici ma anche forse soprattutto commerciali con l'occidente da lì a poco poi avrebbero cominciato ad arrivare ambascerie a cui come sappiamo qualche occidentale rispose c'è la grande ambasceria spedita nel 1402 1403 da Enrico III di Castiglia a Tamerlano stesso che è l'ambasceria portata avanti da Rui del Castiglio non ci sono quindi grandi fonti evidentemente però c'è quanto basta per capire che l'opera la figura la personalità di Camerlano è stata seguita e apprezzata in occidente appunto perché l'idea se volete il pregiudizio secondo la quale i mongoli avrebbero potuto essere un interessante e salutare controaltare i turchi era un'idea destinata a rimanere a lungo nella memoria occidentale almeno nella misura in cui permaneva il pericolo turco e noi sappiamo tutti che i turchi sono restati per occidente un pericolo almeno fino alla pace di Utrecht dell'inizio del settecento come si è elaborata in occidente la memoria di queste pezze d'appoggio storiche di queste fonti ma in maniera qualche volta anche abbastanza controversa e se si vuole avventurosa per esempio vi faccio soltanto un esempio perché il discorso potrebbe sembrare un po' noiosamente didascalico erudito ma il memoriale redatto da Giovanni dal Domenicano fra Giovanni vescovo di Sultania a lungo rimase nella biblioteca nazionale di Parigi come c'era arrivato ma è molto semplice il Domenicano che pare fosse di origine italiana fra l'altro ma che comunque era molto francesizzato il Domenicano vescovo di Sultania in Persia viene mandato da Tamerlano a assaggiare il terreno si incontra con Carlo VI scrive un memoriale ed è normale che questo memoriale lo lasci poi ai suoi ospiti francesi quindi il documento è entrato a far parte delle dotazioni documentarie reali e come non dirò la totalità ma la maggioranza di questi documenti è finito nella biblioteca royale la biblioteca royale con Napoleone è diventata biblioteca imperiale e poi biblioteca nazionale e questo spiega perché questi frammenti li troviamo lì in nazionale a Parigi dalla nazionale di Parigi l'ha estratto non fisicamente naturalmente il manoscritto infatti è ancora lì ma è stato edito nel 1894 nella biblioteca delle corde chart quindi praticamente noi abbiamo una tradizione di studi da questo punto di vista filologicamente molto sicura e ben sorvegliata ben appoggiata dal punto di vista del metodo d'altra parte ci dovevano essere anche altre fonti per studiare Tamerlano dal punto di vista dei lavori storici vedremo poi successivamente magari domani che poi c'è una tradizione letteraria della quale parleremo a parte però c'era una quantità di crona che evidentemente venivano usate per ricostruire la storia di Tamerlano e noi grossomodo le conosciamo per esempio per il tramite Domenicano doveva essere arrivata a Parigi anche una cronaca armena la cronaca di quello che noi chiamiamo Tommaso di Medzov Tommaso di Medzov è probabilmente un monaco armeno quindi un monaco monofisita armeno che parla proprio della storia abbreviata dei sovrani dell'Occidente e voi sapete che gli armeni hanno praticamente questo ruolo di grandi tramiti dall'Occidente in Oriente e dall'Oriente in Occidente e gli armeni riescono a comporre documenti che vogliono passare dal mondo greco bizantino al mondo turco evidentemente traducendo dal greco al turco e viceversa dal turco in greco pur restando loro personalmente estranei ad entrambe le tradizioni l'opera l'opera Tommaso di Mersov è rimasta molto a lungo a sua volta nascosta nelle carte della Biblioteca Nazionale pensate per esempio ai documenti armeni relativi alle crociate in cui ci potrebbe essere entrata anche questa cronaca di Tommaso i documenti relativi alle crociate sono stati sistemati tutti per lo meno gran parte quelli più importanti con edizione originale e traduzione a fronte nel grande rechei des historiens de Coisade che l'imperatore Napoleone III in pieno ottocento volle organizzare per l'Académie Française des lettres sciences d'art perché gli sembrava che una grande epopea così caratteristicamente francese e cristiana avesse necessità di essere pubblicata degnamente e in modo moderno e con criteri nuovi e infatti noi abbiamo questa raccolta di fonti a stampa assolutamente enorme monumentale vari volumi tutti grandi grande formato in folio stampati in modo mirabile estremamente elegante con bei caratteri nicidi del secondo ottocento pubblicate queste opere a cura e con introduzioni dei migliori studiosi del tempo e naturalmente quest'opera è estremamente importante per tutto lo studio della storia delle crociate ma non vi figurano le cronache armene su Tamerlano mentre invece esse sono presenti addirittura il libro di Tommaso e Mersdorf è tradotto specialisticamente da quando nel 1860 a Bruxelles François Neve le trascrisse con un titolo molto elaborato storia modificata e abbreviata dei sovrani dell'Oriente eccetera eccetera ma soltanto nel 1860 quest'opera poi è entrata a far parte delle fonti medievistiche riconosciute e in particolare di fonti che sono legate al mondo di Bruxelles e dell'Accademia Reale del Belgio perché appunto a Bruxelles furono riconosciuti furono ritrovati alcuni di questi manoscritti possiamo ricordare a riguardo che un'opera importantissima del 1922 1923 dedicata ai saccheggi di Timurleng in Armenia fu scritta fu redatta da François Tornebis per la Revue de l'Orient Chrétien del 1922 23 ora la domanda che ci potremmo porre è perché tanto rilievo dato alla storia armena beh il problema è rovesciabile sono in realtà alle fonti armeniche sono molto attente a Timur alla storia di Tamerlano ma al tempo stesso non sfuggirà a nessuno che la Revue de l'Orient Chrétien nel 1922 pubblicava qualche cosa sulla storia armena che non era esattamente nemmeno in Francia la più nota al mondo perché questo evidentemente il contraccolpo della scoperta del genocidio armeno da parte del mondo turco aveva portato sul proscenio tutto quello che riguardava la storia dell'Armenia buonasera ci sono delle opere abbiamo parlato ieri a lungo fin troppo a lungo almeno per i non medievisti delle fonti delle pubblicazioni delle edizioni delle fonti e via discorrendo probabilmente un discorso che potrà sembrare anche un po' arido anche un po' noioso ma sono problemi che vanno posti quando si vuol fare seriamente storia insomma e sapere da dove noi prendiamo le notizie che poi riferiamo divulghiamo sotto forma di iscritti o sotto forma di conversazioni come questa mia ci sono alcuni iscritti che sarebbero per la verità a metà strada e io esito a presentarli sto pensando soprattutto a due esito a presentarli come opere veramente di storia perché sono profondamente rielaborate o rimaneggiate esito però anche a presentarle come opera che so io letteraria o fantastica e allora forse vilmente la miglior cosa da fare è lasciare queste opere in ultimo e presentarle quando arriverà tra non molto il momento di tirare un po' le somme e tutto quello che abbiamo detto e di fare un brevissimo discorso conclusivo nel frattempo dobbiamo dire che mentre noi seguivamo abbastanza attentamente quanto le possibilità di una conversazione di questo tipo concedano le avventure diciamo della tradizione della memoria di Tamerlano nelle fonti storiche nel frattempo però noi trascuravamo e bisognerà tornarci adesso per completare il discorso un altro fatto che cioè Tamerlano ha avuto una straordinarissima fortuna nel campo letterario e d'altra parte dire questo espone un pochino a un minimo di imbarazzo perché la fortuna letteraria a sua volta si è appoggiata a lavori di storia il cronista o lo storico che hanno raccolto certe cose hanno qualche volta lavorato anche con un gusto e con originalità letteraria con genialità letteraria in qualche caso è difficile naturalmente distinguere sistemare in compartimenti stagno la letteratura della storia dire quando finisce la prima e quando comincia la seconda lo faremo lo abbiamo fatto continueremo a farlo ma deve essere chiaro che è puramente un motivo di ordine della materia da trattare di comodità da parte di chi tale materia tratta e allora parliamo un attimo un istante del Timur eroe letterario e qui veramente il discorso diventa impegnativo e di straordinario fascino perché proprio contemporaneo a Timur e non c'è stato soltanto in Kaldun guarda caso il più grande storico dell'Islam è contemporaneo al grande conquistatore è un caso è una geometria della storia la storia è retta da una razionalità c'è una razionalità interna di tipo immanente ce n'è una addirittura di tipo trascendente che domina queste cose non lo sappiamo non lo possiamo dire sta di fatto che in effetti Timur non è coevo soltanto del grande cronista in Kaldun ma è anche coevo di uno dei grandi poeti della Persia medievale Hafès i poeti del mondo persiano o arabo persiano che di solito erano persiani che poetavano in arabo e che pensavano in persiano ma per i quali l'arabo era la lingua classica oltre che la lingua della fede la lingua del corano beh insomma di questi poeti di scrittori bisogna ricordarne almeno qualcuno perché si tratta di personaggi troppo importanti anzitutto precedentemente ad Hafès vanno ricordati almeno il grande Firdusi lo scrittore di romanzi romanzi sugli antichi sovrani masdei quindi pre-islamici della Persia che poi sono diventati gli eroi nazionali Shapur Kusrav Kusrav cioè Kostroe come diciamo noi Sapore o Kostroe e questo libro lo conoscete tutti almeno per lo sentite nominare è lo Shaname cioè il libro letteralmente il libro degli imperatori ed è stato scritto da questo grande autore di romanzi persiani che un nostro illustre filologo Antonino Pagliaro non ha avuto esitazioni a mettere in rapporto qualitativo voglio dire con figure base della grande tradizione dei romanzi medievali insomma Firdusi è il Chrétien de Troyes dei persiani del medioevo o se preferite Chrétien de Troyes è il Firdusi del medioevo medievale e del medioevo occidentale non c'è soltanto Firdusi c'è almeno da ricordare le Rubaiyat Rubaiyat è un termine che viene dall'arabo Arba che significa quattro Rubaiyat sono quindi delle quartine le Rubaiyat che esaltano il vino l'amore fisico cioè tutte cose che dovremmo pensare piuttosto guardate con sospetto nel mondo musulmano e queste Rubaiyat molto belle queste quartine sono opera di Omar Khayyam forse il più grande poeta insieme a quello che stiamo per ricordare adesso che l'Iran medievale arabofono dal punto di vista letterario ha mai avuto Omar Khayyam fra l'altro era appunto lo abbiamo già accennato addirittura amico del fondatore della setta degli assassini di Abba Hassani Sabba eccetera quindi siamo nel cuore un po' della grande cultura iraniana alla quale appartiene alla fine del 300 a Fess a Fess questo straordinario genio quest'uomo continuamente innamorato e continuamente squattrinato questo grande cantore dei sentimenti estremamente intimista che però nello stesso tempo ha toni così alti così forti che viene preso anche come modello e lo vedremo meglio nel nostro 700 addirittura dal Goethe ma prima di arrivare a Goethe un pochino ce ne corre bisogna un po' lavorare perché bisogna ricordarsi che il genio la personalità di Timur hanno affascinato personaggi già del suo tempo e del tempo immediatamente successivo per esempio Timur diventa l'eroe del modo spregiudicato di far politica quasi post-machiavellico se si vuole negli scritti di un personaggio come Paolo Giovio che gli dedica appunto un'opera con Paolo Giovio siamo nel 1548 Paolo Giovio ha scritto una raccolta di elogia abbiamo un elogio di Timur questo elogio di Timur che poi si era ripreso anche dalla critica letteraria non so Giuseppe Barretti per esempio che scrisse proprio una tenda rossa che poi era un panflet di polemica letteraria contro i suoi detrattori stilistici e lui l'aveva chiamato la tenda rossa ricordandosi di aver letto di questa immagine così paurosa così intimidatoria con cui Timur faceva paura alle città che gli andava assediando erigendo davanti a esse appunto la tenda che significava che se non c'era una resa immediata vi sarebbe stato un massacro irremissibile l'espiratore di questa idea del Barretti è appunto Paolo Giovio che aveva scritto un elogio che si può chiamare si può definire forse non azzarderei i giudizi troppo affrettati e schematici ma un pochino un elogio scritto in un tono un po' machiavellico questo c'è sicuramente si loda la prudenza la crudeltà quando non è fine a se stessa cioè quasi mai perché mai forse perché Timur non fu un crudele per ragioni fine a se stesse ma non fece mai nulla che non avesse un'immediata spiegazione e un'immediata ragion d'essere e poi naturalmente quando Giovio scrive almeno in Spagna era famosa l'opera diaristica del clavico dell'ambasciatore Ruide Clavico l'ambasciatore di Enrico III a Tamerlano nel 1403 in Italia quindi linea Giovio e in Spagna linea Clavico Timur diventa veramente straordinariamente famoso ne scrivono Pietro Perondino Argote De Molina Abramo Ortelio quindi siamo davanti a una tradizione molto forte molto strettamente collegata all'idea umanistica rinascimentale del principe che è come l'ha chiamato il Machiavelli volpe e leone al tempo stesso con una connotazione però che sottolinea sempre di più la tragicità quasi l'ineluttabilità degli eventi di cui Tamerlano è il regista quasi Tamerlano non fosse un uomo ma forse una forza disincarnata il martello di Dio la volontà che Dio ha di punire e di distruggere è una visione cupa per certi aspetti fatale proprio nel senso etimologico e termine per altri però anche luciferina e infatti non bisogna meravigliarsi se tale visione è ripresa proprio e siamo in età scespiriana tardo rinascimentale dal grande non dirò concorrente e nemmeno affine ma comunque il grande coprotagonista con lo scespier della letteratura tragica del rinascimento inglese Christopher Marlowe Christopher Marlowe scrive una tragedia il Tamburlain the Great e il Tamburlain the Great Tamerlano il grande diventa il modello il monumento a Tamerlano è un pochino come il dottor Faust Tamerlano inteso come feroce irremissibile quasi diabolico capo di guerra da un lato inteso anche come però sovrano universale dove dalla sua parte non sta il diritto ma sta piuttosto la forza e la genialità Tamerlano come segno del destino Tamerlano come protagonista di quello che oggi noi chiameremmo un destino manifesto ebbene se si parla di Tamerlano e di Marlowe e si ricorda la tragedia Tamburlain the Great immediatamente viene alla memoria ovviamente che Christopher Marlowe ha scritto anche una tragedia su Dottor Faust beh le due cose non hanno rapporto fra loro naturalmente salvo forse una certa visione di Tamerlano come uomo disposto a trattare con le potenze oscure pur di avere il potere questo appartiene più all'immaginario rinascimentale inglese che alla realtà delle cose naturalmente però questo parallelismo Tamerlano Faust tra l'uomo che ha voluto la potenza del mondo a tutti i costi e l'uomo che avrebbe voluto addirittura fermare il tempo questo parallelismo probabilmente c'è perché non c'è dubbio che Christopher Marlowe ha attinto a piene mani all'elogio di Paolo Giovio e quindi si stabilisce una linea che potrebbe anche arrivare a Machiavelli però questo riguarda Christopher Marlowe come punto d'arrivo il quale Marlowe a sua volta è un punto di partenza ed è un punto di partenza fra 7 e 800 niente meno che di Johann Wolfgang Goethe Goethe si occupa di Tamerlano Goethe si è occupato come sapete di Faust e ha attinto senza dubbio anche agli scritti di Marlowe a riguardo si è ispirato a Marlowe d'altra parte si incontra con la figura di Tamerlano e ci affida la sua immagine di Tamerlano niente di meno che in uno dei suoi capolavori massimi nel divano orientale e occidentale che come sapete è il libro che per eccellenza fonda i concetti moderni di Oriente e di Occidente e li porta forse a livello di definizione di lucidità di definizione fino al tramonto dell'Occidente di Spengler Goethe dedica pochi versi molto belli a Tamerlano c'è un dialogo serrato tra Tamerlano e l'inverno perché l'inverno uccide ferma Tamerlano Tamerlano è l'inarrestabile l'irrefrenabile conquistatore che alla fine viene fermato non tanto dalla natura quanto piuttosto da una volontà una volontà divina volontà del fato una volontà che comunque è più forte di lui e Tamerlano viene fisicamente ucciso in una specie di duello sovrumano dal generale inverno su queste gelide note avremmo potuto parlare e dovuto parlare tante altre cose per esempio della storia di Timur di von Hammer del Tamerlano di Lamartin della Martine eccetera ma su queste gelide note ghettiane possiamo forse arrestare la nostra cavalcata attraverso Tamerlano e il suo mito un mito che appunto Lamartin nel 1865 ha inserito nella sua collezione dei grandi uomini dell'Oriente le grand'homme dell'Orient arrivederci e vi ringrazio per la vostra fedele attenzione in questa settimana a l'Orient e Grazie a tutti.